parte terza il segreto dell'isola capitolo 1 da due anni e mezzo i naufraghi del pallone erano stati gettati sull'isola di lincoln e nessuna comunicazione era stata ancora possibile fra essi e i loro simili una volta il giornalista aveva tentato di mettersi in contatto con il mondo abitato affidando ad un uccello uno scritto rivelante il segreto della loro situazione ma si trattava di una probabilità sulla quale era impossibile fare un serio assegnamento solo a hilton nelle note circostanze era venuto ad aggiungersi ai membri della piccola colonia e ora ecco che quel giorno il 17 ottobre altri uomini apparivano inopinatamente in vista dell'isola su quel mare costantemente deserto nessun dubbio era possibile laggiù vero una nave ma sarebbe passata a largo o avrebbe approdato da lì a poche ore evidentemente i coloni avrebbero saputo che partito a pigliarsi saru smith e harbert avevano subito chiamato gideon spilett pencroff e nab nel salone di granite house e li avevano informati di quanto accadeva pencroff afferrando il cannocchiale percorse rapidamente l'orizzonte e fermandosi sul punto che aveva prodotto l'impercettibile macchia sulla negativa fotografica per mille diavoli è proprio una nave disse con voce che non esprimeva un'eccessiva soddisfazione viene verso di noi domandò gideon spilett non è ancora possibile precisare nulla rispose pencroff perché solo la sua alberatura è visibile sull'orizzonte e non si scorge nessuna parte dello scafo che bisogna fare domandò il ragazzo aspettare rispose cyrus smith e per non breve spazio di tempo i coloni rimasero silenziosi in preda a tutti i pensieri a tutte le emozioni a tutti i timori e a tutte le speranze che poteva far nascere in loro quell'avvenimento il più grave che fosse accaduto dal loro arrivo all'isola di lincoln i coloni certo non erano nella situazione di naufraghi abbandonati su di uno sterile isolotto che disputano la loro miserabile esistenza a una natura maligna e sono incessantemente divorati dal bisogno di rivedere le terre abitate pencroff e nab soprattutto che si sentivano felici e ricchi a un tempo non avrebbero lasciato l'isola senza rammarico dal resto erano fatti apposta per quella vita nuova in quella terra che la loro intelligenza aveva per così dire incivilito ma insomma quella nave era in ogni caso apportatrice di notizie del continente era forse un lembo di patria che veniva loro incontro essa portava degli esseri simili a loro e si comprende che loro cuori avessero vivamente trasalito alla sua vista di tanto in tanto pencroff riprendeva il cannocchiale e si metteva alla finestra di là esaminava con estrema attenzione il bastimento che era una distanza di 20 miglia est i coloni non avevano dunque ancora alcun mezzo per segnalare la loro presenza una bandiera non sarebbe stata scorta una detonazione non sarebbe stata udita un fuoco non sarebbe stato visto tuttavia era certo che l'isola dominata dal monte franklin non poteva essere sfuggita alle vedette della nave ma perché la nave stessa avrebbe atterrato là non era un semplice caso che la spingeva in quella parte del pacifico dove le carte non menzionavano alcuna terra salvo l'isolotto di tabor a questa domanda che ciascuno faceva a se stesso harbert diede subito una risposta che sia il duncan esclamò come è noto il duncan era lo yacht di lord glenarvan che aveva abbandonato a hilton sull'isolotto e che doveva un giorno tornare a riprenderlo ora l'isolotto non si trovava a tale distanza dall'isola di lincoln che un bastimento facendo rotta per quello non potesse passare in vista di questa 150 miglia soltanto li separavano in longitudine e 75 miglia in latitudine bisogna avvertire a hilton disse gideon spilett e mandarlo a chiamare immediatamente egli solo può dirci se si tratta del duncan tutti furono d'accordo il giornalista andando all'apparecchio telegrafico che metteva in comunicazione il recinto con granite house lanciò questo telegramma venite immediatamente pochi istanti dopo il campanello suonava vengo rispose a hilton i coloni continuarono poi a osservare la nave se è il duncan disse arbert a hilton non lo riconoscerà facilmente poiché vi è stato a bordo per qualche tempo e riconoscendolo sopraggiunse pencroff ne proverà una straordinaria emozione sì rispose cyrus smith ma ora hilton è degno di risalire a bordo del duncan voglia il cielo che sia davvero lo yacht di lord glenarvan perché ogni altra nave mi sembrerebbe sospetta questi mari sono mal frequentati e temo sempre per la nostra isola la visita dei pirati malesi ma noi la difenderemo esclamò arbert indubbiamente ragazzo mio rispose l'ingegnere sorridendo ma è meglio non aver bisogno di difenderla una semplice osservazione disse gino spilett l'isola di lincoln non è conosciuta dai naviganti perché non è indicata nemmeno sulle carte più recenti non credete cyrus che sia questo un motivo perché un bastimento trovandosi inopinatamente in vista di una terra nuova cerchi di visitarla anziché allontanarsene certo rispose pencroff anch'io lo penso soggiunse l'ingegnere si può anzi affermare che è dovere di ogni capitano segnalare e per conseguenza prender conoscenza di ogni terra o isola non ancora catalogata questo è appunto il caso dell'isola di lincoln ebbene disse allora pencroff ammettiamo che quel bastimento prenda terra che dia fondo qualche gomino dalla nostra isola che cosa faremo il quesito posto così bruscamente rimase dapprima senza risposta ma cyrus smith dopo aver riflettuto rispose con il tono calmo che gli era abituale ecco quello che faremo amici miei quello che dovremo fare prenderemo contatto col bastimento ci imbarcheremo su di esso e lasceremo la nostra isola dopo averne preso possesso nel nome degli stati dell'unione poi vi ritorneremo con tutti coloro che vorranno seguirci per colonizzarla definitivamente e dotare la repubblica americana ad uno scalo utile in questa parte dell'oceano pacifico evviva gridò pencroff e non sarà un piccolo regalo che faremo il nostro paese la colonizzazione è già quasi compiuta i nomi sono dati a tutte le parti dell'isola c'è un porto naturale un punto di acquata vi sono strade una linea telegrafica un campiere un'officina e non rimarrà altro da fare che scrivere il nome dell'isola di lincoln sulle carte ma se ce la prendono durante la nostra assenza osservò gideon spilett per mille diavoli esclamò il marinaio piuttosto resterei io solo a custodirla e quanto è vero che sono pencroff non me la ruberebbero certo come si ruba un orologio di tasca o balordo state pure tranquilli per un'ora ancora fu impossibile dire con sicurezza se il bastimento segnalato facesse o non facesse rotta verso l'isola di lincoln si era avvicinato tuttavia ma a quale velocità navigava pencroff non riuscì a stabilirlo non di meno siccome il vento soffiava da nord est era verosimile che navigasse con le mura dritte d'altronde il vento era favorevole per spingerlo verso gli approdi dell'isola e con quella calma non poteva temere di avvicinarsi benché i fondali non fossero riportati sulla carta verso le quattro un'ora dopo la chiamata ayrton arrivò a granite house entrò nel salone dicendo ai vostri ordini signori saru smith gli porse la mano come faceva di solito e conducendolo presso la finestra ayrton gli disse vi abbiamo pregato di venire per un motivo grave un bastimento è in vista dell'isola ayrton a tutta prima impallidì leggermente e il suo sguardo si turbò per un istante poi sporgendosi dalla finestra percorse l'orizzonte con lo sguardo ma non vide nulla prendete questo cannocchiale disse gideon spilett e guardate bene ayrton perché potrebbe darsi che quella nave fosse il duncan venuto in questi mari per rimpatriarvi il duncan mormorò ayrton già quest'ultima parola sfuggì quasi involontariamente dalle labbra di ayrton che chinò la testa fra le mani dodici anni di abbandono su di un isolotto deserto non gli parevano dunque un'espiazione sufficiente il colpevole punito non si sentiva dunque ancora perdonato di fronte a se stesso e di fronte agli altri no disse no non può essere il duncan guardate ayrton disse allora l'ingegnere perché è necessario che noi sappiamo fin d'ora a che partito a pigliarci ayrton prese il cannocchiale e lo puntò nella direzione indicata per alcuni minuti osservò l'orizzonte senza muoversi senza pronunciare una parola poi infatti è una nave disse ma non credo che sia il duncan perché mai non dovrebbe essere il duncan domandò allora gideon spilett perché perché il duncan è uno yacht a vapore mentre non scorgo nessuna traccia di fumo né sopra né intorno a quel bastimento che navighi forse soltanto alla vela il vento è buono per la rotta che sembra seguire e deve avere interesse a economizzare il carbone trovandosi molto lontano da ogni terra è possibile che abbiate ragione signor pencroff rispose ayrton e che quella nave abbia spento i fuochi lasciamo dunque che si avvicini alla costa e poi sapremo che cosa pensare ciò detto ayrton andò a sedersi in un angolo del salone e rimase silenzioso i coloni discussero ancora della nave sconosciuta ma senza che ayrton prendesse parte alla conversazione tutti si trovavano in una disposizione di spirito che non avrebbe loro permesso di continuare a lavorare gideon spilett e pencroff erano singolarmente nervosi e andavano e venivano non potendo star fermi harbert provava piuttosto curiosità nab solo conservava la sua calma abituale il suo paese era là dove si trovava il suo padrone quanto all'ingegnere rimaneva assorto nei suoi pensieri e in fondo temeva più che desiderare l'arrivo di quella nave intanto il bastimento si era un poco avvicinato all'isola con l'aiuto del cannocchiale era stato possibile appurare che si trattava di una nave di altura e non uno di quei fra osmalesi di cui si servono abitualmente i pirati del pacifico era dunque lecito credere che le apprensioni dell'ingegnere non fossero giustificate e che la presenza di quel bastimento nelle acque dell'isola di lincoln non costituisse alcun pericolo pencroff dopo una minuziosa osservazione credette poter affermare che la nave era armata brigantino e che correva in direzione obliqua alla costa con le mura dritta le basse vele le vele di gabbia e i velacci come confermò ayrton ma continuando con quella andatura il bastimento avrebbe dovuto in breve sparire dietro la punta del capo artiglio e per osservarlo sarebbe stato necessario salire sulle alture della baia washington vicino a porto pallone circostanza spiacevole già che erano le 5 del pomeriggio e il crepuscolo non avrebbe tardato a rendere difficilissima qualunque osservazione che cosa faremo quando sarà scesa la notte chiese gideon spilett accenderemo un fuoco per segnalare la nostra presenza era un problema molto grave tuttavia quantunque l'ingegnere nutrisse dei dubbi venne risolto affermativamente durante la notte la nave poteva sparire allontanarsi per sempre e scomparsa quella nave ne sarebbe ritornata un'altra nelle acque dell'isola di lincoln ora chi poteva prevedere quel che l'avvenire riservava ai coloni si disse il giornalista dobbiamo far conoscere a quel bastimento qualunque esso sia che l'isola è abitata trascurare la probabilità che ci si offre e cui varrebbe senz'altro a crearci dei rammarichi per l'avvenire fu dunque deciso che nabbe pencroff si sarebbero recati a porto pallone e che là giunta la notte avrebbero acceso un gran fuoco il cui splendore avrebbe certamente attirato l'attenzione dell'equipaggio del brigantino ma mentre nabbe e il marinaio si preparavano a lasciare granite house il bastimento cambiò andatura e avendo poggiato verso l'isola mise la prora sulla baia dell'unione era un buon camminatore quel brigantino perché si avvicinava rapidamente allora nabbe pencroff sospesero la partenza e il cannocchiale fu messo nelle mani da hilton affinché potesse riconoscere in modo definitivo se quella nave era oppure no il duncan lo yacht scozzese era anch'esso attrezzato a brigantino si trattava dunque di sapere se un fumaiolo si elevasse tra i due alberi del bastimento avvistato il quale non era allora che a una distanza di 10 miglia l'orizzonte era ancora chiarissimo l'accertamento fu quindi facile e a hilton lasciò tosto ricadere il cannocchiale dicendo non è affatto il duncan non poteva esserlo pencroff inquadrò nuovamente il brigantino nel campo visivo del cannocchiale e constatò che quel brigantino di tre o quattrocento tonnellate di stazza era di forme meravigliosamente affinate arditamente alberato e mirabilmente costruito per la corsa sicché doveva essere un rapido corridore dei mari ma a quale nazione apparteneva questo era difficile dire eppure aggiunse il marinaio una bandiera sventola al picco ma non ne distingue i colori fra meno di mezz'ora ne sapremo qualche cosa rispose il giornalista d'altronde è evidente che il capitano di quel bastimento ha intenzione di approdare e di conseguenza se non oggi domani al più tardi faremo la sua conoscenza non importa disse pencroff è sempre meglio sapere con chi si ha a che fare e non mi dispiacerebbe distinguere bene i colori di quella bandiera e mentre così parlava il marinaio non abbandonava il cannocchiale il giorno cominciava a declinare e con il giorno calava anche il vento del largo la bandiera del brigantino sempre meno tesa si impigliò fra le drizze e diventava così sempre più difficile poterla osservare non è una bandiera americana diceva di tratto in tratto pencroff né inglese il cui colore rosso si vedrebbe facilmente ne sono i colori francesi o tedeschi e nemmeno il bianco della russia o il giallo della spagna si direbbe che è di una tinta uniforme vediamo in questi mari che cosa si potrebbe trovare più comunemente la bandiera cilena ma è tricolore brasiliana no è verde giapponese ma no è nera e gialla mentre questa in quel momento un soffio di vento spiegò la bandiera sconosciuta a hilton afferrando il cannocchiale che il marinaio aveva deposto se lo mise all'occhio e con voce sorda la bandiera nera esclamò e infatti una tela scura ondeggiava il picco del brigantino e ora si poteva con molte buone ragioni considerare la nave in vista come sospetta l'ingegnere l'aveva dunque azzeccata con i suoi presentimenti era un bastimento di pirati uno schiumatore dei bassi mari del pacifico in concorrenza con i pirati malesi che ancora li infestavano che cosa veniva a cercare sulle coste dell'isola di lincoln vedeva in essa una terra sconosciuta ignorata atta diventare un ricettacolo di carichi rubati veniva a domandare a quelle coste un ridosso per i mesi dell'inverno l'onesto dominio dei coloni era forse destinato a trasformarsi in un covo infame specie di capitale della pirateria del pacifico tutti questi dubbi si affacciarono istintivamente alla mente dei coloni non vera dubbio d'altronde sul significato da attribuirsi al colore della bandiera inalberata era proprio quella dei corsari del mare era quella che avrebbe dovuto portare il duncan se i deportati fossero riusciti nei loro criminali disegni i coloni non si perdettero in discussioni amici disse cyrus smith quella nave vorrà solo esaminare il litorale dell'isola potrebbe anche darsi che il suo equipaggio non sbarcasse siamo nelle mani del destino comunque dobbiamo fare tutto il possibile per nascondere la nostra presenza il mulino esistente sull'altipiano di bella vista è troppo facilmente visibile a hilton e nab vadano smontarne le ali dissimuliamo parimenti sotto fronde più fitte le finestre di granite house tutti i fuochi siano spenti nulla insomma tradisca la presenza dell'uomo su quest'isola e la nostra imbarcazione disse arbert rispose pencroff è al sicuro al porto pallone e sfido quei miserabili a trovarla gli ordini dell'ingegnere furono eseguiti immediatamente nab e a hilton salirono sull'altipiano e presero le misure necessarie perché ogni indizio d'abitazione vi fosse dissimulato mentre si occupavano di questa faccenda i loro compagni si recarono nel bosco dello jacamar e ne ritornarono con una grande quantità di rami e di liane che dovevano a una certa distanza parere verzura naturale e velare abbastanza bene le finestre aperte nella muraglia granitica nello stesso tempo le munizioni e le armi furono disposte in modo da poter essere subito utilizzate nel caso di un'aggressione improvvisa quando tutte queste precauzioni furono prese amici disse saru smith e si sentiva dalla voce che era commosso se quei miserabili vogliono impadronirsi dell'isola di lincoln noi la difenderemo ne è vero sì rispose il giornalista e se occorre morremo per difenderla l'ingegnere porse la mano ai compagni che la strinsero con effusione solo a hilton rimasto in un angolo non si era unito ai coloni forse egli l'antico deportato si sentiva ancora indegno di essi cyrus smith comprese quello che passava nell'animo di a hilton e andando a lui e voi a hilton gli chiese che cosa farete il mio dovere rispose a hilton poi andò a porsi vicino alla finestra scrutando attraverso il fogliame erano le sette e mezzo il sole era tramontato da circa venti minuti dietro granite house di conseguenza l'orizzonte verso est soscurava poco a poco tuttavia il brigantino avanzava sempre verso la baia dell'unione esso si trovava allora a non più di otto miglia e precisamente di fronte all'altipiano di bella vista perché dopo aver virato all'altezza del capo artiglio aveva molto guadagnato a nord con l'ausilio della corrente di marea montante si poteva anzi dire che anche a quella distanza era già entrato nella vasta baia giacché una linea retta tracciata dal capo artiglio al capo mandibola gli sarebbe passata ad ovest all'anca di dritta il brigantino sarebbe entrato nella baia tale era il primo quesito ivi giunto vi si sarebbe ancorato era il secondo non si sarebbe accontentato dopo aver esaminato il litorale di riprendere il largo senza sbarcare il proprio equipaggio i coloni l'avrebbero saputo fra meno di un'ora non rimaneva dunque che aspettare cyrus smith aveva veduto non senza una profonda ansietà il bastimento sospetto inalberare la bandiera nera non era una minaccia diretta contro l'opera che lui e i suoi compagni avevano con lieto esito svolto fino allora i pirati che altro non potevano essere i marinai di quel brigantino avevano dunque già frequentato l'isola poiché approdandovi avevano issato i loro colori vi avevano forse anteriormente operato qualche scorreria il che avrebbe spiegato certi particolari rimasti sino allora inesplicabili esisteva nelle sue parti non ancora esplorate qualche complice pronto a entrare in comunicazione con loro a tutte queste domande che rivolgeva silenziosamente a se stesso cyrus smith non sapeva che cosa rispondere solo sentiva con certezza che la situazione della colonia era gravemente compromessa dall'arrivo di quel brigantino tuttavia lui e suoi compagni erano decisi a resistere fino all'estremo i pirati erano numerosi e meglio armati dei coloni sarebbe stato molto importante saperlo ma come arrivare sino a essi era notte ormai fitta la nuova luna investita dall'irradiazione solare era scomparsa una profonda oscurità avvolgeva l'isola e il mare le nubi pesanti ammucchiata all'orizzonte non lasciavano filtrare alcun chiarore il vento era cessato completamente con il crepuscolo non una foglia si agitava sugli alberi non un mormorio d'onda sul lido della nave avvistata non si vedeva nulla essendo abolito ogni fanale e quindi non si poteva nemmeno sapere se era ancora in vista dell'isola né in quale punto si trovasse e chissà disse allora pencroff che quel dannato bastimento non riprenda il mare durante la notte e che non lo ritroviamo più allo spuntar del giorno per tutta risposta all'osservazione del marinaio un vivo bagliore si diffuse lungi sul mare e rimbombò un colpo di cannone la nave era sempre là e aveva artiglieria a bordo erano passati sei secondi fra il primo bagliore il colpo dunque il brigantino era circa un miglio e un quarto dalla costa nello stesso tempo sudì un rumore di catene che scorrevano stridendo attraverso le cubie il bastimento dava fondo in vista di granite house capitolo 2 non c'era più alcun dubbio sulle intenzioni dei pirati avevano gettato l'ancora a breve distanza ed era evidente che l'indomani per mezzo delle lance avrebbero tentato di accostarsi alla riva sarò smith e i suoi compagni erano pronti ad agire ma per quanto fossero risoluti non dovevano dimenticare la prudenza forse la loro presenza poteva ancora essere celata e questo nel caso in cui i pirati si fossero accontentati di sbarcare sul litorale senza spingersi nell'interno dell'isola poteva darsi infatti che essi non avessero altro disegno che di fare acqua al merci e non era impossibile che il ponte gettato un miglio e mezzo dalla foce nonché i lavori di adattamento fatti ai camini sfuggissero alla loro attenzione ma perché allora la bandiera issata sull'antenna del brigantino perché quella cannonata pura spavalderia senza dubbio a meno che non fosse l'indizio di una presa di possesso per rispondere ai cannoni dei pirati che cosa avevano i coloni dell'isola di lincoln pochi fucili soltanto tuttavia fece notare cyrus smith qui siamo in una posizione inespugnabile il nemico non potrà scoprire l'apertura dello scarico adesso che è nascosto sotto le canne e le erbe e di conseguenza gli è impossibile penetrare a granita e house ma le nostre piantagioni il nostro pollaio il nostro recinto tutto insomma tutto esclamò pencroff battendo un piede in terra essi possono tutto rovinare tutto distruggere in poche ore tutto pencroff rispose cyrus smith e noi non abbiamo alcun modo di impedirlo sono molti ecco il problema disse allora il giornalista se non sono che una dozzina potremmo arrestarli ma 40 50 forse anche di più signor smith disse allora a hilton avanzandosi verso l'ingegnere volete concedermi un permesso quale amico mio quello di raggiungere la nave per constatare la forza del suo equipaggio ma a hilton rispose esitando l'ingegnere arrischiereste la vita perché no signore questo è più del vostro dovere io devo fare più del mio dovere rispose a hilton andreste fino al bastimento con la piroga domandò gideon spilett no signore vi andrò a nuoto la piroga non passerebbe dove invece un uomo può insinuarsi immergendosi sapete che il brigantino è un miglio e un quarto dalla costa disse arbert sono un buon notatore signor arbert vuol dire a rischiare la vostra vita vi dico aggiunse ancora l'ingegnere poco importa rispose a hilton signor smith ve lo chiedo come una grazia è forse un mezzo di riabilitarmi ai miei stessi occhi andate a hilton rispose l'ingegnere che sentiva come un rifiuto avrebbe profondamente contristato l'ex deportato che ormai era divenuto un uomo onesto vi accompagnerò disse pencroff diffidate di me rispose vivamente a hilton poi più umilmente ahimè no no soggiunse vivamente cyrus smith no a hilton pencroff non diffida di voi avete male interpretato le sue parole infatti rispose il marinaio propongo da hilton di accompagnarlo soltanto fino all'isolotto potrebbe darsi quantunque sia poco probabile che uno di quei bricconi fosse sbarcato e in questo caso due uomini non saranno di troppo per impedirgli di dare l'allarme aspetterò a hilton sull'isolotto ed egli andrà alla nave da solo dal momento che ha deciso di farlo così stabilito a hilton fece preparativi per la partenza il suo proposito era audace ma poteva riuscire grazie all'oscurità della notte una volta arrivato al bastimento a hilton aggrappandosi o alle briglie di bonpresso alle landre dei parassartie avrebbe potuto conoscere il numero e forse sorprendere le intenzioni dei deportati a hilton e pencroff seguiti dai compagni scesero sulla spiaggia a hilton si spogliò e si spalmò di grasso per soffrire meno della temperatura dell'acqua che era ancora fredda poteva darsi infatti che fosse obbligato rimanervi per parecchie ore pencroff e nab intanto erano andati a cercare la piroga ormeggiata alcune centinaia di passi più in su sulla riva del mersi e quando ritornarono a hilton era pronto a partire sulle spalle di a hilton venne gettato una coperta e i coloni gli strinsero la mano erano le dieci e mezza di sera quando tutti e due sparvero nell'oscurità i loro compagni andarono ad attenderli ai camini il canale fu agevolmente attraversato e la piroga approdò la riva opposta dell'isolotto questo fu fatto non senza qualche precauzione nel caso in cui dei pirati si fossero girati da quelle parti ma dopo alcuni accertamenti parve assodato che l'isolotto fosse deserto dunque a hilton seguito da pencroff lo attraversò con passo rapido scaraventando gli uccelli anidati nei buchi delle rocce poi senza esitare si gettò in mare e nuotò senza rumore in direzione del bastimento del quale alcune luci accese da poco indicavano allora la posizione esatta quanto a pencroff si rannicchiò in un'anfrattuosità della riva e attese il ritorno del compagno intanto a hilton nuotava vigorosamente e scivolava attraverso la distesa d'acqua senza produrvi nemmeno il più lieve premito la sua testa affiorava appena e i suoi occhi si fissavano sulla massa scura del brigantino i cui fanali si riflettevano nel mare egli non pensava che al dovere che aveva promesso di compiere e non si preoccupava nemmeno dei pericoli che correva non solo a bordo della nave ma anche in quei paraggi spesso frequentati dai pescicani la corrente lo portava ed egli si allontanava rapidamente dalla costa una mezz'ora dopo a hilton senza essere stato veduto né sentito si immergeva accostava la nave e si aggrappava con una mano alle briglie del bronpresso allora respirò e hissandosi sulle catene pervenne a raggiungere l'estremità del tagliamare là stavano ad asciugare alcune paia di calzoncini da marinaio e ne infilò un paio poi essendosi collocato in posizione sicura ascoltò a bordo del brigantino non si dormiva tutt'altro si discuteva si cantava e si rideva ed ecco le parole accompagnate da bestemmie che maggiormente colpirono a hilton che buona questo nostro brigantino fila bene lo speedy merita il suo nome tutta la marina di norfolk può penettersi al suo inseguimento senza poterlo raggiungere evviva il suo comandante evviva bob harvey sarà facile comprendere quello che a hilton provasse udendo questo frammento di conversazione quando si saprà che in bob harvey aveva riconosciuto uno dei suoi vecchi compagni d'australia un marinaio audace che aveva proseguito i suoi criminosi disegni bob harvey si era impedronito nei paraggi dell'isola di norfolk di quel brigantino carico d'armi di munizioni di utensili di ogni sorta destinati a una delle isole sandwich tutta la sua banda era salita a bordo e pirati dopo essere stati deportati quei miserabili scorrevano ora l'oceano pacifico distruggendo le navi massacrando gli equipaggi depredando più feroci degli stessi malesi i deportati parlavano ad alta voce raccontavano le loro nefande prodezze bevevano esageratamente ed ecco quello che a hilton potè comprendere dai loro discorsi l'equipaggio dello speedy si componeva ora unicamente di prigionieri inglesi evasi da norfolk ed ecco che cos'è norfolk a 29 gradi e due minuti di latitudine sud e 165 gradi e 42 minuti di longitudine est ad est dell'australia si trova una piccola isola di sei leghe di circonferenza è dominata dal monte pit da un'altezza di 1500 piedi sul livello del mare è l'isola di norfolk divenuta sede di uno stabilimento di pena dove sono rinchiusi i più pericolosi condannati dai penitenziari inglesi ve ne sono 500 sottoposti a una disciplina di ferro colpiti da pene terribili custoditi da 150 soldati e 150 guardi agli ordini di un governatore sarebbe difficile immaginare una peggior genia di scellerati qualche volta benché accada raramente nonostante la ferrea sorveglianza di cui sono soggetti parecchi riescono a fuggire impadronendosi di navi che sorprendono con queste poi si danno alla pirateria negli arcipelaghi polinesiani così avevano fatto bob harvey e i suoi compagni così un giorno aveva voluto fare anche ayrton bob harvey sarà impadronito del brigantino speedy ancora in vista dell'isola di norfolk l'equipaggio era stato massacrato e da un anno la nave divenuta bastimento di pirati batteva i mari del pacifico al comando di harvey un tempo capitano di lungo corso ora predone del mare e ayrton lo conosceva bene i pirati erano per la maggior parte riuniti sul cassarretto a poppa della nave ma alcuni stesi in coperta parlavano fra loro ad alta voce mentre la conversazione continuava sempre in mezzo alle gride alle libagioni ayrton apprese che soltanto il caso aveva condotto lo speedy in vista dell'isola di lincoln bob harvey non vi aveva mai messo piede ma come cyrus smith aveva presagito trovando sulla sua rotta quella terra sconosciuta di cui nessuna carta indicava l'ubicazione aveva pensato di visitarla e all'occorrenza se essa gli conveniva di farne il porto di armamento del brigantino quanto alla bandiera nera inalberata sull'antenna dello speedy e al colpo di cannone che era stato sparato come fanno le navi da guerra nel momento in cui ammainano la bandiera era una pura spavalderia dei pirati non era appunto un segnale e nessuna comunicazione esisteva ancora tra gli evasi da norfolk e l'isola di lincoln la proprietà dei coloni era dunque minacciata da un enorme pericolo evidentemente l'isola con la sua abbondante riserva d'acqua dolce il suo piccolo porto le ricchezze naturali di ogni sorta così ben valorizzate dai coloni la profondità celata di granite house non poteva non convenire ai deportati nelle loro mani essa sarebbe divenuta un eccellente luogo di rifugio e per il fatto stesso che era sconosciuta avrebbe assicurato loro per lungo tempo forse l'impunità e la sicurezza era pure evidente che la vita dei coloni non sarebbe stata rispettata e che il primo proposito di bob harvey dei suoi complici sarebbe stato di massacrarli senza misericordia sarò smith e i suoi non avevano dunque nemmeno la speranza di fuggire di nascondersi nell'interno dell'isola perché i deportati si proponevano di stabilirvi la loro residenza e perché anche nel caso che lo speedy fosse partito per una spedizione probabilmente alcuni uomini dell'equipaggio sarebbero pur sempre rimasti a terra per colonizzarla dunque bisognava combattere bisognava distruggere fino all'ultimo quei miserabili indegni di pietà e contro i quali ogni mezzo sarebbe stato buono questo pensò ayrton e sapeva bene che saru smith avrebbe condiviso il suo modo di vedere ma la resistenza e alla fine la vittoria erano possibili ciò dipendeva dall'armamento del brigantino e dal numero di uomini che erano a bordo ayrton volle saperlo a ogni costo e siccome un'ora dopo il suo arrivo le vociferazioni si erano calmate un poco e buona parte dei deportati erano immersi nel sonno dell'ubriacatezza egli non esitò ad avventurarsi sul ponte dell'ospidi che le lanterne spente lasciavano ancora in una profonda oscurità si issò dunque sul tagliamare e per il buon presso arrivò il castello di prua del brigantino insinuandosi allora fra i pirati distesi qua e là fece il giro del bastimento e constatò che l'ospidi era armato di quattro cannoni che dovevano lanciare proiettili da 8 a 10 libre sabbide anche toccandoli che detti cannoni erano a retrocarica erano dunque pezzi moderni di facile uso e di terribile effetto gli uomini sdraiati sul ponte dovevano essere circa una decina ma era presumibile che altri e più numerosi dormissero nell'interno del brigantino ed altronde ascoltandoli ayrton aveva creduto comprendere che erano una cinquantina a bordo erano molti per i sei coloni dell'isola di lincoln ma intanto grazie alla devozione di ayrton cyrus smith non sarebbe stato sorpreso e conoscendo la forza dei suoi avversari avrebbe preso le disposizioni del caso ad ayrton non restava dunque che ritornare per render conto ai compagni della sua missione si preparò quindi a raggiungere nuovamente la prua del brigantino allo scopo di scivolare poi fino in mare ma quest'uomo che voleva come aveva detto fare più del suo dovere venne allora un'idea eroica equivaleva a sacrificare la sua vita ma avrebbe salvato l'isola ai coloni cyrus smith non avrebbe potuto evidentemente resistere a 50 manditi armati di tutto punto che sia penetrando a viva forza in granite house sia fermandovi gli assediati ne avrebbero avuto ragione e allora egli si raffigurò i suoi salvatori coloro che avevano rifatto di lui un uomo e un onestuomo coloro ai quali doveva tutto uccisi senza pietà i loro lavori annientati la loro isola mutata in un covo di pirati si disse che insomma era lui ayrton la causa prima di tanti disastri poiché il suo antico compagno bob harvey non aveva fatto che mettere in esecuzione i suoi stessi disegni e un sentimento d'orrore si impadronì di tutto il suo essere allora fu preso dall'irresistibile desiderio di far saltare il brigantino con tutti coloro che portava ayrton non esitò raggiungere la cala delle polveri che si trovava sempre a poppa di un bastimento era facile la polvere non doveva mancare su una simile nave e sarebbe bastato una scintilla per annientarla in un istante ayrton si calò cautamente in batteria sparsa di numerosi dormienti che l'ubriacatezza più che il sonno teneva assopiti una lanterna era accesa al piede dell'albero maestro circondato da una cavigliera carica ad armi da fuoco di tutte le specie ayrton staccò dalla cavigliera una rivoltella e si assicurò che fosse carica non gli occorreva di più per compiere l'opera di distruzione si inoltrò prudentemente verso poppa in modo da arrivare sotto il cassarretto del brigantino dove sapeva essere la cala delle polveri malgrado la massima attenzione era difficile strisciare su quel ponte quasi oscuro senza urtare qualche pirata non abbastanza addormentato di qui bestemmie e urli ayrton fu più di una volta costretto a fermarsi ma alla fine arrivò la paratia che chiudeva il compartimento di poppa e trovò la porta che doveva aprirsi direttamente sulla cala ayrton costretto a doverla forzare si misa all'opera era difficile riuscire in questa faccenda senza far rumore poiché si trattava di spezzare un lucchetto ma sotto la mano vigorosa di ayrton il lucchetto saltò e la porta si aprì d'un tratto un braccio si appoggiò sulla spalla di ayrton che cosa fai qui domandò con voce dura un uomo alto che drizzandosi nell'ombra levò bruscamente sulla faccia di ayrton la luce di una lanterna ayrton si gettò l'indietro a un rapido bagliore della lanterna aveva riconosciuto il suo antico complice bob harvey ma non poteva essere stato riconosciuto da questi che doveva credere a ayrton morto da gran tempo che cosa ci fai qui ripete bob harvey afferrando ayrton per la cintura dei calzoni ma ayrton senza rispondere respinse vigorosamente il capo dei deportati e cercò di slanciarsi nel deposito delle polveri un colpo di rivoltella in mezzo a quei barili di polvere e tutto era finito a me ragazzi aveva gridato bob harvey due o tre pirati svegliati da quel grido si erano alzati e gettandosi su ayrton tentarono di atterrarlo il vigoroso ayrton si sbarazzò dalle loro strette due sue rivoltellate rimombarono e due deportati caddero ma una coltellata che egli non poteva evitare gli incise le carni della spalla ayrton capì che non poteva più effettuare il suo disegno bob harvey aveva richiuso la porta della cala e nel corridoio cominciava un movimento che indicava il risveglio generale dei pirati bisognava che ayrton si risparmiasse per combattere a fianco di cyrus smith non gli rimaneva che fuggire ma la fuga era ancora possibile la cosa era molto dubbia benché ayrton fosse deciso a tentare il tutto per tutto pur di raggiungere i compagni gli restavano ancora quattro colpi da sparare due ne sparò allora uno dei quali diretto su bob harvey che però non rimase ferito gravemente ayrton allora approfittando di un movimento all'indietro dei suoi avversari si precipitò verso la scala del boccaporto in modo da raggiungere il ponte del brigantino passando davanti alla lanterna la mandò in frantumi con il calcio della rivoltella e ne seguì una profonda oscurità che doveva favorire la sua fuga due o tre pirati destati dal rumore scendevano la scala in quel momento un quinto colpo di rivoltella di ayrton ne gettò uno dai gradini mentre gli altri si traevano in disparte non comprendendo nulla di quel che succedeva ayrton in due salti fu sul ponte del brigantino e in capo a tre secondi dopo aver scaricato per l'ultima volta la rivoltella in viso a un pirata che stava afferrandolo per il collo scavalcò il parapetto e si gettò in mare ayrton non aveva fatto sei bracciate nell'acqua che già le palle crepitavano intorno a lui come una gragnuola quale dovette essere l'emozione di pencroff ricoverato sotto una roccia dell'isolotto e quella di saru smith del giornalista di harbert e di nab appiattati nei camini quando udirono quelle detonazioni esplodere a bordo del brigantino si erano tutti slanciati sulla spiaggia e con i fucili spianati si tenevano pronti a respingere ogni aggressione per loro non c'era più dubbio ayrton sorpreso dai pirati era stato massacrato e probabilmente quei miserabili avrebbero approfittato della notte per operare uno sbarco sull'isola una mezz'ora passò in preda ad ansie mortali anche quando le detonazioni cessarono né ayrton né pencroff riapparvero l'isolotto era dunque invaso non bisognava correre in aiuto di ayrton e di pencroff ma come la marea alta in quel momento rendeva il canale inusuperabile la piroga non c'era più si può immaginare la terribile inquietitudine che si impadronì di cyrus smith e dei suoi compagni finalmente verso mezzanotte e mezzo una piroga con due uomini s'accostò alla riva erano ayrton leggermente ferito alla spalla e pencroff sano e salvo che furono ricevuti dagli amici a braccia aperte tutti si rifugiarono subito ai camini qui vi giunti ayrton narrò quanto era accaduto e non nascose il suo disegno di far saltare il brigantino e come avesse tentato di metterlo in esecuzione tutte le mani si tesero verso ayrton che non dissimulò ai compagni la gravità della situazione i pirati erano sull'avviso sapevano ormai che l'isola di lincoln era abitata non vi sarebbero sbarcati quindi che in buon numero e bene armati nulla avrebbero rispettato se i coloni fossero caduti nelle loro mani non potevano sperarne pietà ebbene sapremo morire disse il giornalista rientriamo e vegliamo disse l'ingegnere abbiamo qualche probabilità di cavarcela signor cyrus chiese il marinaio si pencroff sai contro 50 si sei senza contare che dunque domandò pencroff cyrus non rispose ma mostrò il cielo con la mano capitolo 3 la notte passò senza incidenti i coloni si erano tenuti in guardia e non avevano abbandonato i camini i pirati dal canto loro non sembravano aver fatto alcun tentativo di sbarco da che erano state tirate le ultime fucilate su ayrton non una detonazione né un rumore qualsiasi aveva rivelato la presenza del brigantino presso le coste dell'isola a rigore si poteva credere che pensando di avere a che fare con un avversario troppo forte avesse levato l'ancora e si fosse allontanato da quei paraggi ma non era così e quando sorse l'alba poterono intravedere nelle brume del mattino una massa confusa era lo spidi ecco amici disse allora l'ingegnere i provvedimenti che mi sembra conveniente prendere prima che la nebbia sia completamente svanita essa ci nasconda agli occhi dei pirati e noi potremo agire senza svegliare la loro attenzione importa soprattutto di lasciar credere ai corsari che gli abitanti dell'isola sono numerosi e quindi capaci di resistere vi propongo dunque di dividerci in tre gruppi che si apposteranno il primo ai camini il secondo alla foce del mercy quanto al terzo credo sarebbe bene appostarlo sull'isolotto allo scopo di impedire o almeno di ritardare ogni tentativo di sbarco abbiamo a nostra disposizione due carabine e quattro fucili ciascuno di noi quindi sarà armato e siccome siamo ampiamente forniti di polvere di proiettili non risparmieremo i colpi non abbiamo nulla a temere dai fucili né da cannoni del brigantino che cosa potrebbero contro queste rocce poiché d'altra parte non spareremo dalle finestre di granite house ai pirati non verrà l'idea di colpirla con le granate che potrebbero causare danni irreparabili quel che bisogna temere è la necessità di venire alle mani perché i deportati hanno al loro favore il numero bisogna dunque tentare di opporsi allo sbarco ma senza scoprirsi dunque non economizziamo le munizioni spariamo spesso ma con precisione ciascuno di noi ha otto dieci nemici da uccidere e bisogna che li uccida cyrus smith aveva esposto nettamente la situazione pur parlando con voce calmissima come se si fosse trattato di dirigere consueti lavori e non di una battaglia da predisporre i suoi compagni approvarono quelle disposizioni senza pronunciare una parola a ciascuno non rimaneva che prendere il posto assegnatogli prima che la nebbia si fosse completamente dissipata nab e pencroff risalirono subito a granite house ritornandone con munizioni sufficienti gideon spilett e ayrton tutti due buonissimi tiratori vennero armati con le due carabine di precisione che tiravano a quasi un miglio di distanza gli altri quattro fucili furono ripartiti tra cyrus nab pencroff e harbert i corpi di guardia furono composti così cyrus smith e harbert rimasero nascosti nei camini avendo così per campo d'azione la spiaggia ai piedi di granite house per un tratto abbastanza largo gideon spilett e nab andarono ad appiattirsi in mezzo alle rocce alla foce del mercy di cui erano stati alzati il ponte e i ponticelli in modo da impedire ogni passaggio in barca e anche ogni sbarco sulla riva opposta ayrton e pencroff spinsero in acqua la piroga e saccinsero attraversare il canale per occupare separatamente due punti sull'isolotto in questa guisa partendo il fuoco da quattro punti diversi i corsari avrebbero avuto l'illusione che l'isola fosse a un tempo sufficientemente popolata ed energicamente difesa nel caso in cui uno sbarco si fosse effettuato senza che potessero impedirlo e anche se si fossero veduti sul punto di essere aggirati da qualche imbragazione del brigantino pencroff e ayrton dovevano ritornare con la piroga rimetter piede sulla spiaggia e portarsi verso il punto più minacciato prima di recarsi a occupare rispettivi posti i coloni si strinsero un'ultima volta la mano pencroff riuscì a rendersi abbastanza padrone di sé per reprimere l'emozione quando abbrocciò harbert il suo figliolo e poi si separarono pochi istanti dopo cyrus smith e harbert da una parte il giornalista in app dall'altra erano scomparsi dietro le rocce e cinque minuti più tardi a ayrton e pencroff attraversato felicemente il canale sbarcavano sull'isolotto e si nascondevano nelle anfrattuosità della riva orientale nessuno poteva essere stato veduto giacché si distingueva malapena il brigantino nella nebbia erano le sei e mezzo del mattino in breve la nebbia si squarciò a poco a poco negli strati superiori dell'aria e la cima degli alberi del brigantino uscì dai vapori per alcuni istanti ancora grosse volute dall'apparenza fumosa rotolarono alla superficie del mare poi si levò una brezza che dissipò rapidamente quelle masse di brume lo spidi apparve tutto intero ormeggiato su due ancore la prora a nord e presentando all'isola l'anca di sinistra come cyrus smith aveva calcolato non era che un miglio un quarto dalla riva l'infausta bandiera nera sventolava sul picco con il suo cannocchiale l'ingegnere poteva vedere che i quattro cannoni di bordo erano stati puntati sull'isola evidentemente pronti a far fuoco al primo segnale tuttavia lo spidi restava muto si vedevano una trentina di pirati andare e venire sul ponte alcuni erano stati montati sul cassarretto altri due appostati sulla crocetta dell'albero di maestra e muniti di cannocchiali osservavano l'isola con estrema attenzione certamente bob harvey e il suo equipaggio potevano molto difficilmente rendersi conto di quanto era successo durante la notte a bordo del brigantino quell'uomo seminudo che s'accingeva a forzare la porta della cala delle polveri e contro il quale avevano lottato che aveva scaricato sei volte la sua rivoltella su di essi che aveva ucciso uno dei loro e ferito altri due quell'uomo era sfuggito alle loro palle aveva potuto raggiungere la costa nuoto da dove veniva che cosa veniva a fare a bordo il suo proposito era veramente quello di far saltare il brigantino come bob harvey pensava tutto questo doveva essere abbastanza confuso nel cervello dei deportati di una sola cosa non potevano più dubitare ormai che l'isola sconosciuta davanti alla quale lo spidi aveva gettato l'ancora era abitata e che vera probabilmente tutta una colonia pronta a difenderla eppure nessuno si mostrava né sul lido né sulle alture il litorale pareva assolutamente deserto in ogni caso non si vedeva alcuna traccia di abitazione gli abitanti erano dunque fuggiti verso l'interno ecco quello che doveva chiedersi il capo dei pirati e senza dubbio da uomo prudente cercava di esplorare la località prima di impegnare la sua banda durante un'ora e mezzo non fu possibile sorprendere a bordo del brigantino nessun indizio d'attacco né di sbarco era evidente che bob harvey esitava i suoi migliori cannocchiali non gli avevano indubbiamente permesso di scorgere nemmeno uno dei coloni rannicchiati fra le rocce ne era probabile che la sua attenzione fosse stata destata dalla copertura di rami verdi e di liane che mascherava le finestre di granite house e spiccava dalla muraglia nuda infatti come avrebbe potuto immaginare che un'abitazione fosse scavata a quell'altezza entro quel masso granitico dal capo artiglio sino ai promontori mandibola su tutto l'arco della baia dell'unione nulla aveva dovuto rivelargli che l'isola fosse o potesse essere occupata non di meno alle otto i coloni notarono un certo movimento a bordo dello spidi qualcuna lava sui paranchi delle gru delle imbarcazioni una lancia fu messa in mare sette uomini vi discesero armati di fucili uno di essi si misa al timone quattro ai remi e gli altri due accoccolati a prua pronti a sparare esaminavano l'isola il loro scopo era senza dubbio quello di operare una prima ricognizione ma non di sbarcare già che in quest'ultimo caso si sarebbero mossi in maggior numero i pirati appollaiate sull'alberatura fin sulle crocette evidentemente avevano potuto vedere che un isolotto proteggeva la costa e che era separato da essa per mezzo di un canale lungo circa mezzo miglio tuttavia cyrus smith osservando la direzione seguita dalla lancia ebbe presto la certezza che non avrebbe cercato tutta prima di penetrare nel canale ma si sarebbe accostata all'isolotto misura di prudenza giustificata dal resto pencroff e ayrton nascosti ognuno per suo conto in strette anfrottuosità dalle rocce la videro venire direttamente su di loro e attesero che fosse a tiro la lancia avanzava con precauzione estrema i remi si tuffavano nell'acqua solo a lungo intervalli si distingueva pure che uno dei deportati stando a prua teneva in mano la sagola di una sonda e cercava di scandagliare il canale scavato dalla corrente del mercy ciò indicava che bob harvey aveva intenzione di avvicinare quanto più possibile il suo brigantino alla costa una trentina di pirati sparsi qua e là sulle sartie non perdevano di vista uno solo dei movimenti della lancia e rilevarono certi punti che dovevano loro permettere di atterrare senza pericolo la lancia non distava che due gomene dall'isolotto quando s'arrestò il timoniere in piedi cercava il miglior punto per approdare in quell'istante due colpi di fucili esplosero una nuvoletta di fumo turbinò sopra le rocce dell'isolotto l'uomo al timone e l'uomo dello scandaglio caddero riversi nella lancia erano stati colpiti tutti e due contemporaneamente dalle palle di ayrton e di pencroff una detonazione più violenta si fece sentire quasi subito un fragoroso getto di fumo sfuggì dal fianco del brigantino e una palla di cannone colpendo la parte alta delle rocce che riparavano ayrton e pencroff le fece volare in schegge ma i due tiratori non erano stati colpiti orribili imprecazioni partirono dalla lancia che riprese subito a navigare il timoniere venne immediatamente sostituito da uno dei suoi camerati e i remi si tuffarono energicamente nell'acqua tuttavia invece di tornare a bordo come sarebbe stato lecito credere la lancia proseguì lungo la riva dell'isolotto in modo da scapolare la punta sud i pirati facevano forza sui remi allo scopo di mettersi fuori tiro avanzarono così fino a cinque gomene dall'altra parte rientrante del litorale che terminava con la punta del relitto e dopo averla seguita in linea semicircolare sempre protetti dai cannoni del brigantino si diressero verso la foce del mersi la loro intenzione evidente era di penetrare così nel canale e di prendere alle spalle i coloni appostati nell'isolotto in modo che questi qualunque fosse il loro numero sarebbero venuti a trovarsi tra i fuochi della lancia e quelli del brigantino e quindi in una posizione molto svantaggiosa un quarto d'ora passò così mentre la lancia correva nella suddetta direzione silenzio assoluto calma completa nell'aria e sulle acque pencroff e airton benché coprendessero che arrischiavano d'essere aggirati non avevano abbandonato il loro posto sia che non volessero ancora mostrarsi agli assalitori ed esporsi ai coloni dello spidi sia che contassero su nabbe spilett veglianti allo sbocco del mersi e su cyrus smith e harbert imboscati tra le rocce dei camini venti minuti dopo i primi colpi di fucile la lancia era all'altezza del fiume mersi a meno di due gomene siccome il flusso cominciava a salire con l'abituale violenza provocata dalla strettezza del passaggio i deportati si sentirono trascinati verso il fiume e solo a forza di remi riuscirono a mantenersi nel mezzo del canale ma mentre passavano a tiro dello sbocco del mersi due palle li salutarono al passaggio e ancora due de loro furono stesi nell'imbarcazione nabbe spilett non avevano fallito il colpo posto il brigantino mandò una seconda palla sulla posizione rivelata dal fumo degli spari ma senz'altro risultato che quello di intaccare alcune rocce la lancia non aveva ormai che tre soli uomini validi trascinata dalla corrente filò nel canale con la rapidità di una freccia passò davanti a cyrus smith e harbert i quali non giudicando la tiro rimasero muti poi doppiando la punta nord dell'isolotto con i due vogatori superstiti si accinse a tornare al brigantino sin qui i coloni non avevano di che lamentarsi la partita si iniziava male per i loro avversari questi contavano già quattro uomini gravemente feriti morti forse i coloni invece senza ferite non avevano sprecato nemmeno un proiettile se i pirati continuavano ad attaccarli in quel modo se rinnovavano i tentativi di sbarco per mezzo della lancia potevano essere distrutti a uno a uno si comprende quanto le disposizioni prese dall'ingegnere fossero vantaggiose i pirati potevano credere di avere a che fare con avversari numerosi e bene armati di cui non avrebbero avuto facilmente ragione mezz'ora trascorse prima che la lancia che doveva lottare contro la corrente proveniente dal largo avesse raggiunto lo spidi grida spaventevoli e che giarono quando venne a bordo con i feriti e tre o quattro cannonate furono sparate senza alcun risultato ma allora altri deportati ebri di collera e probabilmente ancora delle libagioni della vigilia si gettarono nell'imbarcazione numero di 12 circa una seconda lancia venne ugualmente calata in mare e vi presero posto otto uomini e mentre la prima si dirigeva sull'isolotto per stranarne i coloni la seconda manovrava in maniera da forzare l'entrata del mercy la situazione diventava evidentemente pericolosissima per pencroff e ayrton e compresero che dovevano affrettarsi a tornare sulla terraferma tuttavia attesero ancora che la prima lancia fosse a tiro e due palle accortamente dirette gettarono nuovamente il disordine nel suo equipaggio poi pencroff e ayrton abbandonato il loro spostamento inseguiti da una decina di fucilate attraversarono l'isolotto con tutta la rapidità delle loro gambe si gettarono nella piroga passarono il canale nel momento in cui la seconda lancia raggiungeva la punta sud e corsero ad appiattarsi nei camini avevano appena raggiunto cyrus smith e harbert che l'isolotto era invaso e i pirati della prima imbarcazione lo percorrevano in tutti i sensi quasi nel medesimo istante nuove detonazioni esplodevano dal posto di guardia del mercy al quale la seconda lancia s'era evidentemente avvicinata uno degli otto uomini che la montavano furono mortalmente colpiti da gideon spill e tenab e l'imbarcazione stessa irresistibilmente trasportata dalla corrente sui frangenti si fracassò alla foce del mercy mai superstiti sollevando le armi sopra la testa per preservarle dal contatto con l'acqua riuscirono a toccar terra sulla riva destra del fiume poi vedendosi esposti troppo da vicino al fuoco della postazione fuggirono a precipizio in direzione della punta del relitto per portarsi fuori tiro la situazione in quel momento era dunque questa nell'isolotto dodici pirati di cui parecchi feriti indubbiamente ma con una lancia a loro disposizione nell'isola sei sbarcati ma nell'impossibilità di raggiungere granite house giacché non potevano attraversare il fiume i cui ponti erano rialzati la faccenda si mette bene aveva detto pencroff precipitandosi entro i camini che cosa ne pensate signor cyrus penso rispose l'ingegnere che il combattimento stia per prendere una forma nuova giacché non si può supporre che i deportati siano tanto poco intelligenti da continuare in condizioni così sfavorevoli per loro non potranno mai attraversare il canale disse il marinaio le carabine di nabbe del signor spilett sono là per impedirlo sapete bene che tirano più di un miglio di distanza senza dubbio rispose arbert ma che cosa potrebbero fare due carabine contro i cannoni del brigantino per ora il brigantino non è ancora nel canale rispose pencroff e se ci viene disse saru smith è impossibile perché rischierebbe di incagliarvisi e di perdersi è possibile invece disse allora ayrton i deportati possono approfittare dell'alta marea per entrare nel canale salvo arenarvisi al sopraggiungere della bassa marea in tal caso noi non potremmo sotto il fuoco dei loro cannoni tenere le nostre posizioni per tutti i diavoli dell'inferno esclamò pencroff sembra proprio che i miserabili si preparino a levar l'ancora aspettiamo rispose saru smith ma nabbe il signor spilett disse pencroff sapranno raggiungerci in tempo utile tenetevi pronto ayrton adesso devono parlare la vostra carabina e quella di spilett era purtroppo vero lo speedy cominciava a virare sull'ancora e manifestava l'intenzione di avvicinarsi all'isolotto la marea doveva continuare a salire ancora per un'ora e mezzo e essendo ormai in fase di stanca sarebbe riuscito facile al brigantino di manovrare ma quanto a entrare nel canale pencroff contrariamente all'opinione di ayrton non poteva ammettere che osasse tentarlo intanto i pirati che occupavano l'isolotto si erano poco poco portati verso la riva opposta e non erano separati dalla terra che dal canale armati soltanto di fucili non potevano fare alcun male ai coloni imboscati sia ai camini sia la foce del mercy ma non sapendoli muniti di carabina lunga portata non credevano ad essere esposti al pericolo allo scoperto dunque esploravano l'isolotto e ne percorrevano la riva la loro illusione fu di breve durata le carabine di ayrton e di gideon spilett parlarono ancora e dissero indubbiamente cose molto sgradevoli ai due di quei pirati poiché caddero diversi fu uno sbandamento generale gli altri dieci non si curarono nemmeno di raccogliere i loro compagni feriti o morti ritornarono in fretta e furia sull'altro lato dell'isolotto si gettarono nell'imbarcazione che li aveva condotti e raggiunsero il brigantino vogando a tutta forza otto di meno aveva esclamato pencroff si direbbe davvero che signor spilett e ayrton si diano la parola per agire di conserva signori rispose ayrton caricando la carabina la faccenda sta per diventare grave il brigantino salpa l'ancora è a picco gridò pencroff sì è già spedata e infatti si sentiva distintamente il ticchettio della castagna che batteva sull'argano a mano a mano che l'equipaggio del brigantino virava lo spidi era dapprima corso sull'ancora poi quando essa ebbe lasciato cominciò a derivare verso terra il vento soffiava dal largo furono i sati il gran fiocco e il parrocchetto e la nave a poco a poco si avvicinò alla terra dai due posti di vedetta del merci e dei camini i coloni lo guardavano manovrare senza dar segno di vita ma non senza una certa emozione la situazione dei coloni sarebbe divenuta davvero terribile quando si fossero trovati esposti a breve distanza al fuoco dei cannoni del brigantino senza essere in grado di rispondere utilmente come avrebbero potuto allora impedire lo sbarco ai pirati cyrus smith intuiva questo pericolo e si domandava che cosa fosse possibile fare fra poco avrebbero dovuto prendere una decisione ma quale rinchiudersi a granite house lasciarvisi assediare resistere per qualche settimana per qualche mese anche poiché i viveri vi abbondavano sta bene ma dopo i pirati sarebbero rimasti ugualmente padroni dell'isola che avrebbero devastato a loro agio e col tempo avrebbero finito per aver ragione dei prigionieri di granite house non di meno una probabilità rimaneva ancora che bob harvey non si arrischiasse col suo bastimento nel canale ma si tenesse al di fuori dell'isolotto un mezzo miglio l'avrebbe separato in tal caso dalla costa e a quella distanza i suoi colpi potevano non essere estremamente dannosi mai ripeteva pencroff mai questo bob harvey se è un buon marinaio entrerà nel canale e gli sa troppo bene che vorrebbe dire a rischiare il brigantino per poco che il mare diventi cattivo e che cosa sarebbe di lui senza la sua nave intanto il brigantino sarà avvicinato all'isolotto ed era evidente che cercava di raggiungerne l'estremità inferiore spirava una brezza leggera e siccome la corrente aveva allora perduto molto della sua forza bob harvey era assolutamente padrone di manovrare come voleva la rotta precedentemente seguita dalle imbarcazioni gli aveva dato agio di prendere conoscenza del canale ed egli vi si era sfrontatamente introdotto il suo piano era anche troppo evidente voleva dar fondo all'ancora dinnanzi ai camini e di là rispondere con granate e palle di cannone alle palle che avevano già decimato il suo equipaggio in breve lo speedy raggiunse la punta dell'isolotto e lo scapolò con facilità la randa fu spiegata e stringendo il vento il brigantino si trovò allora proprio all'altezza del mercy banditi vengono proprio nel canale esclamò pencroff in quel momento cyrus smith ayrton il marinaio e harbert furono raggiunti da nab e gideon spirit il cronista e il suo compagno avevano stimato opportuno di abbandonare l'appostamento del mercy dove non potevano far più nulla contro il bastimento e avevano agito saggiamente era meglio che i coloni si trovassero riuniti nel momento in cui stava indubbiamente per impegnarsi un'azione decisiva gideon spirit e nab erano arrivati svignandosela dietro le rocce ma non senza essere fatti segno da una granuola di palle che però non li avevano colpiti spirit nab aveva gridato l'ingegnere non siete feriti no rispose il giornalista alcune contusioni soltanto per le balle di rimbalzo ma quel dannato brigantino entra nel canale se rispose pencroff e fra meno di dieci minuti sarà alla fonda davanti a granite house avete un piano cyrus domandò il giornalista bisogna rifugiarci in granite house finché siamo in tempo e mentre i pirati non possono vederci questa è pure la mia opinione rispose gideon spirit ma una volta rinchiusi là dentro prenderemo consiglio dalle circostanze rispose l'ingegnere in cammino dunque e sbrighiamoci disse il giornalista non volete signor cyrus che a irton e io restiamo qui chiese pencroff a che scopo pencroff rispose cyrus smith no non separiamoci non c'era un istante da perdere i coloni lasciarono i camini il ritorno di una leggera cortina di nebbia impediva la loro vista al brigantino ma due o tre detonazioni e il fragore delle palle sulle rocce gli avvertirono che lo spidi era brevissima distanza precipitarsi nell'ascensore hissarsi fino alla porta di granite house dove top e giuppa erano rinchiusi sin dal giorno prima e slanciarsi nel salone fu l'affare di un momento era tempo perché i coloni scorsero attraverso le frasche lo spidi circondato di fumo che filava nel canale dovettero anzi tirarsi da parte poiché le scariche erano incessanti e i proiettili dei quattro cannoni colpivano ciecamente sia la postazione del mercy benché non fosse più occupata sia i camini le rocce si erano frantumate e grida di evviva accompagnavano ogni detonazione ciò nonostante si poteva sperare che granite house venisse risparmiata in virtù della precauzione presa da cyrus smith di dissimularne le finestre ma una palla di cannone infilando il vano della porta penetrò nel corridoio maledizione siamo forse scoperti esclamò pencroff forse i coloni non erano stati veduti ma certo bob harvey aveva ritenuto opportuno andare un proiettile attraverso il fogliame sospetto che mascherava quella parte dell'alta muraglia poco dopo i colpi raddoppiarono e un altro proiettile fendendo la cortina di fronte lasciò scorgere un'apertura spalancata nel granito la situazione dei coloni era disperata il loro rifugio era stato scoperto essi non potevano opporre ostacoli a quei proiettili né difendere la muraglia le cui schegge volavano come mitraglie intorno a loro non potevano che rifugiarsi nel cunicolo superiore di granite house e abbandonare la loro dimora a tutte le devastazioni quando a un tratto un rumore sordo si fece udire seguito da grida spaventose cyrus smith e i suoi si precipitarono a una delle finestre il brigantino irresistibilmente sollevato su una specie di tromba liquida s'era aperto in due e in meno di dieci secondi venne inghiottito assieme al suo equipaggio di criminali capitolo 4 sono saltati gridò arbert si saltati come se ayrton avesse dato fuoco alle polveri rispose pencroff gettandosi nell'ascensore assieme a nab e al ragazzo ma ma che cosa è accaduto domandò gideon spilett ancora stupefatto per quella inattesa soluzione a questa volta sapremo rispose vivamente l'ingegnere che cosa sapremo più tardi più tardi venite spirit l'importante che i pirati siano stati sterminati e cyrus smith traendo con sé il giornalista e ayrton raggiunse sul greto pencroff nab e arbert non si vedeva più nulla del brigantino nemmeno l'alberatura dopo essere stato sollevato dalla tromba si era inclinato sul fianco ed era colato a fondo in quella posizione senza dubbio in seguito all'improvvisa apertura di qualche enorme via d'acqua ma siccome in quel canale il punto non misurava più di 20 piedi di profondità era certo che il fianco del brigantino immerso sarebbe riemerso durante la bassa marea alcuni relitti galleggiavano la superficie delle acque si vedeva tutto una droma costituita da alberi e pennoni di rispetto stie con i loro volatili ancora vivi casse e barili che a poco a poco salivano a galla dopo essere sfuggiti dai boccaporti ma non c'era nulla alla deriva nessun rottame del bastimento sommerso né tavole del ponte né fasciame dello scafo il che rendeva abbastanza inesplicabile l'affondamento improvviso dello spidi tuttavia i due alberi che erano stati spezzati a pochi piedi sopra la mastra dopo aver rotto stargli e sartie risalirono tosto alla superficie del canale con le loro vele di cui alcune spiegate e altre serrate ma non bisognava lasciare al riflusso il tempo di portare via tutte quelle ricchezze a irton e pencroff si gettarono quindi nella piroga con l'intento di ormaggiare quei rottami alla spiaggia dell'isola oppure a quelle dell'isolotto ma mentre stavano per imbarcarsi una riflessione di gideon spilett li arrestò e i sei pirati sbarcati sulla riva destra del mercy disse gli infatti non bisognava dimenticare che i sei uomini la cui lancia sarà spezzata sugli scogli si erano riavuti e si erano quindi ritirati sulla punta del relitto i coloni guardarono in quella direzione nessuno dei fuggitivi era in vista forse dopo aver veduto il brigantino inabissarsi nelle acque del canale avevano preso la fuga nell'interno dell'isola più tardi ci occuperemo anche di loro disse allora cyrus smith possono ancora essere pericolosi perché sono armati ma insomma sei contro sei le forze sono uguali badiamo dunque alle cose più urgenti a irton e pencroff si imbarcarono sulla piroga e vogarono vigorosamente verso i resti della nave affondata la marea era allora stanca e altissima poiché la luna era nuova da due giorni almeno un'ora abbondante doveva dunque trascorrere prima che lo scafo del brigantino emergesse dalle acque del canale a irton e pencroff ebbero il tempo di ormeggiare gli alberi e i pennoni per mezzo di cime la cui estremità fu portata sul greto di granite house ove appunto i coloni unendo i loro sforzi riuscirono a dalare a terra quei relitti poi la piroga raccolse tutto quel che galleggiava stie barili casse e ogni cosa fu immediatamente trasportata ai camini anche alcuni cadaveri galleggiavano fra gli altri a irton riconobbe quello di bob harvey e lo mostrò al compagno dicendo con voce commossa ecco pencroff quello che sono stato anch'io ma quello che non siete più mio bravo a irton rispose il marinaio era però strano che i corpi galleggianti fossero in così piccolo numero se ne contavano cinque o sei appena e il riflusso cominciava già a spingerli in alto mare quasi certamente i pirati sorpresi dall'affondamento non avevano avuto il tempo di fuggire ed essendosi il bastimento inclinato sul fianco erano rimasti per la maggior parte prigionieri sotto le impavesate il riflusso che stava per trascinare verso l'alto mare i cadavere di quei miserabili avrebbe risparmiato i coloni la triste bisogna di sotterrarli in qualche angolo della loro isola per due ore cyrus smith e i suoi compagni furono unicamente occupati a tirare secchio in rottami a mollare le infieriture delle vele che erano intatte e a metterle ad asciugare sulla sabbia essi parlavano assai poco assorti come erano nel lavoro ma quanti pensieri attraversavano la loro mente il possesso di quel brigantino o meglio di tutto quanto esso conteneva rappresentava una fortuna infatti una nave è come un piccolo mondo completo e il materiale della colonia stava quindi per accrescersi di un buon numero d'oggetti utili sarebbe stato in grande l'equivalente della cassa trovata alla punta del relitto e inoltre pensava pencroff perché dovrebbe essere impossibile rimettere a galla il brigantino se non c'è che una via d'acqua si può turarla e una nave di tre o 400 tonnellate è un vascello in confronto al nostro bonadventure e si può andare lontano con essa si va dove si vuole bisognerà che il signor cyrus a hilton e io esaminiamo la cosa ne vale la pena infatti se il brigantino era ancora in grado di navigare le probabilità di rimpatrio dei coloni dell'isola di lincoln venivano a essere singolarmente accresciute ma per risolvere questo importante quesito conveniva aspettare che la marea fosse del tutto discesa affinché lo scafo del brigantino potesse essere visitato in ogni sua parte quando i relitti si trovavano al sicuro sulla spiaggia cyrus smith e i suoi compagni si riunirono per una rapida colazione morivano letteralmente di fame fortunatamente la dispensa non era lontana e nab passava per un capocuoco svelto si mangiò dunque vicino ai camini e durante il pasto non parlarono che dell'avvenimento inatteso che aveva miracolosamente salvato la colonia miracolosamente è la parola più adatta ripeteva pencroff giacché bisogna confessare che quei bricconi sono morti proprio al momento giusto granite house cominciava a diventare inabitabile e immaginate pencroff chiese il giornalista come il fatto sia avvenuto e chi abbia potuto provocare l'esplosione del brigantino signor spilett niente di più semplice rispose pencroff una nave di pirati non è tenuta come una nave da guerra e dei deportati non sono dei marinai le cale del brigantino erano certamente aperte perché ci cannonneggiava senza tregua ed è bastato un'imprudenza o una disattenzione per far saltare in aria la baracca signor cyrus disse arbert ciò che mi stupisce però è che questa esplosione non abbia prodotto maggiore effetto la detonazione non è stata forte e insomma pochi sono i rottami e le tavole di velte sembrerebbe che il bastimento sia piuttosto colato a picco che saltato ti stupisce questo figlio mio domandò l'ingegnere sì signor cyrus e meraviglia anche me arbert rispose l'ingegnere ma quando visiteremo lo scafo del brigantino avremo la spiegazione del fatto ah diamine signor cyrus disse pencroff non pretenderete spero che lo speedy sia colato così semplicemente come un bastimento che urta contro uno scoglio perché no osservò nab mi sono degli scogli nel canale bravo nab rispose pencroff non hai aperto gli occhi al momento buono un istante prima di affondare il brigantino l'ho veduto perfettamente si è sollevato su di un'onda enorme ed è poi ricaduto inclinandosi sulla sinistra ora se avesse soltanto urtato sarebbe colato molto tranquillamente come ogni onesta nave che cola picco ma è che appunto non si trattava di un'onesta nave rispose nab insomma vedremo pencroff soggiunse l'ingegnere vedremo aggiunse il marinaio ma scommetterei la testa che non ci sono rocce nel canale via signor cyrus vorreste forse dire che c'è ancora qualcosa di misterioso in questo avvenimento cyrus smith non rispose ad ogni modo disse gideon spilett urto esplosione converrete pencroff che è arrivato proprio puntino se rispose il marinaio ma non è questa la faccenda domando al signor smith se vede in quanto è avvenuto qualcosa di soprannaturale non mi pronuncio pencroff disse l'ingegnere questo è tutto quanto vi posso rispondere risposta che non soddisfece minimamente pencroff egli propendeva per un'esplosione e non volle ricredersi mai avrebbe potuto ammettere che in quel canale formato da un letto di sabbia fine come quello della spiaggia stessa e che egli aveva spesso attraversato con la bassa marea vi fosse uno scoglio ignorato ed altronde nel momento in cui il brigantino affondava la marea era alta vale a dire aveva più acqua sotto la chiglia di quante gliene occorresse per superare senza urtarli tutti gli scogli che si fossero mostrati scoperti a bassa marea dunque non poteva esservi stato urto dunque il bastimento non aveva toccato dunque era saltato in aria e bisognava convenire che il ragionamento del marinaio non mancava di una certa logica verso l'una e mezzo i coloni si imbarcarono nella piroga e si recarono sul luogo del disastro era deplorevole che le due imbarcazioni del brigantino non avessero potuto essere recuperate una come noto sarà fracassata la foce del mersi ed era assolutamente fuori uso l'altra era sparita con il brigantino e schiacciata indubbiamente dal medesimo non era più riapparsa intanto lo scafo dello spidi cominciava a mostrarsi al di sopra della linea dell'acqua il brigantino era talmente inclinato sul fianco che dopo aver rotto gli alberi sotto il peso della zavorra spostata dalla caduta si trovava quasi con la chiglia in aria era stato veramente capovolto dall'inesplicabile ma spaventosa azione sottomarina che si era nello stesso tempo manifestata con un'enorme tromba d'acqua i coloni fecero il giro dello scafo e via via che la marea calava poterono conoscere se non la causa che aveva provocato la catastrofe perlomeno l'effetto prodotto a prua ai due lati della chiglia da sette ad otto piedi prima della ruota di prua i fianchi del brigantino erano spaventevolmente squarciati per una lunghezza di venti piedi almeno saprivano colà due larghe falle che sarebbe stato impossibile turare non solo la fodera di rame e il fasciame erano scomparsi ridotti senza dubbio in polvere ma persino dell'ossatura della nave della chiodatura e delle caviglie di legno che la tenevano insieme non vera più traccia lungo tutto lo scafo sino alle forme di poppa i corsi disgiunti non tenevano più la falsa chiglia era stata divelta con violenza inesplicabile e la chiglia stessa strappata dal paramezzale in parecchi punti era rotta in tutta la sua lunghezza per mille diavoli esclamò pencroff ecco una nave che sarà difficile rimettere a galla dite impossibile osservò ayrton in ogni caso fece osservare a sua volta gideon spilett al marinaio l'esplosione se esplosione c'è stata ha prodotto degli strani effetti ha provocato lo squarcio dello scafo nelle sue parti inferiori invece di far saltare il ponte l'opera morta queste larghe aperture sembrano siano state fatte piuttosto dall'urto di uno scoglio che dall'esplosione di un deposito di polvere non ci sono scogli nel canale replicò il marinaio ammetto tutto quello che volete eccetto l'urto contro una secca cerchiamo di penetrare nell'interno del brigantino disse l'ingegnere forse sapremo che cosa pensare circa la causa della sua distruzione era la miglior decisione da prendere e dal resto conveniva inventariare tutte le ricchezze contenute a bordo e disporre per il loro recupero l'accesso nell'interno del brigantino era facile la marea scendeva sempre e il di sotto del ponte divenuto ora il di sopra per il rovesciamento dello scafo era praticabile la zavorra composta di pesanti pani di ghisa l'aveva sfondato in più punti si sentiva il mare rumoreggiare passando per le fessure dello scafo cyrus smith e i suoi compagni con lascia in mano avanzavano sul ponte molto danneggiato casse d'ogni sorta lo ingombravano e siccome erano rimaste in acqua solo per un tempo limitato il loro contenuto probabilmente non era variato i coloni si occuparono dunque di mettere tutto quel carico in un posto sicuro l'acqua non sarebbe risalita che entro alcune ore che furono utilizzate nel modo più profittevole a hirton e pencroff avevano fissato ad un'apertura praticata nello scafo un paranco che serviva ad allare i barili e le casse la piroga riceveva il materiale e lo trasportava immediatamente sulla spiaggia si raccoglieva tutto indistintamente salvo fare più tardi una cernita degli oggetti recuperati in ogni caso i coloni poterono subito constatare con viva soddisfazione che il brigantino possedeva un carico molto svariato un assortimento ad articoli di tutte le specie utensili manufatti strumenti il carico cioè dei bastimenti che fanno il grande cabotaggio della polinesia forse i coloni avrebbero trovato un po di tutto e bisognava convenire che era appunto quello che loro occorreva tuttavia e Cyrus Smith l'osservava con tacita meraviglia non solo lo scafo del brigantino come se detto aveva sofferto enormemente per l'urto qualunque fosse la sua origine che aveva determinato la catastrofe ma tutta la struttura interna era devastata specialmente verso prua paratie e puntelli erano schiantati come se qualche formidabile granata fosse scoppiata nell'interno del brigantino i coloni poterono portarsi facilmente da prua a poppa dopo aver rimosso le casse che venivano estratte a poco a poco non erano pesanti né difficile a rimuoversi ma semplici colli il cui stivaggio era reso irriconoscibile i coloni giunsero sino a poppa del brigantino nella parte un tempo sormontata dal cassarretto secondo l'indicazione di Ayrton qui bisognava cercare la cala della polvere poiché Cyrus Smith pensava che essa non fosse esplosa era possibile che alcuni barili potessero essere recuperati e che la polvere ordinariamente contenuta in involucri metallici non avesse sofferto il contatto dell'acqua così era infatti in mezzo a una grande quantità di proiettili i coloni trovarono una ventina di barili internamente foderati di rame che furono estratti con precauzione Pencroff si convinse con i suoi propri occhi che la distruzione dello spidi non poteva essere attribuita a un'esplosione la parte dello scafo in cui si trovava la cala della polvere era precisamente quella che aveva sofferto di meno possibile esclamò l'ostinato marinaio eppure non può trattarsi di uno scoglio nel canale non ci sono scogli ma allora che cos'è accaduto chiese Albert io non ne so niente rispose Pencroff il signor Cyrus non ne sa niente e nessuno sa ne saprà mai nulla in quelle diverse ricerche erano trascorse parecchie ore e il flusso cominciava già a farsi sentire di nuovo bisogno a sospendere i lavori di recupero del resto non c'era da temere che la carcassa del brigantino venisse portata via dal mare già che era già affondata nella sabbia del fondo e così solidamente piantata come se fosse ancorata si poteva dunque senza inconvenienti aspettare il prossimo riflusso per riprendere le operazioni ma il bastimento era proprio condannato e sarebbe anzi stato necessario affrettarsi a recuperare i resti dello scafo già che non avrebbe tardato scomparire nelle sabbie mobili del canale erano le cinque di sera la giornata era stata dura per i lavoratori mangiarono con grande appetito e per quanto stanchissimi dopo il pasto non resistettero al desiderio di visitare le casse di cui si componeva il carico dello spidi la maggior parte di esse conteneva vestiti confezionati i quali come si può immaginare furono ben accolti c'era di che vestire un'intera colonia biancheria per tutti gli usi calzature per tutti i piedi eccoci fin troppo ricchi esclamava pencroff ma come utilizzeremo questa roba e ogni momento l'allegro marinaio prorompeva in evviva via via che trovava barili di tafia barili di tabacco armi da fuoco armi bianche balle di cotone strumenti agricoli utensili da carpentiere da falegname da fabbro casse di sementi di ogni specie che la breve permanenza in acqua non aveva danneggiato come tutte quelle cose sarebbero venute a proposito due anni prima ma insomma anche allora sebbene gli industriosi coloni si fossero già provveduti di utensili quelle ricchezze avrebbero trovato il loro impiego lo spazio dove collocarle non mancava nei magazzini di granite house ma in quel giorno non si poteva immagazzinare tutto per mancanza di tempo non bisognava poi dimenticare che sei superstiti dell'equipaggio dello spidi avevano posto piede nell'isola che probabilmente erano dei furfanti di primordine e che bisognava quindi stare in guardia benché il ponte del merci e i punticelli fossero alzati quei detenuti non erano uomini da essere imbarazzati per un fiume o un ruscello e spinti dalla disperazione manigoldi simili potevano essere temibili più tardi si sarebbe deciso quali disposizioni convenisse prendere verso di loro ma intanto bisognava vegliare sulle casse sui colli ammucchiati nei pressi dei camini e di questo appunto s'occuparono i coloni durante la notte dandosi il cambio tuttavia la notte passò senza che i pirati tentassero qualche aggressione mastro giuppe top di guardia ai piedi di granite house avrebbero subito dato l'allarme i tre giorni seguenti 19 20 e 21 furono impiegati a mettere in salvo tutto quello che poteva avere un valore o un'utilità qualsiasi sia del carico sia dell'attrezzatura del brigantino a bassa marea si vuotava la stiva a marea alta si mettevano in magazzino gli oggetti recuperati gran parte del rivestimento in rame poteva essere strappato dallo scafo che si insabbiava ogni giorno di più ma prima che le sabbie avessero inghiottito gli oggetti più pesanti che erano colati a fondo ayrton e pencroff essendosi più volte immersi fino al letto del canale ritrovarono le catene e le ancore del brigantino i pani di ghisa costituenti la zavorra e persino i quattro cannoni che sollevati per mezzo di barili vuoti poterono essere alati a terra come si vede l'arsenale della colonia non aveva guadagnato meno delle dispense dei magazzini di granite house da quell'avvenimento pencroff sempre entusiasta nei suoi piani parlava già di costruire una batteria che avrebbe dominato il canale e la foce del fiume con quattro cannoni egli si impegnava ad impedire a qualsiasi flotta per quanto potente di avventurarsi nelle acque dell'isola di lincoln intanto quando del brigantino non rimaneva ormai che una carcassa senza utilità il tempo divenne cattivo e finì per distruggerla cyrus smith aveva avuto l'intenzione di farla saltare per poi raccoglierne i rottami sulla costa ma un forte vento di nord-est e una mareggiata gli permisero ad economizzare la polvere infatti nella notte dal 23 al 24 lo scafo del brigantino fu interamente sconquassato e una parte dei suoi resti rigettati dal mare sarenò sul greto quanto alle carte di bordo è sottinteso che sebbene cyrus smith avesse frugato minuziosamente gli armadi del cassarretto non ne trovò traccia evidentemente i pirati avevano distrutto tutto quanto concerneva il capitano e l'armatore dello spidi e siccome il nome del suo porto di iscrizione non era indicato sul quadro di poppa nulla poteva nemmeno far supporre la sua nazionalità tuttavia dalla conformazione della prora ayrton e pencroff erano propensi a credere trattarsi di un brigantino di costruzione inglese otto giorni dopo la catastrofe o piuttosto dopo la felice ma inesplicabile soluzione dell'avventura cui la colonia doveva la sua salvezza non si vedeva più nulla della nave nemmeno a marea bassa i resti erano andati dispersi e granita e house si era arricchita di quasi tutto quello che la nave aveva contenuto però il mistero che avvolgeva la sua strana distruzione indubbiamente non sarebbe mai stato chiarito se il 30 novembre nab girando per il greto non avesse trovato un pezzo di uno spesso cilindro di ferro che portava delle tracce di esplosione detto cilindro era contorto e aveva gli orli slabbrati come se avesse subito l'azione di una sostanza esplosiva nab portò quel pezzo di metallo al suo padrone che sarà loro occupato con i compagni nell'officina dei camini cyrus smith esaminò attentamente il cilindro poi voltandosi verso pencroff amico gli disse persistete nel sostenere che lo speedy non è perito in seguito a un urto se il signor cyrus sapete quanto me che non ci sono scogli nel canale ma se avesse urtato in questo pezzo di ferro disse l'ingegnere mostrando il cilindro spezzato che cosa questo pezzettino di tubo esclamò pencroff in tono di assoluta incredulità amici rispose cyrus smith vi ricordate che prima di sommergersi il brigantino si è sollevato in cima a una vera tromba d'acqua sì signor cyrus rispose arbert ebbene volete sapere da che cosa era stata sollevata quella tromba da questo disse l'ingegnere mostrando il tubo spezzato questo replicò pencroff sì questo cilindro è tutto quello che rimane di una torpedine e chi l'aveva messa là questa torpedine domandò pencroff che non voleva arrendersi tutto quanto posso dirvi è che non sono stato io rispose cyrus smith ma essa c'era e avete potuto giudicare voi stessi la sua incomparabile potenza capitolo 5 così dunque con l'esplosione sottomarina della torpedine tutto si spiegava cyrus smith che durante la guerra dell'unione aveva avuto occasione di sperimentare questi terribili congegni distruttivi non poteva sbagliarsi appunto in seguito all'azione di quel cilindro riempito di una sostanza esplosiva nitroglicerina picrato o altra materia della stessa natura l'acqua del canale si era sollevata come una tromba e il brigantino colpito nella carena era colato istantaneamente a picco perciò era stato impossibile rimetterlo a galla tanto erano stati notevoli i danni subiti dal suo scafo a una torpedine capace di distruggere una corazzata come una semplice barca da pesca lo speedy non aveva potuto resistere sì tutto si spiegava tutto eccetto la presenza di quella torpedine nelle acque del canale amici rispose allora cyrus smith ormai non possiamo più mettere in dubbio la presenza di un essere misterioso un naufrago come noi forse abbandonato sulla nostra isola e io lo dico perché anche ayrton sia il corrente di tutto quello che di strano è successo in due anni chi è il benefico sconosciuto il cui intervento così propizio per noi se manifestate in frequenti circostanze non posso nemmeno immaginarlo che interesse egli ha ad agire così acelarsi dopo aver reso tanti servigi io non posso comprenderlo ma i suoi servigi non sono per questo meno veri e solo può rendergli un uomo che dispone di una potenza prodigiosa ayrton deve essergli grato quanto noi poiché se è stato lo sconosciuto a salvarmi dalle onde dopo la caduta del pallone evidentemente è stato ancora lui che ha scritto il documento che ha messo la bottiglia sulla nostra rotta e ci ha fatto conoscere la situazione del nostro compagno aggiungo che quella cassa tanto convenientemente provvista di tutto ciò che ci mancava deve essere stato lui a condurla incagliarsi alla punta del relitto che il fuoco veduto sulle colline dell'isola grazie al quale poteste approdare lo accese lui che il pallino di piombo trovato nel corpo del pecari si deve a una sua schioppettata che questa torpedine che ha distrutto il brigantino è stata immersa nel canale da lui in una parola tutti i fatti inesplicabili di cui non possiamo renderci conto sono dovuti a quest'essere misterioso perciò chiunque egli sia naufrago esiliato in quest'isola saremo ingrati se ci credessimo sciolti da ogni obbligo di riconoscenza verso di lui abbiamo contratto un debito e spero che un giorno lo pagheremo avete ragione di parlare così mio caro cyrus rispose gideon spilett sì c'è un essere quasi onnipotente nascosto in qualche parte dell'isola e la sua influenza è stata singolarmente utile per la nostra colonia aggiungerò che questo sconosciuto mi sembra disponga di mezzi d'azione che avrebbero del soprannaturale se il soprannaturale fosse accettabili nei fatti della vita pratica è lui che si mette in comunicazione segreta con noi attraverso il pozzo di granite house e ha così conoscenza di tutti i nostri proponimenti è stato lui che ci ha messo a portata di mano la bottiglia quando il canotto ha fatto la sua prima escursione in mare è stato lui che ha gettato fuori top dalle acque del lago e ha ucciso il dugongo è stato lui come tutto induce a credere che ha salvato voi cyrus dai flutti e in circostanze in cui chiunque altro che fosse stato un uomo comune non avrebbe potuto agire se è sempre stato lui egli possiede una potenza che lo rende padrone degli elementi l'osservazione del cronista era giusta e ognuno la comprendeva sì rispose cyrus smith se abbiamo ormai la certezza dell'intervento di un essere umano bisogna convenire che esso a sua disposizione dei mezzi che sono superiori a quelli di cui dispone l'umanità qui è ancora il mistero ma se scopriremo l'uomo scopriremo anche il mistero il problema è perciò questo dobbiamo rispettare l'incognito di quest'essere generoso o dobbiamo fare di tutto per arrivare fino a lui qual è la vostra opinione la mia opinione rispose pencroff è che chiunque sia è un bravo uomo e a tutta la mia stima sia rispose cyrus smith ma questa non è una risposta sufficiente pencroff padrone disse allora nab la mia idea è che potremo cercare quanto vorremmo il signore di cui si tratta ma che non lo scopriremo che quando piacerà a lui non è sciocco quello che dici nab rispose pencroff sono del parere di nab rispose gideon spilett ma penso che non sia una ragione per non tentare l'avventura che noi troviamo no quest'essere misterioso avremo almeno compiuto il nostro dovere verso di lui e tu figlio mio vuoi dirci il tuo parere disse l'ingegnere rivolgendosi ad arbert esclamò arbert con lo sguardo animato io vorrei ringraziare colui che ha salvato prima voi e poi noi lo credo ragazzo mio rispose pencroff anch'io lo vorrei e noi tutti lo vorremmo io non sono curioso ma darei volentieri uno dei miei occhi per vedere di persona quell'uomo mi sembra che debba essere bello grande forte con una bella barba con dei capelli simili a raggi del sole e coricato su una massa di nuvole con un gran globo in mano e pencroff disse gideon spilett ma voi ci fate il ritratto del padre eterno possibilissimo signor spilett replicò il marinaio ma insomma io me lo figuro così e voi ayrton chiese l'ingegnere signor smith rispose ayrton io non posso darvi un consiglio in questa circostanza quello che farete voi sarà ben fatto se vorrete associarmi alle vostre ricerche sarò pronto a seguirvi vi ringrazio ayrton rispose cyrus smith ma vorrei una risposta più diretta alla domanda che vi ho fatta voi siete nostro compagno vi siete già parecchie volte sacrificato per noi e come tutti gli altri dovete essere consultato quando si tratta di prendere qualche decisione importante parlate dunque signor smith rispose ayrton penso che dobbiamo fare tutto il possibile per ritrovare l'ignoto benefattore potrebbe darsi che sia solo forse egli soffre forse è un'esistenza da rigenerare io pure come avete detto ho un debito di riconoscenza verso di lui e certamente lui non può essere stato che lui a venire all'isola di tabor dove ha trovato il miserabile che avete conosciuto e vi sapere che c'era là un infelice da salvare per merito suo dunque sono ridivenuto un uomo non me ne dimenticherò mai allora è deciso disse cyrus smith cominceremo le nostre ricerche al più presto possibile non lasceremo inesplorata una sola parte dell'isola la frugheremo fino nei suoi più segreti nascondigli e l'amico sconosciuto ce lo perdoni grazie alla nostra intenzione durante alcuni giorni i si dedicarono attivamente ai lavori della fienagione e della mietitura prima di mettere in esecuzione il loro proposito di esplorare le parti ancora sconosciute dell'isola volevano che ogni lavoro indispensabile fosse finito era anche il tempo in cui si faceva il raccolto dei diversi ortaggi provenienti dalle piante dell'isola di tabor tutto era dunque da mettere in magazzino e fortunatamente lo spazio non mancava in granite house dove si sarebbero potute riporre tutte le ricchezze dell'isola i prodotti della colonia erano là metodicamente sistemati e in un luogo sicuro al riparo dalle bestie dagli uomini non verranno certo da temere i danni dell'umidità in mezzo a quel compatto masso di granito parecchie delle scavazioni naturali situate nel cunicolo superiore furono ingrandite e approfondite sia con il piccone che con le mine e granite house divenne così un deposito generale contenente gli approvvigionamenti le munizioni gli strumenti e gli utensili di ricambio in una parola tutto il materiale della colonia i cannoni provenienti dal brigantino erano dei bei pezzi in acciaio fuso che in seguito alle istanze di pencroff furono issati per mezzo di gru fino al pianerottolo di granite house alcune aperture furono praticate fra una finestra e l'altra e presto si videro sporgere le loro bocche lucenti attraverso la parete granitica da quell'altezza le bocche da fuoco dominavano veramente tutta la vaia dell'unione era come un piccolo stretto di gibilterra e ogni nave che fosse venuta alla fonda al largo dell'isolotto sarebbe stata inevitabilmente esposta al fuoco di quella batteria aerea signor cyrus disse un giorno pencroff era l'otto novembre adesso che l'armamento è terminato dobbiamo provare la gittata dei pezzi credete che sia utile rispose cyrus smith è più che utile è necessario altrimenti come conoscere la distanza alla quale possiamo mandare uno di questi bei proiettili proviamo dunque pencroff rispose l'ingegnere tuttavia credo che ci convenga fare l'esperimento adoperando non la polvere ordinaria di cui desidero lasciare intatta la riserva ma la pirossilina che non ci mancherà mai questi cannoni potranno sopportare la deflagrazione della pirossilina chiese il giornalista che non desiderava meno di pencroff far la prova dell'artiglieria di granite house credo di sì d'altronde soggiunse l'ingegnere agiremo prudentemente l'ingegnere aveva notato che quei cannoni erano di eccellente fabbricazione ed egli se ne intendeva fatti in acciaio temperato e a retrocarica dovevano poter sopportare una carica considerevole e di conseguenza avere un enorme portata infatti dal punto di vista dell'effetto utile la traiettoria descritta della palla da cannone deve essere tesa il più possibile e questa tensione non si può ottenere che a condizione che il proiettile sia animato da una grandissima velocità iniziale ora disse sarah smith ai compagni la velocità iniziale è in ragione della quantità di polvere utilizzata nella fabbricazione dei pezzi tutto sta nell'impiego di un materiale quanto più possibile resistente e l'acciaio è incontestabilmente di tutti i metalli quello che resiste meglio ho dunque ragione di pensare che i nostri cannoni sopporteranno senza rischio l'espansione dei gas della pirossilina e daranno risultati eccellenti ne saremo ancora più certi quando avremo provato disse pencroff è inutile dire che i quattro cannoni erano in perfetto stato dopo che furono tolti dall'acqua il marinaio si era assunto il compito di lucidarli coscienziosamente quante ore aveva passato a sfregarli ungerli di grasso lisciarli a pulire il meccanismo dell'otturatore e la vite di pressione e adesso i pezzi erano brillanti come a bordo di una fregata della marina degli stati uniti in quel giorno dunque alla presenza di tutto il personale della colonia mastro giup e top compresi i quattro cannoni furono successivamente provati vennero caricati con pirossilina tenendo conto della sua potenza esplosiva la quale come si è detto è quadrupla di quella della polvere ordinaria i proiettili che dovevano lanciare erano cilindro conici pencroff tenendo la corda della miccia era pronto a far fuoco a un segno di cyrus smith il colpo partì il proiettile diretto sul mare passò il di sopra dell'isolotto e andò a perdersi a largo a una distanza che non fu possibile calcolare con esattezza il secondo cannone fu puntato sulle estreme rocce della punta del relitto e il proiettile colpendo una pietra guzza a circa tre miglia da granite house la fece volare in schegge era arbert che aveva puntato il cannone e sparato e fu molto fiero del suo colpo di prova ma pencroff ne fu più fiero di lui un colpo simile e tutto il merito spettava il suo caro ragazzo il terzo proiettile lanciato stavolta sulle dune che formavano la costa superiore della baia dell'unione colpì la sabbia a una distanza di almeno quattro miglia poi dopo aver rimbalzato si perdette in mare entro una nube di spuma per il quarto pezzo cyrus smith forzò un po la carica allo scopo di provarne l'estrema portata poi fu accesa la miccia a mezzo di una lunga corda poiché ognuno si era tratto in disparte per l'eventualità che esplodesse fu udita una violenta detonazione ma il pezzo aveva resistito e i coloni che si erano precipitati alla finestra poterano vedere il proiettile sfiorare smussandole le rocce del capo mandibola a circa cinque miglia di distanza da granite house e scomparire poi nel golfo del pesce cane ebbene signor cyrus esclamò pencroff i cui evviva avevano potuto gareggiare con le detonazioni prodotte dalle cannonate che cosa dite della nostra batteria tutti i pirati del pacifico non hanno che da presentarsi davanti a granite house non uno sbarcherà adesso senza il nostro permesso credete a me pencroff rispose l'ingegnere è meglio non farne l'esperienza a proposito riprese il marinaio e dei sei furfanti che s'aggirono per l'isola che cosa ne faremo li lasceremo scorazzare per le nostre foreste i nostri campi e le nostre praterie sono veri giaguari quei pirati e mi sembra che non dobbiamo esitare a trattarli come tali che cosa ne pensate a hilton soggiunse pencroff voltandosi verso il compagno a hilton esitò sulle prime a rispondere e cyrus smith deplorò che pencroff gli avesse un po' sbadatamente rivolto quella domanda provo quindi una forte commozione quando hilton rispose con voce umile sono stato uno di quei giaguari signor pencroff e non ho il diritto di parlare e si allontanò lentamente pencroff aveva compreso maledetta bestia che sono esclamò povero hilton eppure egli ha diritto di parlare qui quanto chiunque altro si disse gideon spilett ma la sua riservatezza gli fa onore e conviene rispettare il sentimento di dolore che conserva per il suo triste passato ho inteso signor spilett rispose il marinaio e non ricadrò più in simile indelicatezza prefererei mangiarmi la lingua piuttosto che esser causa di dispiacere ad a hilton ma ritorniamo al nostro argomento mi sembra che quei banditi non abbiano diritto ad alcuna pietà e che dobbiamo più presto sbarazzarne l'isola è proprio questo il vostro parere pencroff chiese l'ingegnere assolutamente e prima di dar loro la caccia senza misericordia non vorreste aspettare che facciano nuovi atti di ostilità contro di noi quello che hanno fatto non basta dunque domandò pencroff che non capiva quelle esitazioni possono rinascere a nuovi sentimenti e forse pentirsi pentirsi quelli esclamò il marinaio alzando le spalle pencroff pensa ad a hilton disse allora a harbert prendendo la mano del marinaio è tornato un uomo onesto pencroff guardò i suoi compagni uno dopo l'altro non avrebbe mai creduto che la sua proposta dovesse provocare un'esitazione qualunque la sua rude natura non poteva ammettere che si transigesse con quei malfattori sbarcati nell'isola con i complici di bob harvey gli assassini dell'equipaggio dello speedy ed egli li considerava come bestie feroci che bisognava distruggere senza esitazione e senza rimorsi to fece ho tutti contro volete essere generosi con quei miserabili sia pure voglia il cielo che non dobbiamo pentircene quale pericolo possiamo correre disse harbert se stiamo in guardia fece il giornalista che non si pronunciava sono sei e bene armati se ciascuno di loro si imbosca in un angolo e spara su di noi saranno in breve i padroni della colonia perché non l'hanno ancora fatto disse harbert indubbiamente perché trovano che non è nel loro interesse del resto noi pure siamo sei bene bene rispose pencroff che nessun ragionamento avrebbe potuto convincere lasciamo quei galantuomini dedicarsi alle loro piccole occupazioni e non ci pensiamo più andiamo pencroff disse nab non dimostrarti più cattivo di quel che sei scommetto che se uno di quegli sciagurati fosse qui dinnanzi a te a buon tiro di fucile tu non gli sparereste addosso tirerei su di lui come su un cane arrabbiato nab rispose freddamente pencroff pencroff disse allora l'ingegnere avete spesso dimostrato molta deferenza verso i miei consigli volete anche in questa circostanza rimettervi alla mia decisione farò come piacerà a voi signor smith rispose il marinaio che però non era per nulla convinto ebbene aspettiamo e non attacchiamo che quando saremo attaccati in questo senso fu decisa la condotta da tenere verso i pirati benché pencroff non se ne aspettasse niente di buono i coloni non li avrebbero attaccati ma sarebbero stati in guardia dopo tutto l'isola era grande e fertile se qualche sentimento d'onestà era rimasto in fondo alla loro anima quei miserabili potevano forse emendarsi conveniva loro nelle condizioni in cui dovevano ormai vivere rifarsi una vita nuova a ogni modo non fosse altro che per umanità si doveva attendere i coloni forse non avrebbero più avuto la facoltà da andare venire senza timore come nel passato sino allora non avevano avuto da guardarsi che dagli animali selvaggi ora invece sei pirati forse della peggior specie s'aggiravano per l'isola era grave indubbiamente e per uomini meno coraggiosi sarebbe stata la perdita di ogni tranquillità non importa i coloni avevano ora ragione contro pencroff avrebbero avuto ragione anche in avvenire vedremo capitolo 6 la più grande preoccupazione dei coloni era adesso quell'esplorazione completa dell'isola che era stata decisa e che avrebbe avuto ora due scopi prima di tutto scoprire l'essere misterioso la cui esistenza non era più discutibile e nello stesso tempo sapere che cosa n'era stato dei pirati quale rifugio avevano scelto che vita conducevano e che cosa si poteva temere da parte loro Cyrus Smith desiderava partire senza indugio ma dovendo la spedizione durare parecchi giorni era sembrato opportuno caricare il carro di oggetti diversi per accampamento e di utensili atti a facilitare l'organizzazione delle soste ora in quel momento uno degli onagri ferito a una gamba non poteva essere attaccato gli erano necessari alcuni giorni di riposo i coloni ritennero quindi di poter senza pregiudizio rimandare la partenza di una settimana cioè al 20 novembre il mese di novembre alla latitudine di quelle terre corrisponde al maggio delle zone boreali si era dunque nella bella stagione il sole arrivava sul tropico del capricorno e rendeva i giorni più lunghi che in ogni altro mese dell'anno il tempo sarebbe stato quindi in tutto favorevole alla spedizione la quale anche se non avesse raggiunto il suo fine principale poteva essere feconda di scoperte soprattutto dal punto di vista dei prodotti naturali poiché Sirius Smith si proponeva ad esplorare le fitte foreste del far west che si estendevano sino all'estremità della penisola serpentine intanto fu stabilito che durante i nove giorni precedenti la partenza tutti avrebbero posto mano agli ultimi lavori dell'altopiano di bella vista però era necessario che Ayrton tornasse al recinto dove gli animali domestici reclamavano le sue cure venne dunque deciso che egli sarebbe andato a passarvi due giorni e che non sarebbe ritornato a granite house se non dopo aver abbondantemente approvvigionato le stalle mentre stava per partire Cyrus Smith facendogli osservare che l'isola era ora meno sicura di un tempo gli domandò se voleva che uno di loro lo accompagnasse Ayrton rispose che era inutile che egli bastava e che d'altronde non temeva nulla se fosse accaduto qualche incidente nel recinto nei dintorni ne avrebbe immediatamente avvertito i coloni mediante un telegramma granite house a Ayrton partì dunque il giorno 9 all'alba conducendo seco il carro tirato da un solo onagro e due ore dopo il campanello elettrico annunciava che al recinto aveva trovato tutto in ordine in quei due giorni Cyrus Smith si occupò dell'esecuzione di un progetto che doveva mettere definitivamente granite house al sicuro da ogni sorpresa si trattava di dissimulare completamente l'apertura superiore dell'antico scaricatoio che era già murato e seminascosto sotto erbe e piante all'angolo sud del lago Grant niente di più facile perché bastava alzare di due o tre piedi il livello delle acque del lago sotto le quali l'apertura sarebbe stata allora completamente immersa ora per rialzare detto livello non c'era che da mettere uno sbarramento stabile ai due canali aperti nel lago per i quali si alimentavano il cric glicerina e quello della grande cascata i coloni si posero subito all'opera e i due sbarramenti che dal resto non misuravano più di sette otto piedi di larghezza per tre di altezza furono rapidamente retti con mancini cementati dopo questa sistemazione era impossibile supporre che all'estremità del lago esistesse un condotto sotterraneo attraverso il quale un tempo si scaricava l'eccedenza delle acque inutile dire che la piccola derivazione che serviva ad alimentare il serbatoio di granite house e a manovrare l'ascensore era stata trattata col massimo riguardo sì che l'acqua non sarebbe mai mancata così una volta tirato sull'ascensore quel sicuro e comodo rifugio avrebbe sfidato ogni sorpresa o colpo di mano il lavoro era stato sbrigato sollecitamente per modo che pencroff gideon spilett e harbert trovarono il tempo di fare una capatina a porto pallone il marinaio era desiderosissimo di sapere se il piccolo seno in fondo al quale era ormeggiato il bonadventure era stato visitato dai corsari quei gentiluomini fece osservare pencroff hanno appunto preso terra sulla costa meridionale e se hanno seguito il litorale c'è da temere che abbiano scoperto il piccolo porto nel qual caso non rischierei nemmeno mezzo dollaro per il nostro bonadventure le appressioni di pencroff non erano prive di fondamento e una visita a porto pallone parve a tutti molto opportuna il marinaio e i suoi compagni partirono dunque bene armati nel pomeriggio del 10 novembre pencroff introducendo palesemente due palle in ciascuna canna del suo fucile scrollava il capo il che non presagiva niente di buono per chiunque gli fosse andato troppo vicino bestia o uomo che fosse disse anche gideon spilett e harbert presero i loro fucili e verso le tre lasciarono tutti insieme granite house nab li accompagnò sino dove il mercy faceva gomito e dopo il loro passaggio alzò il ponte fu convenuto che un colpo di fucile avrebbe annunciato il ritorno dei coloni e che a quel segnale nab sarebbe andato a ristabilire la comunicazione tra le due rive del fiume la piccola comitiva avanzò diritta lungo la strada del porto verso la costa meridionale dell'isola non c'erano che tre miglia e mezzo ma gideon spilett e i suoi compagni impiegarono due ore a percorrere la breve distanza frugarono tutto il margine della strada tanto dal lato della folta foresta che da quello della palude delle tadorne ma non trovarono traccia alcuna dei fuggitivi che senza dubbio non ancora informati del numero dei coloni né dai mezzi di difesa di cui disponevano dovevano essersi ritirati nelle parti meno accessibili dell'isola pencroff arrivato a porto pallone vide con soddisfazione estrema il bon adventure tranquillamente ormeggiato nella stretta cala del resto porto pallone era sì ben celato in mezzo a quelle alte rocce che né dal mare né dalla terra si poteva scoprirlo a meno di non esservi sopra o dentro andiamo disse pencroff quei furfanti non sono ancora venuti qui le alte erbe convengono di più ai rettili vedrete che li troveremo nel far west è una gran fortuna aggiunse arbert poiché se avessero trovato il bon adventure se ne sarebbero impadroniti per fuggire il che ci avrebbe impedito di ritornare appena possibile all'isola di tabor infatti rispose il giornalista sarà bene portarvi un documento che faccia conoscere la situazione dell'isola di lincoln e la nuova residenza di ayrton nel caso in cui lo yacht scozzese venisse a riprenderlo ebbene il bon adventure è sempre qui signor spirit replicò il marinaio il suo equipaggio è pronto a ripartire al primo segnale penso pencroff che sarà una cosa da fare non appena sia terminata la nostra spedizione nell'isola dopo tutto è possibile che questo ignoto se riusciamo a trovarlo la sappia lunga sull'isola di lincoln e sull'isola di tabor non dimentichiamo che egli è l'autore incontestabile del documento e che probabilmente sa qualche cosa di positivo circa il ritorno dello yacht per tutti i diavoli esclamò pencroff chi può dunque essere quel personaggio ci conosce e noi non lo conosciamo se è un semplice naufrago perché si nasconde noi siamo delle brave persone suppongo e la compagnia delle brave persone non è sgradita a nessuno è venuto volontariamente qui può abbandonare l'isola se vuole si trova ancora qui o non c'è più così ragionando pencroff arbert e gideon spilett si erano imbarcati e percorrevano il ponte del bonadventure a un tratto il marinaio esaminando la bitta sulla quale era dato volta il cavo dell'ancora a diamine gridò questa è grossa che cosa c'è pencroff domandò il giornalista c'è che non sono stato io a far questo nodo e pencroff mostrò una cima che assicurava il cavo alla bitta stessa per impedirgli di mollare come non siete stato voi chiese spilett no lo giurerei questo è un nodo piano mentre io l'abitudine di prendere due mezzi colli vi sarete sbagliato pencroff no non mi sono sbagliato affermò il marinaio noi marinaio abbiamo la mano in queste cose naturalmente e la mano non si sbaglia allora i deportati sarebbero dunque venuti a bordo chiese arbert non lo so rispose pencroff ma una cosa però è certa e cioè che l'ancora del bonadventure è stata levata e poi gettata di nuovo e guardate ecco un'altra prova hanno filato il cavo dell'ancora e la sua fasciatura non arriva più sulla cubia vi ripeto che qualcuno si è servito della nostra imbarcazione ma se i deportati se ne fossero serviti l'avrebbero saccheggiata oppure sarebbero fuggiti fuggiti e dove all'isola di stabor ribatte pencroff credete che si sarebbero rischiati su di una barca di così piccolo tonnellaggio bisognerebbe in tal caso ammettere che essi avessero conoscenza dell'isolotto disse il giornalista comunque sia disse il marinaio come è vero che io sono bonadventure pencroff di vineyard il bonadventure ha navigato senza di noi il marinaio affermava ciò con tanta sicurezza che né guidon spilett né harbert poterono contestare le sue parole era evidente che da quando pencroff l'aveva ricondotta a porto pallone l'imbarcazione era stata più o meno rimossa per il marinaio l'ancora era stata levata e poi ricalata non c'era dubbio ora perché queste manovre se l'imbarcazione non era stata adoperata per qualche spedizione ma non avremmo dovuto vedere il bonadventure passare al largo dell'isola fece notare il giornalista che ci teneva a formulare tutte le obiezioni possibili signor spilett rispose il marinaio basta salpare di notte con buon vento e in due ore si è fuori di vista dell'isola ebbene rispose gideon spilett mi domando ancora a che scopo i deportati si sarebbero serviti del bonadventure e perché dopo essersene serviti l'avrebbero ricondotto in porto signor spilett rispose il marinaio mettiamo anche questo nel numero delle cose inesplicabili e non pensiamoci più l'importante era che il bonadventure fosse il suo posto e via disgraziatamente se i deportati riuscissero a prenderlo una seconda volta potrebbe darsi davvero che non lo ritrovassimo più al suo posto allora pencroff disse arbert sarebbe forse prudente ricondurre l'imbarcazione davanti a granite house sì e no rispose pencroff o piuttosto no l'imbocco del mercy è un punto cattivo per un'imbarcazione esposto al mare ma tirandolo in secco fin proprio sotto i camini forse sì rispose pencroff ogni modo dato che dobbiamo lasciare granite house per una spedizione abbastanza lunga credo che il bonadventure sarà il più al sicuro qui durante la nostra assenza e faremo bene lasciarvelo sino che l'isola sia liberata da quei manigolti così pare anche a me disse il giornalista almeno in caso di cattivo tempo esso non sarà esposto come all'imboccatura del mercy e se i pirati venissero nuovamente a fargli visita disse arbert ebbene anche non trovandolo più qui farebbero presto a cercarlo dalle parti di granite house e durante la nostra assenza nulla impedirebbe loro di impadronirsi nello stesso penso dunque come il signor spilett che bisogna lasciarlo a porto pallone ma al nostro ritorno se non abbiamo ancora sbarazzato l'isola da quei furfanti sarà prudente ricondurre la nostra imbarcazione a granite house fino al momento in cui essa non avrà più da temere nessuna cattiva visita siamo intesi in cammino disse il cronista pencroff arbert gideon spilett al loro ritorno a granite house comunicarono all'ingegnere quel che era successo e questi approvò le loro disposizioni per il presente e per l'avvenire egli promise anzi al marinaio di studiare il tratto di canale fra l'isolotto e la costa per vedere se fosse possibile crearvi un porto artificiale per mezzo di sbarramenti così il bonadventure sarebbe stato sempre sotto gli occhi dei coloni e all'occorrenza anche sotto chiave la sera stessa fu inviato ad ayrton un telegramma per pregarlo di portare con sé dal recinto una coppia di capre che nab voleva acclimatare sulle praterie dell'altipiano cosa strana ayrton non diede segno di aver ricevuto il telegramma come era sua abitudine la cosa non mancò di meravigliare l'ingegnere ma poteva darsi che ayrton non si trovasse al recinto in quel momento oppure che fosse già in cammino per tornare a granite house infatti due giorni erano trascorsi dalla sua partenza ed egli aveva deciso che appunto la sera del 10 o la mattina dell'11 al più tardi sarebbe stato di ritorno i coloni attesero dunque che ayrton si mostrasse sull'altura di bella vista nab e arbert vigilarono anzi nelle vicinanze del ponte per abbassarlo appena il loro compagno si fosse presentato ma verso le 10 di sera nulla ancora si sapeva di ayrton fu quindi giudicato opportuno di lanciare un nuovo dispaccio chiedendo una risposta immediata ma il campanello di granite house rimase muto allora l'inquietitudine dei coloni fu grande che cos'era accaduto gli uni volevano partire gli altri restare ma disse arbert può darsi che si sia prodotto qualche guasto all'apparecchio telegrafico e che non funzioni più può essere disse il giornalista aspettiamo fino a domani rispose sario smith è possibile infatti che ayrton non abbia ricevuto il nostro telegramma oppure che noi non abbiamo ricevuto il suo e attesero non senza una certa ansietà come era facile immaginare alle prime luci del giorno successivo l'undici novembre sario smith lanciò ancora la corrente elettrica attraverso il filo e non ricevette alcuna risposta ripete il tentativo ma col medesimo risultato in cammino per il recinto disse e bene armati aggiunse pencroff fu subito deciso che granite house non sarebbe rimasta deserta e che nab vi si sarebbe fermato dopo aver accompagnato gli altri fino al creek glicerina avrebbe rialzato il ponte e nascosto dietro un albero sarebbe stato attento al loro ritorno o a quello di ayrton nel caso in cui i pirati si fossero presentati o avessero tentato di varcare il passaggio egli doveva tentare di arrestarli a fucilate e infine rifugiarsi in granite house dove una volta tirato su l'ascensore sarebbe stato al sicuro sario smith gideon spilett arbert e pencroff dovevano recarsi direttamente al recinto e se non vi trovavano a ayrton battere i boschi circostanti alle sei della mattina l'ingegnere e i suoi tre compagni avevano passato il creek glicerina mentre nab si appostava dietro una specie di parapetto circondato da alcune grandi dracene sulla riva sinistra del ruscello i coloni dopo aver lasciato l'altipiano di bella vista presero immediatamente la via del recinto portavano il fucile al braccio pronti a far fuoco alla minima dimostrazione ostile le due carabine e i due fucili erano stati caricati a palla da ogni lato della strada il bosco era fittissimo e poteva agevolmente nascondere dei malfattori i quali armati come erano sarebbero stati veramente temibili i coloni camminavano rapidamente e in silenzio top li precedeva ora correndo sulla strada ora facendo qualche svolta improvvisa nel folto del bosco ma sempre muto e non dando segno di alcunché di insolito e si poteva star certi che il fedele animale non si sarebbe lasciato sorprendere ma avrebbe abbaiato alla minima apparenza di pericolo strada facendo cyrus smith e i suoi compagni seguivano il filo telegrafico che univa il recinto a granite house dopo aver percorso due miglia circa non avevano ancora notato nessuna interruzione i pali erano in buono stato gli isolatori intatti il filo regolarmente teso tuttavia a un certo punto l'ingegnere osservò che la tensione cominciava a diminuire e alla fine al palo numero 74 harbert che camminava innanzi a tutti si fermò gridando il filo è rotto gli altri affrettarono il passo e giunsero al punto dove il giovinetto sarà fermato il palo abbattuto attraversava la strada l'interruzione del filo era dunque constatata ed era evidente che i dispacci di granite house non avevano potuto essere ricevuti al recinto né quelli del recinto a granite house non è stato il vento ad atterrare questo palo osservò pencroff no rispose gideon spilett la terra è stata scavata alla sua base ed è stato di velto da mano d'uomo inoltre il filo è spezzato aggiunse harbert mostrando le due estremità del filo di ferro che era stato rotto violentemente la rottura è recente chiese cyrus smith sì rispose harbert è stata prodotta da poco tempo al recinto al recinto gridò il marinaio i coloni si trovavano allora a metà strada fra granite house al recinto dunque rimanevano loro ancora due miglia e mezzo si avviarono a passo di corsa infatti c'era da temere che fosse accaduto qualche grave avvenimento al recinto indubbiamente a hilton aveva mandato un telegramma che non era arrivato ma la ragione dell'inquietitudine dei suoi compagni era più grave la circostanza più inesplicabile era che a hilton mentre aveva promesso di tornare la sera innanzi non si era ancora visto inoltre non era senza un motivo che era stata interrotta ogni comunicazione fra il recinto e granite house e chi altri se non i pirati aveva interesse a interrompere questa comunicazione i coloni correvano dunque con il cuore stretto dall'emozione si erano ormai sinceramente affezionati al loro nuovo compagno stavano forse per trovarlo colpito dalla mano stessa di coloro di cui un tempo era stato il capo giunsero in breve al punto in cui la strada costeggiava il ruscelletto derivato dal cric rosso che irrigava le praterie del recinto avevano allora moderato il passo per non arrivare ansanti nel momento in cui era forse necessario cimentarsi in una lotta i fucili non erano più in posizione di riposo ma pronti a far fuoco ognuno sorvegliava un lato della foresta top faceva sentire dei sordi brontolii che non erano di buon augurio lo steccato di cinta apparve finalmente attraverso gli alberi non si vedeva alcuna traccia di danni la porta era chiusa come al solito un silenzio profondo regnava nel recinto non si facevano sentire nei belati consueti dei mufloni nella voce di ayrton entriamo disse cyrus smith e l'ingegnere avanzò mentre i suoi compagni appostati a venti passi da lui erano pronti a far fuoco cyrus smith alzò il saliscendi interno della porta e stava per spingere uno dei battenti quando top abbaiò violentemente di sopra la palizzata si udì uno sparo cui rispose un grido di dolore harbert colpito da una palla giaceva a terra capitolo 7 al grido di harbert pencroff lasciando cadere la sua arma si era slanciato verso di lui me l'hanno ucciso gridava lui il mio caro ragazzo me l'hanno ucciso cyrus smith gideon spilett si erano precipitati verso harbert il giornalista ascoltava se il cuore del povero ragazzo battesse ancora vive disse ma bisogna trasportarlo a granite house è impossibile rispose l'ingegnere al recinto allora gridò pencroff un momento disse cyrus smith e si slanciò a sinistra in modo da girare attorno al recinto là si trovò la presenza di uno dei deportati che mirandolo gli attraversò il cappello con una palla pochi secondi dopo prima ancora che avesse avuto il tempo di sparare un secondo colpo questi cadeva colpito al cuore dal pugnale di cyrus smith più sicuro ancora del fucile contemporaneamente gideo spilett e il marinaio sissarono sugli angoli della palizzata la scavalcarono saltarono dentro al recinto abbatterono i puntelli che sostenevano la porta internamente e si precipitarono nella casa che era vuota e subito dopo il povero harbert riposava sul letto di ayrton alcuni istanti più tardi cyrus smith era vicino a lui vedendo harbert inanimato il dolore del marinaio fu terribile si inghiozzava piangeva voleva rompersi la testa contro il muro né l'ingegnere né il giornalista poterono calmarlo l'emozione soffocava anch'essi non potevano parlare tuttavia fecero quanto dipendeva da loro per sottrarre alla morta il povero giovane che agonizzava sotto i loro occhi gideon spilett dopo i tanti incidenti di cui era stata ricca la sua vita non era digiuno di qualche pratica di medicina spicciola sapeva un po di tutto e già in molte circostanze si era trovato a dover curare ferite prodotte tanto da arma bianca che da arma da fuoco aiutato da cyrus smith procedette dunque alle cure che lo stato di harbert richiedeva a tutta prima il giornalista fu colpito dal torpore generale che prostrava il giovanotto torpore dovuto forse all'emoragia forse alla commozione se la palla aveva urtato un osso con tale forza da produrre una scossa violenta harbert era estremamente pallido e il suo polso d'una debolezza tale che gideon spilett non lo sentiva battere se non a lunghi intervalli come se fosse sul punto di fermarsi in pari tempo vero una paralisi quasi completa dei nervi e della coscienza questi sintomi erano gravissimi il petto di harbert fu messo a nudo e dopo che il sangue fu stagnato mediante alcuni fazzoletti venne lavato con acqua fredda la contusione o piuttosto la piaga contusa apparve un foro vale fra la terza e la quarta costola era là che harbert era stato colpito cyrus smith e gideon spilett voltarono allora il povero ragazzo che lasciò sfuggire un lamento così flebile da sembrare il suo ultimo respiro un'altra piaga contusa insanguinava la schiena di harbert e la palla che l'aveva colpito non tardò a uscirne dio sia lodato disse il giornalista la palla non è rimasta nel corpo e non avremo da estrarla ma il cuore chiese cyrus smith il cuore non è stato toccato altrimenti harbert sarebbe già morto morto esclamò pencroff mandando un ruggito il marinaio non aveva sentito che l'ultima parola del giornalista no pencroff rispose cyrus smith no non è morto il suo polso batte sempre ha mandato anche un gemito ma nell'interesse stesso del vostro ragazzo calmatevi abbiamo bisogno di tutto il nostro sangue freddo non ce lo fate perdere caro amico pencroff tacque ma una reazione avvenne in lui e le lacrime gli inondarono il viso intanto gideon spilett cercava di richiamare alla memoria tutte le sue nozioni mediche e di procedere con metodo dopo l'esame fatto egli aveva la certezza che il proiettile entrato dal petto era uscito per la schiena ma quali danni aveva potuto causare al suo passaggio ecco quello che anche un chirurgo di professione avrebbe stentato a dire in quel momento e che quindi era tanto più difficile per un giornalista tuttavia egli sapeva una cosa e cioè che doveva prevenire la contrazione infiammatoria delle parti lese e poi combattere l'infiammazione locale la febbre che sarebbero derivate dalla ferita ferita mortale forse ora quali specifici quali antiflogistici usare come evitare l'infiammazione ad ogni modo importava soprattutto che le due ferite fossero medicate senza indugio non parve necessario gideon spilett provocare una nuova uscita di sangue lavandola con l'acqua tiepida e comprimendo nei margini l'emorragia era stata abbondantissima e harbert era fin troppo indebolito dalla perdita di sangue il giornalista si accontentò di lavare le due piaghe con l'acqua fredda harbert era adagiato sul fianco sinistro e fu lasciato in quella posizione non deve muoversi disse gideon spilett ora si trova nella posizione più confortevole perché le piaghe della schiena e del petto possono comodamente suppurare ed è necessario un riposo assoluto come non possiamo trasportarlo a granite house chiese pencroff no pencroff rispose il giornalista maledizione esclamò il marinaio mostrando il pugno al cielo pencroff disse cyrus smith gideon spilett si era rimesso a esaminare il giovinotto ferito con estrema attenzione harbert era sempre così spaventosamente pallido che il giornalista si sentì prendere dallo sgomento cyrus disse io non sono medico sono in una terribile perplessità bisogna che mi aiutate con i vostri consigli con con la vostra esperienza ritornate calmo amico rispose l'ingegnere stringendo la mano al cronista giudicata a sangue freddo non pensate che a questo bisogna salvare harbert queste parole resero gideon spilett quella sicurezza di sé che in un istante di scoraggiamento il vivo senso della propria responsabilità gli aveva fatto smarrire si sedette accanto al letto cyrus smith rimase in piedi pencroff aveva lacerato la sua camicia e macchinalmente ne faceva filacce gideon spilett spiegò allora cyrus smith che credeva di dovere prima di tutto arrestare l'emorragia ma non chiudere le due piaghe né provocare la loro cicatrizzazione immediata perché c'era stata la perforazione interna e non bisognava quindi lasciare che la suppurazione s'accumulasse nel petto cyrus smith la provò completamente fu quindi deciso di medicare le due ferite senza però tentare di chiuderle mediante un vendaggio troppo rigido fortunatamente non parve che avessero bisogno d'essere drenate e adesso per reagire contro la sopravveniente infiammazione avevano i coloni un agente efficace sì ne avevano uno poiché la natura l'ha generosamente prodigato avevano l'acqua fredda cioè il sedativo più potente che si possa adoperare contro l'infiammazione delle piaghe l'agente terapeutico più efficace nei casi gravi e che adesso è adottato da tutti i medici l'acqua fredda offre per di più il vantaggio di lasciare la piaga in assoluto riposo e di rendere inutile ogni medicazione prematura vantaggio questo considerevole giacché l'esperienza ha dimostrato che il contatto diretto con l'aria è piuttosto funesto durante i primi giorni gideon spilett e cyrus smith ragionavano così con il loro semplice buonsenso e agirono come avrebbe agito il migliore dei chirurghi compresse di tela furono applicate sulle due ferite del povero harbert e dovettero essere costantemente inzuppate d'acqua fredda il marinaio innanzitutto aveva acceso il fuoco nel caminetto non mancavano in quella dimora le cose indispensabili alla vita zucchero d'acero e piante medicinali permisero di fare delle tisane rinfrescanti che vennero fatte bere all'infermo senza che egli se ne rendesse conto la febbre era straordinariamente alta e tutta la giornata e la notte passarono così senza che riprendesse conoscenza la vita di harbert era attaccata a un filo e questo filo poteva rompersi a ogni momento l'indomani 12 novembre cyrus smith e i suoi compagni ripresero qualche speranza harbert rinvenne dal suo lungo assopimento aperse gli occhi riconobbe cyrus smith il giornalista e pencroff pronunciò due o tre parole egli non aveva nozione dell'accaduto i compagni lo informarono e gideon spilett lo supplicò di conservare un riposo assoluto dicendogli che la sua vita non era in pericolo e che le ferite si sarebbero cicatrizzate in pochi giorni dal resto harbert non soffriva quasi più e l'acqua fredda con cui si bagnavano incessantemente le ferite ne impediva l'infiammazione la suppurazione si procedeva regolarmente la febbre non tendeva ad aumentare e si poteva sperare che la terribile ferita non avrebbe prodotto nessuna sciagura pencroff si sentiva poco poco più sollevato egli era come una suora di carità come una madre al letto del suo figliolo harbert s'assopì di nuovo ma il suo sonno parve assai migliore ditemi che sperate signor spilett disse pencroff ripetetemi che salverete harbert si lo salveremo rispose il giornalista la ferita è grave e probabilmente la palla ha attraversato il polmone ma la perforazione di quest'organo non è mortale che dio vi ascolti aggiunse pencroff come si può immaginare da 24 ore che erano al recinto i coloni non avevano avuto altro pensiero che di curare harbert non si erano preoccupati né del pericolo che poteva minacciarli se i deportati ritornavano né delle precauzioni da prendere per l'avvenire ma quel giorno mentre pencroff vegliava al letto del malato cyrus smith e il giornalista discussero in merito a quello che conveniva fare prima di tutto visitarono il recinto non vera traccia di ayrton lo sventurato era stato forse trascinato via dai suoi complici d'un tempo era stato sorpreso nel recinto aveva lottato e dovuto soccombere nella lotta quest'ultima ipotesi era fin troppo probabile gideon spilett nel momento in cui dava la scalata la parizzata aveva veduto perfettamente uno dei deportati scappare per il contrafforte sud del monte franklin mentre top si slanciava alle sue calcagna era uno di quelli la cui lancia si era sfasciata sugli scogli all'imboccatura del mercy d'altronde quello che cyrus smith aveva ucciso e che fu ritrovato cadavere al di fuori della cinta apparteneva proprio alla banda di bob harvey il recinto non aveva ancora subito alcuna devastazione le porte erano chiuse e gli animali domestici non avevano potuto disperdersi nella foresta non si vedeva traccia di lotta né guasto alcuno all'abitazione o alla parizzata solo le munizioni di cui airton era provvisto erano sparite con lui l'infelice sarà stato sorpreso disse cyrus smith e siccome avrà opposto resistenza avrà dovuto soccombere sì lo temo rispose il giornalista poi senza dubbio i deportati si sono installati nel recinto dove hanno trovato tutto in abbondanza e hanno preso la fuga solo quando ci hanno veduti arrivare è chiaro oltresì che al nostro arrivo airton morto vivo che fosse non era più qui bisognerà battere la foresta disse l'ingegnere e sbarazzare l'isola da quei miserabili pencroff aveva avuto dei giusti presentimenti quando voleva che si desse loro la caccia come a bestie feroci ci sarebbero state risparmiate molte disgrazie sì rispose il giornalista ma adesso abbiamo il diritto d'essere senza pietà però disse l'ingegnere adesso siamo costretti ad aspettare qualche tempo e a rimanere qui sino a quando si potrà trasportare senza pericolo arbert a granite house e nab chiese il giornalista nab è al sicuro e se inquieto per la nostra assenza si arrischiasse a venire qui bisogna che non venga rispose vivacemente cyrus smith sarebbe assassinato per la via il guaio è che molto probabilmente egli cercherà di raggiungerci ah se il telegrafo funzionasse ancora si potrebbe avvertirlo ma adesso è impossibile lasciar soli qui arbert e pencroff non possiamo ebbene andrò io solo a granite house no no cyrus rispose il giornalista bisogna che voi non vi esponiate il vostro coraggio sarebbe vano quei miserabili evidentemente sorvegliano il recinto sono in agguato nelle fitte boscaglie che lo circondano e se partite avremo presto a lamentare due disgrazie invece di una ma nab ripete l'ingegnere da 24 ore senza nostre notizie vorrà certo venire e siccome starà meno in guardia di noi rispose gideon spilett sarà colpito non c'è dunque modo di avvertirlo mentre l'ingegnere rifletteva il suo sguardo cadde su top che andando e venendo sembrava dicesse e non ci sono qua io top chiamò cyrus smith l'animale diede un balzo alla chiamata del padrone si andrà top disse il giornalista che aveva compreso l'idea dell'ingegnere top passerà dove noi non passeremmo porterà a granite house le notizie del recinto e ritornerà con quelle di granite house presto rispose cyrus smith presto gideon spilett aveva rapidamente strappato una pagina dal suo tacquino e vi scrisse queste righe harbert ferito siamo al recinto sta in guardia non abbandonare granite house i deportati sono comparsi nelle vicinanze rispondi per mezzo di top questo laconico biglietto conteneva tutto quello che nab doveva sapere e chiedeva contemporaneamente a lui tutto quello che i coloni avevano interesse di conoscere il biglietto fu piegato e attaccato al collare di top in modo molto visibile top cane mio disse allora l'ingegnere accarezzando l'animale nab top nab va va a queste parole top si misa a saltellare comprendeva indovinava quanto si esigeva da lui la strada del recinto gli era nota in meno di mezz'ora poteva percorrerla ed era sperabile che dove nessero smith nel giornalista avrebbero potuto avventurarsi senza pericolo top invece correndo fra le erbe o nei boschi sarebbe passato inosservato l'ingegnere andò alla porta del recinto e spinse uno dei battenti nab top nab ripete ancora una volta l'ingegnere stendendo la mano in direzione di granite house top si slanciò fuori e disparve quasi subito arriverà disse il si e tornerà il fedele animale che ora è domandò giden spilett le dieci fra un'ora può essere qui spieremo il suo ritorno la porta del recinto fu di nuovo chiusa l'ingegnere e il giornalista rientrarono in casa harbert era profondamente assopito pencroff manteneva le compresse sempre umide giden spilett vedendo che in quel momento non c'era niente da fare s'accinse a preparare qualche cibo pur sorvegliando attentamente la parte del recinto addossata al contraforte dalla quale era possibile un'aggressione i coloni attesero ritorno di top non senza ansietà un po prima delle undici saru smith il giornalista con la carabina in mano stavano dietro alla porta pronti ad aprirla al primo latrato del cane essi erano certi che se top avesse potuto arrivare felicemente a granite house nab l'avrebbe immediatamente rimandato erano lambe due da dieci minuti circa quando una detonazione rimbombò subito seguita da ripetuti latrati l'ingegnere aperse la porta e vedendo ancora un resto di fumo nel bosco a cento passi di distanza fece fuoco in quella direzione quasi subito top balzò nel recinto di cui venne impetuosamente richiusa la porta top top esclamò l'ingegnere prendendo fra le braccia la buona grossa testa del suo cane un biglietto era attaccato al collo dell'animale e cyrus smith lesse queste parole tracciate con grossolana scrittura da nab niente pirati nei dintorni di granite house non mi muoverò povero signor harbert capitolo 8 e così i deportati erano sempre là spiavano il recinto ed erano decisi a uccidere i coloni uno dopo l'altro non c'era che da trattarli come bestie feroci ma bisognava prendere grandi precauzioni giacché i miserabili avevano in quel momento il vantaggio della posizione vedendo senza essere veduti potendo attaccare di sorpresa senza essere sorpresi saru smith sistemò le cose in modo da poter vivere nel recinto le cui provviste d'arresto potevano bastare per un tempo abbastanza lungo la dimora di ayrton era stata fornita di tutto il necessario alla vita e i deportati spaventati dall'arrivo dei coloni non avevano avuto tempo di metterla a sacco probabilmente come fece notare gideon spilett le cose erano andate così i sei deportati sbarcati nell'isola si erano tenuti sul litorale sud e dopo aver girato intorno alla penisola serpentine non essendo disposti ad avventurarsi fra le boscaglie del far west avevano raggiunto la foce del fiume della cascata qui vi giunti rimontando la riva destra del corso d'acqua erano arrivati ai contrafforti del monte franklin fra i quali era naturale che cercassero qualche rifugio e non avevano tardato a scoprire il recinto allora disabitato molto verosimilmente si erano installati là aspettando il momento di mettere in esecuzione i loro abominevoli disegni l'arrivo di ayrton li aveva colti di sorpresa ma erano riusciti a impadronirsi dell'infelice e il seguito si indovinava facilmente adesso i deportati ridotti a cinque è vero ma bene armati s'aggiravano per i boschi e avventurarvisi equivaleva esporsi ai loro colpi senza possibilità né di pararli né di prevenirli aspettare non c'è altro da fare ripeteva cyrus smith quando arbert sarà guarito potremo organizzare una battuta generale dell'isola e aver ragione dei deportati questo sarà l'oggetto della nostra spedizione e al tempo stesso la ricerca del nostro misterioso protettore aggiunse gideon spilett completando la frase dell'ingegnere bisogna confessare mio caro cyrus che questa volta la sua protezione ci è mancata e nel momento stesso in cui ci era più necessaria chissà osservò l'ingegnere che cosa volete dire chiese il giornalista che non siamo al termine delle nostre pene caro spilett e che il potente intervento forse avrà ancora l'occasione di manifestarsi ma non si tratta di questo la vita di arbert prima di tutto era la più dolorosa precauzione dei coloni alcuni giorni passarono e lo stato del povero giovinetto non era fortunatamente peggiorato ora guadagnar del tempo nella malattia era già molto l'acqua fredda mantenuta sempre a temperatura conveniente aveva impedito l'infiammazione delle ferite parve anzi al giornalista che quell'acqua un po' solforosa il che si spiegava con la vicinanza del vulcano avesse un'azione più diretta sulla cicatrizzazione la suppurazione era molto meno abbondante e merce le cure incessanti che gli si prodigavano arbert ritornava alla vita e la sua febbre tendeva a decrescere era dal resto sottoposto a una dieta severa e di conseguenza la sua debolezza era e doveva essere estrema ma i decotti non gli mancavano e il riposo assoluto gli faceva un gran bene cyrus smith gideon spilett e pencroff erano diventati abilissimi nel medicare il giovane ferito tutta la biancheria dell'abitazione era stata sacrificata le ferite di arbert coperte di compresse filacce non erano strette né troppo né poco in modo da portarle alla cicatrizzazione senza determinare reazioni infiammatorie il giornalista dedicava queste medicazioni una cura straordinaria ben sapendo quale ne fosse l'importanza e ripetendo ai suoi compagni quello che la maggior parte dei medici riconoscono volentieri che è più raro forse vedere ben fatta una medicazione che un'operazione in capo a dieci giorni il 22 novembre arbert stava sensibilmente meglio aveva cominciato a prendere un po di cibo il colorito ritornava sulle sue gote e i suoi occhi buoni sorridevano i suoi infermieri conversava anche un poco malgrado gli sforzi di pencroff che parlava sempre lui per impedirgli di prendere la parola e raccontava le storie più inverosimili arbert l'aveva interrogato in merito ad ayrton che era stupito di non vedere presso di sé sapendo che doveva trovarsi al recinto ma il marinaio non volendo affliggere arbert si era limitato a rispondere che ayrton aveva raggiunto nab allo scopo di difendere granite house diceva quei pirati sono dei gentiluomini che non hanno più diritto a nessun riguardo e il signor smith che voleva prenderli dal lato del sentimento io sì che manderò loro del sentimento ma in buon piombo di calibro però e non si sono più rivisti chiese arbert no figlio mio rispose il marinaio ma li ritroveremo e quando sarai guarito vedremo se quei vigliacchi che colpiscono alle spalle oseranno attaccarci di fronte io io sono ancora molto debole mio povero pencroff le forze ritorneranno a poco a poco che cos'è una palla attraverso il petto un semplice scherzo ne ho visto di peggio io e sono ancora qui sano e salvo insomma sembrava che le cose andassero per il meglio e visto che nessuna complicazione era sopraggiunta la guarigione di arbert poteva ritenersi sicura ma quale sarebbe stata la situazione dei coloni se lo stato di arbert fosse andato aggravandosi se per esempio il proiettile gli fosse rimasto nella ferita se un braccio una gamba avessero dovuto essergli amputati no disse più di una volta gideon spilett non ho mai pensato simile eventualità senza fremere eppure se vi fosse stata la necessità di agire gli rispose un giorno cyrus smith non avreste esitato vero no cyrus disse spilett ma che dio sia benedetto per averci risparmiato questa complicazione in questa come in tante altre circostanze i coloni avevano fatto appello alla logica del semplice buonsenso che tante volte aveva loro giovato e ancora una volta con l'ausilio delle loro cognizioni generali erano riusciti ma non sarebbe venuto il momento in cui tutto il loro sapere sarebbe diventato insufficiente erano soli su quell'isola ora gli uomini si completano vivendo in società e sono necessari gli uno agli altri cyrus smith lo sapeva bene e talvolta si domandava se in qualche circostanza non si sarebbero trovati di fronte a un ostacolo insuperabile gli pareva d'altra parte che egli e i suoi compagni finora così fortunati fossero entrati in un periodo nefasto nei due anni e mezzo che erano fuggiti da richmond si può dire che tutto era andato secondo i loro desideri l'isola aveva loro abbondantemente fornito minerali vegetali e animali e se la natura li aveva costantemente colmati dei suoi benefici la loro scienza aveva però saputo trarpartito da quanto essa offriva il benessere materiale della colonia si poteva dire completo per di più in certe circostanze un'influenza inesplicabile era venuto in loro aiuto ma naturalmente tutto questo non poteva durare a lungo infatti il bastimento dei deportati era apparso nelle acque dell'isola e se i pirati erano stati per così dire miracolosamente annientati sei però erano sfuggiti alla catastrofe erano sbarcati sull'isola e i cinque che sopravvivevano erano quasi inafferrabili Ayrton era stato indubbiamente massacrato da quei miserabili che possedevano delle armi da fuoco e al primo uso che ne avevano fatto harbert era caduto colpito quasi mortalmente questi erano dunque i primi colpi che la sorte avversa infliggeva ai coloni ecco quello che si chiedeva saru smith ecco quello che ripeteva spesso al giornalista e pareva loro inoltre che l'intervento si strano ma purtanto efficace e tanto utile fino allora venisse ormai loro a mancare l'essere misterioso chiunque fosse di cui non si poteva negare l'esistenza aveva dunque abbandonato l'isola era morto a sua volta a queste domande era impossibile dare una risposta ma non bisognava credere che Cyrus e il suo compagno perché parlavano di queste cose fossero gente da disperarsi nemmeno per sogno essi guardavano in faccia la situazione analizzavano tutte le probabilità si preparavano a ogni evento e si piantavano fermi e diritti dinnanzi all'avvenire e se mai l'avversità avesse dovuto alla fine colpirli avrebbe trovato in essi uomini preparati ad affrontarla capitolo 9 la convalescenza del giovane malato procedeva regolarmente una cosa sola adesso era da desiderare e cioè che il suo stato permettesse di ricondurlo a granite house per ben sistemata e rifornita che fosse l'abitazione del recinto non poteva offrire la comodità della sana dimora di granite house inoltre non offriva nemmeno la stessa sicurezza e i suoi ospiti malgrado l'attenta sorveglianza vi si trovavano sempre sotto la minaccia del fuoco dei deportati laggiù invece in quell'innespugnabile inaccessibile massiccio nulla avrebbe avuto da temere e qualsiasi tentativo contro le loro persone sarebbero forzatamente fallito aspettavano dunque con impazienza il momento in cui Herbert avrebbe potuto essere trasportato senza pericolo per la sua ferita ed erano fermamente decisi a effettuare il trasporto benché le comunicazioni attraverso il bosco dello chacamarra fossero difficilissime mancavano notizie di nab ma non si sentivano inquieti per lui il coraggioso afro trincerato dentro granite house non si sarebbe lasciato sorprendere top non gli era stato più rimandato già che era parso inutile esporre il fedele animale a qualche fucilata che avrebbe privato i coloni del loro più utile ausiliario i coloni dunque attendevano ma avevano fretta di trovarsi tutti riuniti a granite house l'ingegnere soffriva nel vedere le sue forze divise perché ciò faceva il gioco dei pirati dopo che Ayrton era sparito essi non erano che 4 contro 5 giacché Herbert non contava ancora e non era questa la preoccupazione minore del bravo ragazzo che comprendeva di quale imbarazzo egli fosse causa sul modo di agire allo stato presente delle cose contro i deportati si discusse a fondo nella giornata del 29 novembre fra Cyrus Smith Gideon Spilett e Pencroff in un momento in cui Herbert assopito non poteva udirli amici disse il giornalista dopo che ebbero parlato di nab e dell'impossibilità di comunicare con lui anch'io credo come voi che avventurarsi sulla strada del recinto sarebbe rischiare di ricevere una fucilata senza poterla restituire ma non avete pensato che adesso converrebbe invece dare apertamente la caccia a quei miserabili ci pensavo rispose Pencroff credo che noi non siamo uomini da paventare un proiettile e per conto mio se il signor Cyrus approva sono pronto a gettarmi nella foresta che diavolo un uomo vale quanto un altro ma può valerne cinque domandò l'ingegnere io mi unirò a Pencroff rispose il giornalista e tutte e due bene armati e accompagnati da top caro Spilett e voi Pencroff rispose Cyrus Smith ragioniamo freddamente se i deportati avessero il loro covo in una determinata località dell'isola se questa località ci fosse nota e non si trattasse che di stanarveli capirei un attacco diretto ma non ci sarà piuttosto da temere che si siano sicuri di essere i primi a sparare signor Cyrus esclamò Pencroff non sempre una palla giunge a segno quella che ha colpito Herbert non ha sbagliato Pencroff rispose l'ingegnere d'altronde dovete convenire che se tutte e due lasciate il recinto rimarrei io solo a difenderlo potete garantire che i banditi non vi vedranno uscire che non vi lasceranno addentrare nella foresta e che non ci attaccheranno durante la vostra assenza sapendo non essere qui che un ragazzo ferito è un uomo avete ragione signor Cyrus rispose Pencroff in preda una sorda collera avete ragione faranno di tutto per riprendere il recinto che s'hanno ben fornito di provviste e da solo voi non potreste tener loro testa se fossimo a granite house se fossimo a granite house disse l'ingegnere la situazione sarebbe molto differente la non temerei di lasciare Herbert con uno di noi e gli altri tre andrebbero a perlustrare le foreste dell'isola ma siamo al recinto e conviene che ci restiamo sino al momento in cui potremo lasciarlo tutti assieme nulla si poteva opporre ragionamenti di Cyrus Smith e i suoi compagni lo compresero se Ayrton fosse ancora dei nostri disse Gideon Spilett poveretto il suo ritorno alla vita sociale è stata di breve durata se è morto aggiunse Pencroff in tono piuttosto singolare sperate dunque Pencroff che quei furfanti lo abbiano risparmiato chiese Gideon Spilett se hanno avuto interesse a farlo come supporre resta che Ayrton ritrovando i suoi vecchi complici dimenticando tutto quello che ci deve chissà rispose il marinaio che non arrischiava senza esitare questa spiacevole supposizione Pencroff disse Cyrus Smith afferrando per un braccio il marinaio questo è un cattivo pensiero e mi affliggereste molto persistendo a parlare così garantisco della fedeltà di Ayrton e io pure aggiunse con vivacità al giornalista sì sì signor Cyrus ho torto rispose Pencroff ho avuto un cattivo pensiero infatti e nulla lo giustifica ma che cosa volete non sono più padrone di me ho perduto completamente la testa questa detenzione nel recinto mi pesa orribilmente e non sono mai stato tanto sovreccitato come adesso abbiate pazienza Pencroff disse l'ingegnere fra quanto tempo caro Spilett credete che Herbert possa essere trasportato a granite house un po' difficile dirlo Cyrus rispose il giornalista perché un'imprudenza potrebbe produrre conseguenze funeste ma insomma se la convalescenza si svolge regolarmente e se fra otto giorni le forze gli saranno ritornate ebbene allora vedremo otto giorni allora la primavera sarebbe stata già al suo secondo mese il tempo era bello e il caldo incominciava a farsi sentire le foreste dell'isola erano in piena rigoglio e si avvicinava il momento dei consueti raccolti il ritorno a granite house sarebbe stato dunque seguito da grandi lavori che solo la ideata spedizione nell'isola avrebbero interrotti si capisce quindi quanto nuocessa ai coloni quel sequestro nel recinto ma se erano obbligati a piegarsi alle necessità non lo facevano senza impazienza una volta o due il cronista si arrischiò a uscire sulla strada e fece il giro del recinto chiuso dalla palizzata top l'accompagnava e gideon spilett con la carabina carica era pronto a ogni evento non fece alcun cattivo incontro e non trovò alcuna traccia sospetta il cane l'avrebbe avvertito ad ogni pericolo e siccome top non abbagliava se ne poteva dedurre che non c'era nulla da temere in quel momento almeno e che i deportati erano occupati in un'altra parte dell'isola non di meno durante la sua seconda uscita il 27 novembre gideon spilett che si era avventurato nei boschi per un quarto di miglio a sud della montagna notò che top fiutava qualche cosa il cane non aveva più la sua andatura indifferente andava e veniva frugando nelle erbe e negli sterpi come se il suo odorato gli avesse rivelato qualche oggetto sospetto gideon spilett seguì top l'incoraggiò lo incitò con la voce pur avendo l'occhio attento a tutto e la carabina spianata approfittando del riparo degli alberi per nascondersi non era probabile che top avesse udito la presenza di un uomo giacché in tal caso l'avrebbe annunciata con latrati contenuti e una specie di collera sorda ora dato che il cane non faceva sentire alcun brontolio voleva dire che il pericolo non era né vicino né imminente circa cinque minuti passarono così top frugando il giornalista seguendolo e secondandolo prudentemente quando tutto a un tratto il cane si precipitò verso un folto cespuglio e ne trasse un brandello di stoffa era un pezzo di vestito macchiato e lacero che gideon spilett portò immediatamente al recinto i coloni l'esaminarono e ricorobbero in esso un pezzo della giacca di ayrton era infatti un pezzo del feltro fabbricato unicamente nel laboratorio di granite house vedete pencroff fece osservare cyrus smith c'è stata resistenza da parte del povero ayrton i pirati l'hanno trascinato suo malgrado dubitate ancora della sua onestà no signor cyrus rispose il marinaio è già molto tempo che mi sono liberato dalla mia diffidenza di un istante ma mi pare che da questo fatto si possa trarre una conseguenza quale chiese il giornalista che ayrton non è stato ucciso al recinto ma l'hanno trascinato via vivo poiché ha resistito ora forse egli vive ancora può essere infatti rispose l'ingegnere che rimase pensieroso c'era nel rinvenimento di quel pezzo di stoffa una speranza in cui i compagni di ayrton potevano confidare infatti sulle prime avevano creduto che sorpreso nel recinto ayrton fosse caduto sotto qualche palla come era accaduto ad arbert ma se i predoni non l'avevano ucciso subito e l'avevano invece condotto vivo in qualche altra parte dell'isola non era lecito ammettere che fosse ancora loro prigioniero poteva darsi anche che qualcuno di essi avesse riconosciuto in ayrton un vecchio compagno d'australia il ben joyce il capo dei deportati evasi e chissà che non avessero concepito l'inverosimile speranza di ricondurlo nelle loro file sarebbe stato molto utile per loro farne un traditore quell'incidente fu dunque favorevolmente interpretato al recinto e il ritrovamento di ayrton non parve più impossibile vera inoltre la certezza che dal canto suo ayrton se era prigioniero avrebbe fatto di tutto per sfuggire dalle mani dei banditi e allora sarebbe stato un potente aiuto per i coloni in ogni caso osservò gideon spilett se per fortuna ayrton riesce a salvarsi andrà direttamente a granite house perché non conosce il tentativo d'assassinio di cui arbert è stato vittima e di conseguenza non può supporre che noi siamo stati imprigionati nel recinto vorrei che egli fosse già granite house esclamò pencroff e che vi fossimo noi pure poiché insomma se quei furfanti nulla possono tentare contro la nostra dimora possono però saccheggiare l'altipiano le nostre piantagioni il nostro pollaio pencroff era come un vero e proprio contadino attaccato con il cuore ai suoi raccolti ma bisogna dire che arbert era il più impaziente di tutti di tornare a granite house perché sapeva quanto la presenza dei coloni vi fosse necessaria ed era lui che li tratteneva al recinto così la sua mente era occupata da quest'unica idea lasciare il recinto lasciarlo a ogni costo egli credeva di poter sopportare il trasferimento fino a granite house assicurava che le forze gli sarebbero ritornate più presto nella sua camera con l'aria e la vista del mare parecchie volte sollecitò gideon spilett ma questi temendo con ragione che le ferite di arbert mal cicatrizzate si riaprissero per via non dava l'ordine di partire ma nel frattempo si verificò un incidente che indusse Cyrus Smith e i suoi due amici accedere al desiderio del giovinetto e dio sa quanti dolori e quanti rimorsi causò poi loro quella determinazione era il 29 novembre alle 7 di mattina i tre coloni conversavano nella camera di arbert quando udirono top abbagliare vivacemente top ai piedi dello steccato saltava abbaiava ma di contentezza non di collera viene qualcuno sì non è un nemico nab forse o ayrton queste parole erano appena state scambiate fra di loro quando un corpo scavalcando la palizzata ricadeva nel recinto era jupp mastro jupp in persona al quale top fece un'accoglienza davvero amico jupp esclamò pencroff e nab che ce lo manda disse il cronista allora disse l'ingegnere deve avere qualche biglietto pencroff si precipitò sull'orango evidentemente se nab avesse avuto qualche cosa di importante da annunciare al suo padrone non avrebbe potuto impiegare un messaggero più sicuro e rapido che poteva passare laddove né ai coloni né allo stesso top sarebbe stato possibile cyrus smith non si era ingannato al collo di jupp era appeso un sacchettino in cui si trovava un biglietto scritto di pugno da nab si pensi alla disperazione di cyrus smith e dei suoi compagni quando lessero queste parole venerdì ore sei del mattino altipiano invaso dai deportati nab si guardarono senza pronunciare parola poi rientrarono in casa che cosa dovevano fare i deportati sull'altipiano di bella vista volevano dire il disastro la devastazione e la rovina harbert vedendo rientrare l'ingegnere il giornalista e pencroff comprese che la situazione sarà aggravata e quando poi scorse jupp non dubitò più che una disgrazia minacciasse granite house sì signor cyrus disse voglio partire posso sopportare il viaggio voglio partire gideon spilett si avvicinò ad harbert poi dopo averlo guardato partiamo dunque disse in breve si decise se harbert sarebbe stato trasportato su di una barella o nel carretto che ayrton aveva condotto al recinto la barella avrebbe avuto movimenti più dolci per il ferito ma rendeva necessari due portatori e quindi due fucili sarebbero mancati alla difesa in caso di attacco per la strada non si poteva invece adoperare il carro lasciando così tutte le braccia disponibili era dunque impossibile collocarvi i materassi su cui riposava harbert e avanzare con tanta precauzione che ogni scossa gli fosse evitata si poteva fu condotto il carro pencroff vi attaccò l'onagro cyrus smith e giornalista sollevarono i materassi di harbert e li posarono sul fondo del carro fra due sponde il tempo era bello vivi raggi di sole si insinuavano attraverso gli alberi le armi sono pronte domandò cyrus smith erano pronte l'ingegnere pencroff armati ciascuno di un fucile a due colpi e gideon spilett con la sua carabina non avevano che da partire sei sistemato bene harbert domandò l'ingegnere signor cyrus rispose il ragazzo state tranquillo non morirò per via il povero ragazzo parlava così ma si vedeva che faceva appello a tutta la sua energia e che solo per un supremo sforzo di volontà teneva ad este le sue forze prossime a estinguersi l'ingegnere si sentì stringere il cuore dolorosamente esitò ancora a dare il segnale della partenza ma sarebbe stato come mettere harbert alla disperazione forse anche ucciderlo in cammino disse cyrus smith la porta del recinto venne aperta giuppe top che sapevano tacere quando era necessario si slanciarono avanti il carretto uscì la porta fu richiusa e l'onagro guidato da pencroff avanzò con passo lento sarebbe stato meglio prendere un'altra strada non quella che andava direttamente dal recinto granite house ma il carro avrebbe incontrato grandi difficoltà a muoversi in mezzo ai boschi bisogna dunque seguire questa via benché giardamente nota i deportati cyrus smith gideon spilett camminavano i due lati del carro pronti a rispondere ad ogni attacco ma non era probabile che i deportati avessero già abbandonato l'altipiano di bella vista il biglietto di nab evidentemente era stato scritto e mandato appena i deportati vi si erano mostrati ora questo biglietto era stato scritto alle 6 del mattino e l'agile scimmia abituata a venire spesso al recinto aveva impiegato appena tre quarti d'ora per correre le 5 miglia che lo separavano da granite house la strada doveva essere sicura in quel momento e se fosse stato necessario sparare sarebbe stato nelle vicinanze di granite house tuttavia i coloni stavano in guardia top e jupp questo armato del suo bastone ora precedendo i coloni ora perlustrando il bosco ai lati della strada non segnalavano alcun pericolo il carro avanzava lentamente guidato da pencroff avevano lasciato al recinto alle sette e mezzo un'ora dopo quattro miglia su cinque erano state superate senza alcun incidente la strada era deserta come tutta la parte del bosco dello jacamar che si estendeva fra il mercy e il lago nessuna allarme i cedui parevano deserti come nel giorno in cui i coloni erano sbarcati sull'isola i coloni si avvicinavano all'altipiano ancora un miglio e sarebbero stati in vista del ponticello del creek glicerina sarò smith era persuaso che il ponticello sarebbe stato al suo posto sia che i deportati fossero entrati da quella parte sia che dopo aver passato uno dei corsi d'acqua che chiudevano la cinta avessero preso la precauzione di abbassarlo per aprirsi la via a un'eventuale ritirata finalmente gli ultimi alberi si diradarono permettendo ai coloni di vedere il mare ma il carretto continuò la sua strada poiché nessuno dei suoi difensori poteva pensare ad abbandonarlo a un tratto pencroff fermò l'onagro e con voce terribile miserabili esclamò e con la mano mostrò una densa nuvola di fumo che turbinava al di sopra del mulino delle stalle e della corte degli animali un uomo si agitava in mezzo quei vapori era nab i suoi compagni mandarono un grido e gli udì e corse loro incontro i deportati avevano abbandonato l'altipiano da circa mezz'ora dopo averlo devastato il signor arbert esclamò nab gideon spilett ritornò allora presso il carro arbert era svenuto capitolo 10 i coloni non si curarono più né dei pirati né dei pericoli che minacciavano granite house né delle rovine di cui era coperto l'altipiano lo stato di arbert aveva l'assoluta precedenza il trasporto forse gli era stato funesto provocando qualche lesione interna il giornalista non poteva dirlo ma tanto lui che i suoi compagni erano disperati il carretto fu condotto alla svolta del fiume su alcuni rami disposti a barella furono dei posti materassi su cui riposava arbert svenuto dieci minuti dopo cyrus smith gideon spilett e pencroff erano ai piedi della muraglia mentre nab venne lasciata la cura di ricondurre il carro sull'altipiano di bella vista l'ascensore fu messo in movimento e poco dopo arbert era disteso sul suo lettuccio di granite house le cure che gli furono prodigate lo richiamarono in vita sorrise per un istante ritrovandosi nella sua camera ma poteva appena mormorare qualche parola tant'era grande la sua debolezza gideon spilett esaminò le ferite temeva che essendo imperfettamente cicatrizzate si fossero riaperte nulla di tutto questo da che cosa derivava dunque quella prostrazione perché arbert era peggiorato il giovinetto fu preso allora da una specie di torpore febbrile e il giornalista e pencroff rimasero vicino al suo letto intanto cyrus smith metteva nab al corrente di quel che era successo al recinto e nab raccontava al suo padrone gli avvenimenti di cui l'altipiano era stato teatro soltanto nel corso della notte precedente i deportati si erano mostrati sull'estremo limite della foresta nei pressi del creek glicerina nab che vegliava presso il pollaio non aveva esitato a far fuoco su uno di essi che si accingeva ad attraversare il corso d'acqua ma poiché la notte era stata piuttosto scura non aveva potuto sapere se quel miserabile era stato colpito ad ogni modo lo sparo non era bastato ad allontanare la banda e nab aveva appena avuto il tempo di risalire a granite house ove almeno si trovò al sicuro che cosa fare allora come impedire la devastazione di cui i deportati minacciavano l'altipiano aveva nab la possibilità di comunicare con il suo padrone e d'altra parte in quale situazione si trovavano anch'essi gli ospiti del recinto saros smith e i suoi compagni erano partiti l'11 novembre ed era ormai il 29 in quei 19 giorni nab non aveva avuto altre notizie se non quelle recate da top che erano disastrose ayrton sparito harbert gravemente ferito l'ingegnere il giornalista il marinaio prigionieri per così dire nel recinto che cosa fare si chiedeva il povero nab per sé personalmente nulla da temere già che i deportati non potevano raggiungerlo entro granite house ma le costruzioni le piantagioni tutti frutti di tanto lavoro in balia dei pirati nab ebbe allora l'idea di servirsi di giup affidandogli un biglietto conosceva l'estrema intelligenza dell'orango che era stato sovente messa alla prova giup comprendeva la parola recinto pronunciata spesso in sua presenza e varie volte aveva condotto colà il carro in compagnia di pencroff non era ancora giorno fatto l'agile orango avrebbe certo saputo passare inosservato nei boschi di cui d'altronde i pirati l'avrebbero creduto un abitatore nab non esitò scrisse il biglietto l'attaccò il collo di giup condusse la scimmia alla porta di granite house dalla quale lasciò scendere fino a terra una lunga corda poi a più riprese gli ripete queste parole giup giup recinto recinto l'animale comprese afferrò la corda si lasciò scivolare rapidamente fin sul greto e disparve nell'ombra senza che l'attenzione dei deportati fosse stata minimamente destata hai fatto bene nab rispose cyrus smith ma non avvertendoci forse avresti fatto meglio ancora e così dicendo cyrus smith pensava ad arbert il cui trasporto sembrava averne gravemente compromesso la convalescenza nab finì il suo racconto i deportati non s'erano mostrati sulla spiaggia non conoscendo il numero degli abitanti dell'isola potevano supporre che granite house fosse difesa da forze rilevanti dovettero ricordarsi che durante l'attacco del brigantino numerosi colpi di arma da fuoco li avevano accolti tanto dalle rocce inferiori che da quelle superiori e indubbiamente non vollero esporsi ma l'altipiano di bella vista era loro aperto e non cadeva sotto i tiri di granite house essi si allontanarono dunque al loro istinto di depredazione saccheggiando bruciando facendo il male per il male e non si ritirarono che mezz'ora prima dell'arrivo dei coloni che forse credevano ancora rinchiusi nel recinto nab si era precipitato fuori dal suo rifugio era risalito sull'altipiano a rischio di essere colpito da qualche proiettile aveva tentato di spegnere l'incendio che distruggeva le costruzioni del pollaio lottando ma in vano contro il fuoco sino al momento in cui il carro era apparso al limite del bosco questi erano stati i gravi avvenimenti svoltisi durante l'assenza dei coloni era evidente che la presenza dei deportati costituiva una minaccia permanente per i coloni dell'isola di l'ilcon sino allora così felici e che adesso invece potevano aspettarsi sventure anche più gravi gideon spilett rimase a granite house vicino ad arbert e a pencroff mentre cyrus smith accompagnato da nab andò a esaminare con i suoi occhi l'entità del disastro era una fortuna che i deportati non si fossero avanzati sino ai piedi di granite house i laboratori dei camini non sarebbero sfuggiti alla devastazione ma tutto considerato questo male sarebbe stato forse più facilmente riparabile delle rovine accumulate sull'altipiano di bella vista cyrus smith e nab si diressero verso il mercy e ne risalirono la riva sinistra senza incontrare alcuna traccia del passaggio dei deportati nemmeno dall'altra parte del fiume nel fitto bosco ebbero osservare indizi sospetti d'altra parte ecco ciò che si poteva pensare secondo ogni probabilità o i deportati sapevano dal ritorno dei coloni a granite house per averli veduti passare sulla strada del recinto o dopo la devastazione dell'altipiano si erano cacciati nel bosco dello jacamar seguendo il corso del mercy e ignoravano il loro ritorno nel primo caso erano senza dubbio ritornati verso il recinto ormai indifeso e che racchiudeva risorse per loro preziose nel secondo caso dovevano aver raggiunto di nuovo il loro accampamento ivi aspettando qualche buona occasione per ricominciare l'attacco vera dunque modo di prevenirli ma ogni impresa destinata a sbarazzare l'isola era ancora subordinata alle condizioni di salute di harbert infatti cyrus smith avrebbe avuto bisogno dei suoi compagni e nessuno poteva in quel momento abbandonare granite house l'ingegnere nab arrivarono sull'altipiano era una desolazione i campi erano stati calpestati le spighe mature per essere immietute giacevano al suolo le altre culture non avevano sofferto meno l'orto era sconvolto fortunatamente granite house possedeva una riserva di sementi che avrebbe permesso di riparare quei danni quanto al mulino alle costruzioni del cortile alla stalla degli onagri il fuoco aveva distrutto tutto alcuni animali spauriti vagavano qua e là per l'altipiano i volatili che durante l'incendio si erano rifugiati sulle acque del lago ritornavano già le loro sedi abituali lungo le rive là tutto era da rifare il volto di cyrus smith più pallido del solito denotava una collera interna dominata a fatica ma egli non disse una sola parola guardò un'ultima volta i suoi campi devastati il fumo che si innalzava ancora dalle rovine poi ritornò granite house i giorni che seguirono furono i più tristi che i coloni avessero sino allora trascorsi nell'isola la debolezza di harbert aumentava visibilmente sembrava che una malattia più grave conseguenza della profonda prostrazione fisiologica subita lo minacciasse e gideon spilett presentiva un così forte aggravamento del suo stato da sentirsi impotente a combatterlo infatti harbert rimaneva in un assopimento quasi continuo e alcuni sintomi di delirio cominciarono a manifestarsi le tisane rinfrescanti erano i soli rimedi a disposizione dei coloni la febbre non era ancora fortissima ma presto parve volersi stabilire in accessi a intermittenza regolare gideon spilett se ne rese conto il 6 dicembre il povero ragazzo il cui naso le dita le orecchie divennero estremamente pallidi fu dapprima preso da leggeri brividi da sudore freddo da tremiti il battito del polso era breve e regolare la pelle secca aveva inoltre una sete intensa a questo periodo successa una fase di calore il viso s'animò la pelle arrossò il polso si accelerò poi si manifestò un sudore abbondante in seguito al quale la febbre parve diminuire l'accesso era durato circa cinque ore gideon spilett non aveva lasciato un momento harbert affetto adesso da una febbre intermittente questo era ormai certo purtroppo e questa febbre doveva essere arrestata a ogni costo prima che aumentasse ancora e per arrestarla disse gideon spilett a cyrus smith occorre un febbrifugo un febbrifugo rispose l'ingegnere non abbiamo né china né solfato di chinino no disse gideon spilett ma ci sono dei salici sull'orlo del lago e la corteccia del salice può qualche volta sostituire il chinino proviamo dunque senza perdere un istante rispose cyrus smith la corteccia del salice infatti è stata giustamente considerata come un succedaneo della china così come l'ippocastano la foglia dell'agrifoglio la serpentaria eccetera bisognava evidentemente provare quella sostanza quantunque non valesse la china e adoperarla allo stato naturale perché mancavano i mezzi per estrarne l'alcaloide vale a dire la salicina cyrus smith andò egli stesso a tagliare dal tronco di una specie di salice nero alcuni pezzi di corteccia li portò a granite house li ridusse in polvere e questa polvere fu somministrata da harbert la sera stessa la notte passò senza gravi incidenti harbert ebbe un po di delirio ma la febbre non ritornò nella notte né durante il giorno seguente pencroff ricominciò a sperare gideon spilett taceva poteva darsi che le intermittenze non fossero quotidiane che la febbre fosse terzana in una parola e che ritornasse quindi il giorno dopo per conseguenza i coloni attendevano l'indomani con la più viva ansietà era da notare inoltre che durante il periodo da piressia harbert rimaneva molto abbattuto gli pesava la testa ed era facile agli stordimenti ma un nuovo sintomo sgomentò al massimo grado il cronista il fegato di harbert cominciava a congestionarsi e poco dopo un delirio più intenso dimostrò che anche il suo cervello era attaccato dalla congestione gideon spilett sentì che il coraggio lo abbandonava davanti a questa nuova complicazione chiamò in disparte l'ingegnere è una febbre perniciosa gli disse una febbre perniciosa esclamò cyrus smith vi ingannate spilett la febbre perniciosa non si manifesta spontaneamente bisogna averne contratto il germe non mi sbaglio rispose il giornalista harbert avrà indubbiamente contratto il germe nelle paludi dell'isola ed è quanto basta ha già avuto un primo attacco se ne sopravviene un secondo e non riusciamo impedire il terzo è perduto ma ha questa corteccia di salice è insufficiente rispose il giornalista e un terzo attacco di febbre perniciosa se non cessa per mezzo del chinino è sempre mortale fortunatamente pencroff non aveva udito una parola di questa conversazione sarebbe impazzito si può immaginare in quale inquietitudine vissero l'ingegnere e il giornalista durante quella giornata del 7 dicembre e la notte seguente verso la metà della giornata si verificò il secondo accesso la crisi fu terribile harbert si sentiva perduto tendeva le braccia verso saru smith verso spilett verso pencroff non voleva morire la scena fu straziante bisogno allontanare pencroff l'attacco durò cinque ore era evidente che harbert non avrebbe sopportato un terzo la notte fu spaventosa nel suo delirio harbert diceva cose che spezzavano il cuore dei suoi compagni vaneggiava lottava contro i deportati chiamava ayrton supplicava l'essere misterioso il protettore sparito ormai e la cui immagine lo ossessionava poi ricadeva in una prostazione profonda che lo annientava completamente parecchie volte gideon spilett credette che il povero giovane fosse morto la giornata successiva 8 dicembre non fu che un succedersi di allarmi le mani smagrite di harbert si contraevano sulle lenzuola gli erano state somministrate nuove dosi di corteccia pestata ma il giornalista non si aspettava alcun risultato se prima di domani mattina non gli abbiamo dato un febbrifugo più energico disse il giornalista harbert sarà morto e venne la notte l'ultima indubbiamente di quel ragazzo coraggioso buono intelligente tanto superiore alla sua età e che tutti amavano come un figlio il solo rimedio che esistesse contro quella terribile febbre perniciosa il solo specifico che potesse vincerla non si trovava nell'isola di lincoln durante quella notte dall 8 al 9 dicembre harbert fu ripreso da un delirio più intenso il suo fegato era orribilmente congestionato il suo cervello colpito ed era ormai impossibile che riconoscesse alcuno sarebbe vissuto sino all'indomani fino al terzo accesso che doveva immancabilmente portarlo via non vi era più da sperarlo le sue forze erano esaurite e nell'intervallo fra una crisi e l'altra sembrava esanime verso le tre del mattino harbert mandò un urlo spaventoso sembrò contorcersi in una suprema convulsione nab che era presso di lui spaventato si precipitò nella camera vicina dove gli altri vegliavano in quel mentre top abbaiò in un modo strano tutti accorsero subito e riuscirono a trattenere il giovane morente che voleva gettarsi dal letto mentre gideon spilett prendendogli il braccio sentiva il polso rianimarsi a poco a poco erano le cinque del mattino i raggi del sole che spuntava cominciavano a penetrare nelle stanze di granite house s'annunciava una bella giornata e questa giornata sarebbe stata l'ultima per il povero harbert un raggio s'insinuò sino alla tavola vicino al letto improvvisamente pencroff cacciando un grido mostrò un oggetto posto sulla tavola era una scatoletta oblunga che portava sul coperchio queste parole solfato di chinino capitolo 11 gideon spilett prese la scatola e l'aprì conteneva circa 200 granelli di una polvere bianca di cui portò alle labbra qualche particella il sapore molto amaro di quella sostanza non poteva lasciare dubbi era proprio il prezioso alcaloide della china l'anti perniciosa per eccellenza bisognava somministrare senza indugio quella polvere ad harbert sul come essa si trovasse là si sarebbe discusso più tardi un po di caffè chiese gideon spilett pochi istanti dopo nab portava una tazza della tiepida bevanda gideon spilett vigettò circa 18 grani di chinino e fece bere questa mistura ad harbert si era ancora in tempo già che il terzo accesso della febbre perniciosa non si era manifestato e si è concesso di aggiungere non doveva più tornare d'altra parte bisogna pur dirlo tutti avevano ripreso speranza l'influenza misteriosa si era nuovamente manifestata in un momento supremo quando si disperava di essa in capo ad alcune ore harbert riposava più tranquillamente i coloni poterono allora parlare di quest'ultimo fatto l'intervento dello sconosciuto era più evidente che mai ma come aveva egli potuto penetrare durante la notte in granite house era assolutamente inesplicabile e in verità il modo di procedere del genio dell'isola era non meno strano del genio medesimo nel corso di quella giornata e di tre ore in tre ore circa il solfato di chinino fu somministrato ad harbert harbert sin dall'indomani cominciò a risentire un certo miglioramento tuttavia egli non era ancora guarito e le febbre intermittenti sono soggette a frequenti e pericolose ricadute ma le cure non gli mancarono e poi lo specifico era là e non lungi indubbiamente era colui che l'aveva portato insomma un'immensa speranza rinacque in tutti i cuori questa speranza non fu delusa dieci giorni dopo il 20 dicembre harbert entrava in covalescenza era debole ancora e gli era stata imposta una severa dieta ma non gli era più tornato nessun accesso di febbre e poi il docile ragazzo si sottometteva così volentieri a tutte le prescrizioni aveva tanta voglia di guarire pencroff era come un uomo tratto dal fondo di un abisso aveva delle deliranti crisi di gioia superato lo sgomento del terzo accesso egli aveva stretto fra le sue braccia il giornalista sino a soffocarlo da allora lo chiamò sempre dottor spilett rimaneva da scoprire il vero dottore lo scopriremo ripete il marinaio e certo quell'uomo chiunque fosse doveva aspettarsi qualche rude abbraccio dal buon pencroff il mese di dicembre terminò e con esso anche l'anno 1867 durante il quale i coloni dell'isola di lincoln erano stati così duramente provati l'anno 1868 incominciò con un tempo splendido un caldo intenso una temperatura tropicale che il venticello marino fortunatamente mitigava harbert rinasceva e dal suo letto presso una delle finestre di granite house aspirava quell'aria salubre carica ad emanazioni saline che gli ridonava la salute incominciava a mangiare e dio sa che buoni piattini leggeri e saporiti gli preparava nab c'è da aver voglia ad essere stato morente diceva pencroff durante tutto quel periodo i deportati non si erano mai mostrati nei dintorni di granite house di ayrton nessuna notizia e se l'ingegnere harbert conservavano ancora qualche speranza di ritrovarlo gli altri erano convinti che il disgraziato fosse morto tuttavia era impossibile perdurare in quell'incertezza e appena il giovinetto si fosse rimesso in forze l'ideata importante spedizione sarebbe stata subito intrapresa ma bisognava forse aspettare un mese perché tutte le forze della colonia non sarebbero state di troppo per aver ragione dei deportati dal resto harbert andava di bene in meglio la congestione del fegato era sparita e le ferite potevano considerarsi come definitivamente cicatrizzate in quel mese di gennaio lavori importanti furono fatti sull'altipiano di bella vista ma non servirono che a salvare quel che poteva essere salvato dei raccolti devastati sia di grano sia di ortaggi le sementi le pianticelle furono raccolte perché potessero produrre una nuova mess per la prossima stagione cyrus smith preferì invece aspettare a ricostruire fabbricati del cortile il mulino e le feriterie mentre lui e i suoi compagni sarebbero andati all'inseguimento dei deportati questi avrebbero potuto fare una nuova visita all'altipiano e quindi non bisognava dar loro la possibilità di rinnovare le loro gesta di predoni ed incendiari quando l'isola fosse stata sgomberata dai malfattori si sarebbe pensato riedificare il giovane convalescente aveva incominciato ad alzarsi nella seconda quindicina di gennaio prima un'ora al giorno poi due poi tre le forze gli ritornavano a vista d'occhio tanto la sua costituzione era vigorosa aveva ora 18 anni era alto e prometteva di divenire un uomo bello e prestante a datare da quel momento la sua convalescenza pur esigendo ancora qualche cura e benché il dottor spilett si mostrasse severissimo procedette regolarmente verso la fine del mese harbert percorreva già l'altipiano di bella vista e litorale alcuni bagni di mare presi in compagnia di pencroff e di nab gli fecero un gran bene cyrus smith credette di poter fin da allora stabilire il giorno della partenza che venne fissata per il 15 febbraio le notti molto chiare in quell'epoca dell'anno sarebbero state propizie alle ricerche che si trattava di fare in tutta l'isola i preparativi richiesti dall'esplorazione furono dunque iniziati e dovevano essere assai accurati perché i coloni s'erano proposti di non rientrare a granite house se prima non avessero raggiunto un doppio scopo da una parte distruggere i pirati e ritrovare airton se era ancora in vita dall'altra parte scoprire colui che presedeva così efficacemente ai destini della colonia dell'isola di lilcon i coloni conoscevano a fondo tutta la costa orientale dal capo artiglio fino ai capi mandibola le vasti paludi delle tadorne i dintorni del lago grant i boschi dello jacamar compresi fra la strada del recinto al mercy i corsi d'acqua del mercy e del creek rosso e infine i contrafforti del monte franklin tra i quali era stato costruito il recinto avevano poi esplorato ma solamente in modo imperfetto il vasto litorale della baia washington dal capo artiglio sino al promontorio del rettile il margine forestale paludoso della costa ovest e quelle interminabili dune che finivano nelle fauci semi aperte del golfo del pesce cane ma non avevano mai percorso i larghi tratti boscosi che coprivano la penisola serpentine tutta la destra del mercy la riva sinistra del fiume della cascata e quel groviglio capriccioso di contrafforti di controvalli che sostenevano per tre quarti la base del monte franklin a ovest a nord e a est dove molte migliaia di acri dell'isola erano sfuggiti alla loro esplorazione e di conseguenza anche parecchi nascondigli fu perciò deciso che la spedizione avrebbe attraversato il far west in modo da comprendere tutta la parte situata sulla destra del mercy forse sarebbe stato meglio dirigersi prima di tutto verso il recinto ovvero era da temere che i deportati si fossero di nuovo rifugiati sia per depredarlo sia per installarvisi ma o la devastazione del recinto era ormai un fatto compiuto e allora era troppo tardi per impedirla o i deportati avevano trovato opportuno trincerarvisi e in questo caso i coloni sarebbero stati sempre in tempo per dargli a snidare da quel covo perciò venne approvato nella discussione il primitivo progetto e i coloni risolsero di raggiungere attraverso i boschi il promontorio del rettile si sarebbero aperti il cammino a colpi di scure segnando così il primo tracciato di una via di comunicazione fra granite house e l'estremità della penisola per una lunghezza di 16 o 17 miglia il carro era in ottimo stato gli onagri ben riposati avrebbero potuto resistere per lungo tratto di strada viveri oggetti d'accampamento cucina portatile utensili diversi furono caricati sul carro insieme alle armi e alle munizioni scelte con ogni cura nell'arsenale ormai così completo di granite house ma bisognava non dimenticare che i deportati correvano forse i boschi e che in mezzo a quelle fitte foreste ci voleva poco far partire una fucilata e poco anche a riceverla di cui la necessità per la piccola schiera dei coloni di restare compatta e non dividersi per nessuna ragione fu anche stabilito che nessuno sarebbe rimasto a granite house persino top e jupp dovevano far parte della spedizione l'inaccessibile dimora poteva anche custodirsi da sé il 14 febbraio vigilia della partenza era una domenica fu consacrata interamente al riposo e santificata con le preghiere che i coloni rivolsero al creatore harbert completamente guarito ma ancora un po debole avrebbe avuto un posto riservato sul carro l'indomani allo spuntar del giorno cyrus smith prese le precauzioni necessarie per mettere granite house al sicuro da ogni invasione le scale che servivano un tempo all'ascensione furono portate ai camini e profondamente sotterrate nella sabbia in modo che potessero servire al ritorno poiché il tamburo dell'ascensore fu smontato e dell'apparecchiatura non restò più niente pencroff restò per ultimo in granite house per condurre a termine questa operazione e ridiscese mediante una corda l'altra estremità della quale era trattenuta in basso una volta tirata a terra non lasciò più sussistere alcuna comunicazione fra il piano superiore e la spiaggia il tempo era magnifico si prepara una giornata calda disse allegramente il giornalista ebbene dottor spilett rispose pencroff cammineremo nell'ombra degli alberi e ci accorgeremo nemmeno del sole in cammino disse l'ingegnere il carro aspettava sulla spiaggia davanti ai camini il giornalista aveva preteso che arbert vi prendesse posto almeno durante le prime ore del viaggio e il giovinetto dovette sottomettersi alle prescrizioni del suo medico nab si mise alla testa degli onagri sarò smith il giornalista il marinaio precedevano top sgambettava allegramente arbert aveva offerto giù un posto nel suo veicolo e giù aveva accettato senza complimenti il momento della partenza raggiunto e la piccola comitiva si mise in marcia il carro prima svolto all'angolo della foce del mercy e dopo aver risalito per un miglio la riva sinistra del fiume stesso attraversò il ponte alla cui estremità incominciava la strada di porto pallone e là gli esploratori lasciando la sinistra si addentrarono sotto la volta degli immensi boschi che formavano la regione del far west durante le due prime miglia gli alberi largamente spaziati fra loro permisero al carro di circolare liberamente di tanto in tanto bisognava tagliare delle liane e foltici e spugli ma nessun ostacolo serio arrestò la marcia dei coloni i densi rami degli alberi mantenevano una fresca ombra sul suolo deodara douglas casuarine banksi acace gommifere dracene e altre specie già note ai coloni si succedevano a perdita d'occhio nell'isola si trovava ogni specie di uccelli comuni tetraoni jacamar fagiani lori e tutta la cerniera famiglia di cacatua e dei pappagalli maschi e femmine aguti canguri capibara correvano fra le erbe e tutto ciò rammentava ai coloni le prime escursioni fatte al loro arrivo nell'isola però fece notare cyrus smith sembra che questi animali sia quadrupedi che volatili siano più paurosi di allora questi boschi sono dunque stati recentemente percorsi dai deportati dei quali dobbiamo sicuramente trovare le tracce e infatti in parecchi punti i coloni poterono osservare tutti gli indizi del passaggio più o meno recente di un gruppetto di uomini qui i rami d'alberi rotti forse nell'intento di segnare il cammino là le ceneri di un fuoco spento e le impronte di passi che certe parti argillose del terreno avevano conservate ma insomma niente che sembrasse appartenere a un accampamento stabile l'ingegnere aveva raccomandato i compagni di astenersi dal cacciare le detonazioni delle armi da fuoco avrebbero potuto mettere sull'avviso i deportati che si aggiravano forse nella foresta poi i cacciatori sarebbero stati necessariamente trascinati dalla caccia a qualche distanza dal carro mentre era severamente proibito avanzare isolati nella seconda parte della giornata a 6 miglia circa da granite house divenne abbastanza difficile procedere per poter passare attraverso certi folti macchioni bisogna abbattere gli alberi e aprirsi una strada prima però di entrare in quei fitti cedui saru smith aveva cura di mandare avanti top e jupp che adempivano coscienziosamente il loro compito e quando il cane e la scimmia ritornavano senza aver segnalato nulla voleva dire che niente vera da temere né da parte dei deportati né da parte delle fiere due specie di individui del regno animale messo allo stesso livello dei loro feroci istinti la sera di quella prima giornata i coloni si accamparono circa nove miglia da granite house in riva un piccolo affluente del mersi di cui ignoravano l'esistenza e che doveva collegarsi al sistema idrografico da cui il suolo dell'isola traeva la sua meravigliosa fertilità cenarono abbondantemente giacché il loro appetito era stato fortemente eccitato dalla marcia e vennero prese le misure necessarie perché la notte passasse senza incidenti se l'ingegnere avesse avuto a che fare solo con gli animali feroci giaguari o altro avrebbe semplicemente acceso dei fuochi intorno al suo accampamento e questo sarebbe bastato a difenderlo ma i deportati sarebbero stati piuttosto attratti che fermati dalle fiamme ed era quindi meglio in questo caso circondarsi di tenebre la sorveglianza fu del resto severamente organizzata due coloni dovevano vegliare insieme ed era convenuto che ogni due ore i compagni avrebbero dato loro il cambio ora siccome harbert malgrado le sue proteste fu dispensato da quel compito pencroff e gideon spilett da una parte l'ingegnere nab dall'altra montarono la guardia uno dopo l'altro agli accessi dell'accampamento dal resto la notte durò appena poche ore l'oscurità era piuttosto dovuta alla folta cupola delle fronde che all'assenza del sole il silenzio fu appena turbato dai rauchi urli dei giaguari e dal ghignare delle scimmie che sembrava irritare particolarmente mastro giup la notte passò senza incidenti e il giorno successivo 16 febbraio la marcia più lenta che faticosa venne ripresa attraverso la foresta in quel giorno la comitiva non poté fare che sei miglia perché ogni momento bisognava aprirsi la strada con l'accetta da veri settlers i coloni risparmiavano gli alberi grandi e belli il cui taglio d'altra parte sarebbe costato loro enormi fatiche e sacrificavano i piccoli ma ne risultava che la strada prendeva una direzione poco rettilinea e s'allungava in numerose svolte nel corso della giornata harbert scoprì nuove specie di piante la cui presenza non era ancora stata segnalata nell'isola e cioè delle felci arborescenti con foglie a parma ricadenti che sembravano espandersi come le acque di una fontana due carrubi di cui gli onagri brucarono avidamente i lunghi baccelli dal polpe zuccherine di sapore eccellente i coloni trovarono pure colà dei magnifici cauri disposti a gruppi i cui tronchi cilindrici coronati da un cono di verzura se levavano un'altezza di 200 piedi erano quelli tipici alberi della nuova zelanda celebri quanto i cedri del libano quanto alla fauna essa non presentò altri esemplari che quelli già sino allora conosciuti dai cacciatori intravidero però ma senza poterla avvicinare una coppia di quei grandi uccelli propri dell'australia specie di casuari chiamati emu alti cinque piedi bruni di penne che appartengono all'ordine dei trampolieri top si slanciò dietro di loro con tutta la velocità delle sue quattro zampe ma i casuari lo distanziarono facilmente tanto era prodigiosa la loro rapidità quanto alle tracce lasciate dai deportati nella foresta se ne rivelavano altre vicino a un fuoco che sembrava spento da poco i coloni osservarono delle impronte che esaminarono con estrema attenzione misurando le luna dopo l'altra secondo la loro lunghezza e larghezza fu facile individuare la traccia dei piedi dei cinque uomini i cinque deportati si erano evidentemente accampati in quel punto ma e questo era l'oggetto di un così minuzioso esame non fu possibile scoprire una sesta impronta che sarebbe stata quella del piede di ayrton ayrton non era con loro disse arbert no rispose pencroff e se non era con loro vuol dire che i miserabili l'hanno già ucciso ma quei farabuti non hanno dunque una tana dove si possa abbraccarli come tigri no rispose il giornalista è più probabile che vadano all'avventura ed è loro interesse del resto errare così fino al momento in cui saranno padroni dell'isola padroni dell'isola esclamò pencroff padroni dell'isola ripete e la sua voce era strozzata come se una mano di ferro l'avesse afferrato alla gola poi in tono più calmo sapete signor cyrus disse che palla ho messo nel mio fucile no pencroff la palla che ha attraversato il petto di arbert e vi prometto che essa non fallirà il colpo ma queste giuste rappresaglie non potevano però rendere la vita da ayrton e dall'esame delle impronte lasciate sul terreno i coloni dovevano ahimè concludere che non c'era più nessuna speranza di rivederlo quella sera l'accampamento fu stabilito a 14 miglia da granite house e cyrus smith calcolò che non dovevano essere lontani più di 5 miglia dal promontorio del rettile infatti l'indomani raggiunsero l'estremità della penisola e così la foresta era stata attraversata in tutta la sua lunghezza ma nessun indizio aveva permesso di trovare il rifugio dove s'erano nascosti i deportati né quello non meno segreto che dava asilo al misterioso sconosciuto capitolo 12 la giornata seguente 18 febbraio fu dedicata all'esplorazione di tutta la parte boscosa che formava il litorale dal promontorio dal rettile sino al fiume della cascata i coloni poterono perlustrare minutamente quella foresta la cui larghezza variava da 3 a 4 miglia già che era compresa fra le due coste della penisola serpentine gli alberi per la loro altezza e il ricchissimo fogliame attestavano la potenza vegetativa del suolo più sbalorditiva qui che in ogni altra parte dell'isola si sarebbe detto un angolo delle foreste vergini dell'america o dell'africa centrale trasportato su quella zona temperata ciò induceva ad ammettere che quei magnifici vegetali trovassero nel suolo umido alla superficie ma scaldato internamente da fuochi vulcanici un calore impossibile a trovarsi in un clima di quel tipo le piante dominanti erano precisamente quei cauri e quegli eucalipti che assumono dimensioni gigantesche ma lo scopo dei coloni non era di ammirare quelle magnificenze vegetali sapevano già che sotto questo aspetto l'isola di lincoln avrebbe meritato di far parte di quel gruppo delle canarie che da principio si chiamavano isole fortunate ma adesso ahimè l'isola non apparteneva a loro più per intero altri ne avevano preso possesso degli scellerati ne calpestavano il suolo e bisognava annientarli tutti sulla costa occidentale non si scoprì più nessuna traccia quantunque si fosse messa alla massima cura nelle ricerche non più impronte di passi non più rami d'alberi spezzati non più ceneri spente non più accampamenti abbandonati la cosa non mi stupisce disse Cyrus Smith ai compagni i deportati sono sbarcati sull'isola nelle vicinanze della punta del relitto e dopo aver attraversato la palude delle tadorne si sono immediatamente gettati nelle foreste del far west hanno dunque seguito pressa poco la strada che abbiamo preso noi lasciando granite house questo spiega le tracce che abbiamo trovato nei boschi ma arrivati al litorale i deportati hanno compreso che non vi potevano trovare un conveniente rifugio e allora risalendo verso il nord hanno scoperto il recinto dove sono forse ritornati disse Pencroff non credo rispose l'ingegnere perché devono certo supporre che le nostre ricerche ci porteranno da quella parte il recinto non è per loro che un luogo d'approvvigionamento e non un accampamento definitivo sono del parere di Cyrus disse il giornalista e secondo la mia opinione i deportati devono aver cercato un nascondiglio in mezzo ai contraforti del monte franklin allora signor Cyrus direttamente al recinto esclamò Pencroff bisogna finirla e finora abbiamo perduto il nostro tempo no amico mio rispose l'ingegnere voi dimenticate che avevamo interesse a sapere se le foreste del far west nascondessero qualche rifugio la nostra esplorazione ha un doppio scopo Pencroff se da una parte dobbiamo punire il delitto dall'altra abbiamo un atto di riconoscenza da compiere ben detto Cyrus rispose il marinaio ritengo tuttavia che troveremo quel gentiluomo solo se gli lo vorrà e veramente Pencroff non faceva che esprimere l'opinione di tutti era probabile che il rifugio dello sconosciuto non fosse meno misterioso di lui stesso quella stessa sera il carro si fermò lo sbocco del fiume della cascata per pernottare tutto fu organizzato secondo il solito e vennero prese le abituali precauzioni per la notte harbert ridivenuto ragazzo vigoroso ai tante che era prima della malattia traeva un gran profitto da quella vita all'aria aperta fra le brezze dell'oceano e l'atmosfera vivificante della foresta il suo posto non era più sul carro ma in testa la carovana all'indomani 19 febbraio i coloni abbandonando il litorale sul quale al di là della foce s'ammucchiavano pittorescamente basalti di svariatissime forme risalirono il corso del fiume tenendosi sulla riva sinistra la strada era in parte libera in seguito alle escursioni precedenti dal recinto fino alla costa ovest i coloni si trovavano allora a sei miglia dal monte franklin il piano dell'ingegnere era questo per lustrare minuziosamente tutta la valle il cui fondo formava il letto del fiume e raggiungere con circospezione le vicinanze del recinto se il recinto era occupato prenderlo con la forza se non era occupato trincerarsi e far nel centro delle operazioni che avrebbero avuto per obiettivo l'esplorazione del monte franklin questo piano fu un animamento approvato dai coloni che davvero non vedevano l'ora di riprendere interamente possesso della loro isola camminarono dunque per la stretta vallata che separava due dei più potenti contrafforti del monte franklin gli alberi numerosi e vicinissimi fra loro sulle sponde del fiume divenivano più rari verso le zone superiori del vulcano era un suolo montuoso abbastanza irregolare favorevolissimo alle imboscate e sul quale i coloni non si arrischiavano che con estrema precauzione top e giup fungevano da esploratori e gettandosi a destra e a sinistra nei cedui folti gareggiavano fra loro in intelligenza e astuzia ma nulla indicava che le rive del corso d'acqua fossero state frequentate di recente nulla annunciava né la presenza né la vicinanza dei deportati verso le 5 della sera il carro si fermò circa 600 passi dalla palizzata che attorniava al recinto una cortina semicircolare di grandi alberi lo nascondeva ancora si trattava di avvicinarsi al recinto per sapere se era occupato andarvi apertamente in piena luce se i deportati vi fossero celati era come esporsi a ricevere qualche brutto colpo come era accaduto ad arbert era dunque meglio aspettare che fosse scesa la notte non di meno guidon spilett voleva esplorare senza ulteriore indugio i dintorni del recinto e pencroff la cui pazienza era agli estremi si offrì di accompagnarlo no amici disse l'ingegnere aspettate la notte non lascerò nessuno di voi esporsi in pieno giorno ma signor cyrus rispose il marinaio poco disposto a obbedire ve ne prego pencroff soggiunse l'ingegnere sia rispose il marinaio che diede altro sfogo alla sua collera gratificando i deportati delle più aspre qualifiche dal repertorio marinaro i coloni rimasero attorno al carro sorvegliando accuratamente il limitare della foresta passarono così tre ore il vento era cessato e un silenzio assoluto regnava sotto i grandi alberi lo spezzarsi del più sottile ramo un rumore di passi sulle foglie secche lo strisciare di un corpo fra le erbe sarebbero stati uditi senza fatica tutto era tranquillo del resto top sdraiato per terra con la testa appoggiata sulle zampe non dava nessun segno di inquietitudine alle otto parve abbastanza buio perché la ricognizione potesse essere fatta in buone condizioni gideon spilett si dichiarò pronto a partire in compagnia di pencroff saru smith acconsentì top e jupp dovettero restare con l'ingegnere harbert e nab già che bisognava evitare che un latrato o un grido lanciati in un momento non opportuno dessero l'allarme non impegnatevi in azioni imprudenti raccomandò saru smith al marinaio e al cronista non dovete impossessarvi del recinto ma solo cercare di sapere se occupato o no d'accordo rispose pencroff e tutte e due partirono sotto gli alberi grazie al loro folto fogliame una certa oscurità rendeva già invisibili gli oggetti oltre una distanza di 30 o 40 piedi il giornalista e pencroff sostando non appena un rumore qualunque sembrava loro sospetto avanzavano con la massima precauzione camminavano l'uno distante dall'altro per offrire minor bersaglio ai colpi giacché si aspettavano da un momento all'altro una detonazione cinque minuti dopo aver lasciato il carro guidon spilett e pencroff erano arrivati al termine del bosco dinnanzi alla radura in fondo alla quale sorgeva la palizzata del recinto si fermarono alcuni vaghi chiarori non davano ancora la prateria priva di alberi a 30 passi si vedeva la porta del recinto che pareva chiusa quei 30 passi da superare fra il margine del bosco e lacinta costituivano la zona pericolosa per impiegare un'espressione presa in prestito dalla balistica infatti una o più palle partite dalla cresta della palizzata avrebbero gettato a terra chiunque si fosse rischiato su quella zona gideon spilett e il marinaio non erano certo uomini da indietreggiare ma sapevano che una loro imprudenza di cui essi sarebbero stati le prime vittime sarebbe poi ricaduta sui loro compagni morti loro che cosa sarebbe avvenuto di cyrus smith di nab e di harbert ma pencroff eccitatissimo dalla vicinanza al recinto ove supponeva che i deportati si fossero rifugiati stava per spingersi avanti quando il giornalista lo trattenne con mano vigorosa fra pochi istanti sarà notte del tutto mormorò gideon spilett all'orecchio di pencroff e allora sarà il momento d'agire pencroff stringendo convulsamente il calcio del suo fucile si contenne e attese imprecando in breve le ultime luci del crepuscolo si spensero completamente l'ombra che pareva uscire dalla tenebrosa foresta invase la radura il monte franklin si drizzava come un enorme cortina all'orizzonto occidentale e l'oscurità scese rapidamente come nelle regioni di bassa latitudine era il momento il cronista e pencroff da quando si erano appostati sul margine del bosco non avevano perduto di vista il recinto chiuso dalla palizzata che pareva assolutamente deserto la sommità della palizzata formava una linea un po più nera dell'ombra circostante e nulla ne alterava il netto disegno se i deportati erano colà dovevano aver apposto uno dei loro in modo da garantirsi da ogni sorpresa gideon spilett strinse la mano del compagno ed entrambi avanzarono strisciando verso il recinto con i fucili pronti a far fuoco giunsero alla porta della cinta senza che l'ombra fosse stata solcata da un solo bagliore di luce pencroff tentò di spingere la porta la quale come il giornalista e lui avevano supposto era chiusa però il marinaio poteva constatare che le sbarre esterne non erano state messe se ne poteva dunque dedurre che i deportati occupavano ancora il recinto e che verosimilmente avevano assicurato la porta in guisa che non si potesse forzarla gideon spilett e pencroff si posero in ascolto nessun rumore all'interno del recinto i muffloni e le capre senza dubbio addormentati nelle loro stalle non turbavano affatto la calma della notte ora se i deportati non sospettavano di nulla se non erano a conoscenza della spedizione tentata contro di loro se insomma esisteva in quel momento una probabilità di sorprenderli era il caso di compromettere questa probabilità arrischiandosi sconsideratamente a scavalcare la palizzata il giornalista non fu di quest'idea egli trovò invece ragionevole aspettare che i coloni fossero tutti riuniti per tentare di penetrare nel recinto intanto era stato possibile accertare che si poteva giungere fino alla palizzata senza essere veduti e che la cinta non poteva essere sorvegliata chiarito questo punto non si trattava ormai che di ritornare verso il carro ove tutti insieme avrebbero deciso il da farsi pencroff condivise forse questo modo di vedere perché non fece alcuna difficoltà a seguire il giornalista quando questi si ritirò per far di nuovo ritorno nel bosco alcuni minuti dopo l'ingegnere era al corrente della situazione ebbene disse dopo aver riflettuto adesso ho motivo di credere che deportati non siano al recinto lo sapremo rispose pencroff quando avremo scalato la cinta al recinto amici disse saru smith lasciamo il carro nel bosco domandò nab no rispose l'ingegnere è il nostro carro di munizioni di vivere e all'occorrenza ci servirà da trinceramento avanti dunque disse giden spilett il carro uscì dal bosco e cominciò ad avanzare senza rumore verso la palizzata l'oscurità era allora profonda il silenzio completo come al momento in cui pencroff e il giornalista si erano allontanati strisciando sul suolo l'erba folta soffocava completamente il rumore dei passi i coloni erano pronti a sparare giup per ordine di pencroff stava indietro nab conduceva top al guinzaglio perché non si lanciasse avanti presto apparve la radura era deserta senza esitare la piccola comitiva si diresse verso la cinta in breve spazio di tempo la zona pericolosa fu superata non un colpo era stato sparato raggiunta la palizzata il carro si fermò nab rimase alla testa degli onagri per trattenerli l'ingegnere il giornalista arbert e pencroff avanzarono allora verso la porta per vedere se era stata sprangata internamente uno dei battenti era aperto ma che cosa ci avete detto domandò l'ingegnere rivolgendosi al marinaio e a guidon spilett tutte e due erano stupefatti per l'anima mia disse pencroff questa porta poco fa era chiusa allora i coloni esitarono i deportati erano dunque nel recinto nel momento in cui pencroff e il giornalista vi si trovavano in ricognizione la cosa non poteva essere dubbia poiché la porta allora chiusa non aveva potuto essere aperta che da loro vi si trovavano ancora oppure uno di essi se n'era appena uscito tutte queste domande si affacciarono istantaneamente alla mente di ciascuno ma come rispondere in quel mentre arbert che si era avanzato di alcuni passi nell'interno del recinto indietreggiò precipitosamente e afferrò la mano di saru smith che cosa c'è chiese l'ingegnere una luce nella casa sì tutte cinque avanzarono verso la porta e infatti attraverso i vetri della finestra in faccia loro videro tremolare un debole barlume saru smith prese rapidamente una decisione è una fortuna veramente unica disse ai compagni trovare i deportati chiusi in questa casa che di nulla sospettano sono il nostro potere avanti i coloni penetrarono allora nel recinto con il fucile spianato il carro era stato lasciato fuori sotto la sorveglianza di chubb e di top che per prudenza vi erano stati legati cyrus smith pencroff gideon spilett da una parte arbert e nab dall'altra rasentando la palizzata osservarono la parte del recinto che era assolutamente oscura e deserta in breve tutti furono presso la casa davanti alla porta che era chiusa cyrus smith fece ai suoi compagni un cenno con la mano per comandar loro di non muoversi e si avvicinò al vetro debolmente illuminato dalla luce interna il suo sguardo cadde nell'unica stanza che formava il piantarreno della casa sulla tavola brillava una lanterna accesa vicino alla tavola era il letto che serviva un tempo ad ayrton sul letto riposava il corpo di un uomo di colpo cyrus smith indietreggiò e con voce soffocata ayrton gridò tosto la porta fu più sfondata che aperta e i coloni si precipitarono nella stanza ayrton pareva dormire il suo viso attestava che aveva lungamente e crudelmente sofferto ai polsi e alle caviglie gli si vedevano larghe lividiture cyrus smith si chinò su di lui ayrton chiamò l'ingegnere afferrando le braccia di colui che veniva ritrovato in circostanze tanto in attese a quella voce ayrton aprì gli occhi e guardando in faccia prima cyrus smith e poi gli altri voi esclamò voi ayrton ayrton rispose cyrus smith dove sono nell'abitazione del recinto solo sì ma stanno per venire gridò ayrton difendetevi difendetevi e ayrton ricadde giù estenuato spilett disse allora l'ingegnere possiamo essere attaccati da un momento all'altro fate entrare il carro nel recinto poi sprangate la porta e ritornate tutti qui pencroff nabbe il giornalista si affrettarono eseguire gli ordini dell'ingegnere non c'era un istante da perdere forse il carro era già in mano ai deportati in un baleno il giornalista i suoi due compagni attraversarono il recinto e raggiunsero la porta della palizzata dietro la quale si sentiva top brontolare sordamente l'ingegnere staccandosi per un istante da ayrton uscì dalla casa pronto a far fuoco harbert era al suo fianco ambe due sorvegliavano la cresta del contraforte che dominava il recinto se i deportati erano nascosti in quel punto potevano benissimo colpire i coloni uno dopo l'altro in quel momento la luna apparva all'est sopra il nero velario della foresta e una bianca distesa di luce dilagò nell'interno del recinto il recinto si illuminò tutto con i suoi gruppi d'alberi il piccolo corso d'acqua che lo irrigava e il suo ampio tappeto d'erba dal lato della montagna la casa e una parte della palizzata spiccavano a volte nel biancore lunare dalla parte opposta verso la porta il recinto rimaneva nell'oscurità in breve una massa nera si mostrò era il carro che entrava nel cerchio di luce e Cyrus Smith poteva udire il rumore della porta che i suoi compagni richiudevano e di cui assicuravano solidamente i battenti all'interno ma in quel momento top rompendo violentamente il guinzaglio si misa ad abbaiare con furore e si slanciò verso il fondo del recinto attenzione amici e pronti a far fuoco gridò Cyrus Smith i coloni avevano spianato i fucili e aspettavano il momento di far fuoco top abbagliava sempre e giup correndo dietro il cane mandò dei sibili acuti i coloni lo seguirono e arrivarono sull'orlo del ruscelletto ombreggiato da grandi alberi e là in piena luce che cosa videro cinque corpi stesi sulla proda erano i corpi dei deportati sbarcati quattro mesi prima nell'isola di lincoln capitolo 13 che cos'era successo chi aveva colpito i deportati era stato ayrton no perché un momento prima egli paventava il loro ritorno ayrton era allora in preda un assoppimento profondo dal quale non fu possibile destarlo dopo le poche parole che aveva pronunciate un pesante torpore s'era impadronito di lui ed era ricoduto immobile sul letto i coloni in preda mille pensieri confusi dominati da una violenta sovraecitazione attesero tutta la notte senza lasciare la casa di ayrton senza ritornare al luogo dove giacevano i corpi dei deportati a proposito delle circostanze in cui questi avevano trovato la morte era probabile che lo stesso ayrton nulla potesse dir loro poiché egli non sapeva nemmeno di trovarsi nel recinto ma sarebbe stato almeno in grado di raccontare i fatti che avevano preceduto quella terribile esecuzione l'indomani ayrton uscì da quel torpore e i suoi compagni poterono testimoniargli cordialmente tutta la gioia che provavano nel rivederlo pressoché sano e salvo dopo 104 giorni di separazione ayrton raccontò allora in poche parole quello che era accaduto o perlomeno quello che egli sapeva all'indomani del suo arrivo al recinto il 10 novembre al cadere della notte egli fu sorpreso dai deportati che avevano scalato la cinta essi lo legarono e lo imbavagliarono poi fu condotto in un'oscura caverna ai piedi del monte franklin là dove i deportati si erano rifugiati la sua morte era stata decisa e il giorno seguente sarebbe stato ucciso quando uno dei deportati lo riconobbe e lo chiamò con il nome che portava in australia quei miserabili volevano massacrare ayrton rispettarono invece ben joyce ma da quel momento ayrton fu tormentato dalle continue pressioni dei suoi complici d'un tempo essi volevano ricondurlo a loro e contavano su di lui per impadronirsi di granite house per penetrare in quell'inaccessibile dimora e per diventare padroni dell'isola dopo averne assassinato i coloni ayrton resistette l'ex deportato pentito e perdonato sarebbe morto piuttosto che tradire i suoi compagni ayrton legato imbavagliato guardato a vista visse in quella caverna per quattro mesi intanto i deportati che poco tempo dopo il loro arrivo nell'isola avevano scoperto il recinto vivevano delle sue riserve ma tuttavia non l'abitavano l'11 novembre due dei banditi inopinatamente sorpresi dall'arrivo dei coloni fecero fuoco su harbert e uno di essi ritornò vantandosi d'aver ucciso uno degli abitanti dell'isola ma ritornò solo il suo compagno come noto era caduto sotto il pugnale di cyrus smith si può immaginare l'inquietitudine e la disperazione di ayrton allorché ebbe la notizia della morte di harbert dunque pensava i coloni non erano che quattro ormai e per così dire alla mercede deportati dopo questo avvenimento e durante tutto il tempo che i coloni passarono al recinto trattenutovi dalla malattia di harbert i pirati non abbandonarono la loro caverna e nemmeno dopo aver devastato l'altipiano di bellavista credettero prudente abbandonarla allora i cattivi trattamenti inflitti ad ayrton raddoppiarono le sue mani e i suoi piedi portavano ancora la sanguinante impronte dei lacci che lo stringevano giorno e notte a ogni istante si aspettava la morte cui gli pareva impossibile sfuggire le cose continuarono così fino alla terza settimana di febbraio i deportati spiando sempre un'occasione favorevole lasciarono raramente il loro nascondiglio e non fecero che alcune battute di caccia nell'interno dell'isola o fino alla costa meridionale ayrton non aveva più notizie dei suoi amici che più non sperava di rivedere infine lo sventurato indebolito dai maltrattamenti cadde in una prostrazione profonda che non gli permise più né di vedere né di sentire cosicché ad atare da quel momento cioè da due giorni non sapeva nemmeno dire quel che era accaduto ma signor smith aggiunse poi se ero imprigionato in quella caverna come mai mi ritrovo al recinto com'è che i deportati si trovano morti là in mezzo al recinto rispose l'ingegnere morti esclamò ayrton che malgrado la debolezza si sollevò a metà sul letto i compagni lo sostennero egli volle alzarsi il suo desiderio fu assecondato e tutti si diressero verso il ruscelletto era giorno fatto là sulla riva nella posizione in cui gli aveva colti la morte che doveva essere stata fulminea giacevano i cinque cadaveri dei deportati ayrton era annichilito cyrus smith e gli altri lo guardavano senza pronunciare una parola a un segno dell'ingegnere nabbe pencroff esaminarono quei corpi già irrigiditi apparentemente non portavano alcuna traccia di ferite dopo averli accuratamente esaminati pencroff scoperse sulla fronte dell'uno sul petto dell'altro sulla schiena di questo sulla spalla di quello soltanto un puntino rosso simile a una contusione appena visibile e di cui era impossibile stabilire l'origine lì sono stati colpiti disse cyrus smith ma con quale arma esclamò il cronista un'arma fulminante di cui non abbiamo il segreto e chi li ha fulminati domandò pencroff il giustiziere dell'isola rispose cyrus smith quello che vi ha trasportato qui ayrton quello la cui influenza se testè ancora manifestata quello che fa per noi tutto quanto noi non possiamo fare da soli e che dopo aver agito si nasconde cerchiamolo dunque gridò pencroff sì cerchiamolo rispose cyrus smith ma l'essere superiore che compie simili prodigi non lo troveremo che quando gli piacerà di chiamarci finalmente a sé quella protezione che annullava completamente la loro azione irritava e commuoveva insieme l'ingegnere la relativa inferiorità che essa metteva in evidenza era di quelle da cui può sentirsi ferita un'anima fiera una generosità che opera in modo da eludere ogni senso di riconoscenza denota una specie di disprezzo per i beneficiati e questo agli occhi di cyrus smith diminuiva in certo modo il valore del beneficio cerchiamo riprese e dio voglia che sia permesso un giorno di provare a questo altero protettore che non ha a che fare con degli ingrati che cosa non darei perché potessimo sdebitarci verso di lui rendergli a nostra volta fosse pur a prezzo della nostra vita qualche segnalato servigio e da quel giorno questa ricerca fu l'unica preoccupazione degli abitanti dell'isola di lincoln tutto l'incitava a scoprire la chiave di quell'enigma chiave che non poteva essere che il nome di un uomo dotato di una potenza veramente inesplicabile e in un certo qual modo sovrumana dopo alcuni istanti i coloni rientrarono nell'abitazione del recinto ove le loro cure ridonarono rapidamente ad Ayrton l'energia fisica e morale nabbe pencroff trasportarono i cadaveri dei deportati nella foresta a qualche distanza dal recinto e li sotterrarono profondamente Ayrton fu poi messo al corrente dei fatti verificatisi durante il suo sequestro seppe allora l'avventura di harbert e conobbe attraverso quali lunghe prove i coloni erano passati essi poi non speravano più di rivedere Ayrton e temevano che i deportati l'avessero inesorabilmente massacrato e adesso disse cyrus smith terminando il suo racconto ci rimane un dovere da compiere la metà del nostro compito è adempiuta ma se i pirati non possono più nuocere non a noi dobbiamo la riconquista assoluta dell'isola ebbene esclamò gideon spilett frughiamo tutto il labirinto dei contrafforti del monte franklin non lasciamo una sola caverna non un buco inesplorati ah se mai un giornalista si è trovato in presenza di un mistero emozionante quel giornalista sono proprio io amici che vi parlo e non ritorneremo a granite house rispose harbert che quando avremo trovato il nostro benefattore si disse l'ingegnere faremo tutto quello che è umanamente possibile ma ripeto non lo troveremo se non quando egli ce lo permetterà restiamo al recinto chiese pencroff restiamoci rispose cyrus smith le provviste sono abbondanti e qui siamo proprio nel centro del nostro campo di investigazione bene rispose il marinaio solamente un'osservazione quale la bella stagione s'avanza e non bisogna dimenticare che abbiamo da fare una traversata una traversata disse gideon spilett sì quella all'isola di tabor rispose pencroff è necessario portarvi un messaggio che indichi la posizione della nostra isola dove si trova attualmente a hilton per il caso in cui lo yacht scozzese venisse a riprenderlo chissà se non sia già troppo tardi ma pencroff chiese a hilton come contate di fare questa traversata sul bon adventure il bon adventure esclamò a hilton ma non esiste più il mio bon adventure non esiste più urlò pencroff sobbalzando no rispose a hilton i deportati l'hanno scoperto nel suo piccolo porto appena otto giorni fa fece pencroff il cui cuore palpitava e non avendo più bob harvey per manovrare si sono incagliati sugli scogli e l'imbarcazione è stata completamente sfasciata ah i miserabili i banditi gli infami esclamò pencroff pencroff disse harbert prendendo la mano del marinaio noi costruiremo un altro bon adventure è ben più grande abbiamo tutte le parti in ferro tutta l'attrezzatura del brigantino a nostra disposizione ma sapete rispose pencroff che occorrono almeno 5 o 6 mesi per costruire un'imbarcazione di 30 o 40 tonnellate impiegheremo il tempo necessario rispose il giornalista e rinunceremo per quest'anno a fare la traversata all'isola di tabor che volete pencroff bisogna rassegnarsi disse l'ingegnere speriamo che questo ritardo non ci sia dannoso il mio bon adventure il mio bon adventure esclamò pencroff veramente costernato per la perdita della sua imbarcazione di cui era fiero la distruzione del bon adventure era stata senza dubbio un fatto deplorevole per i coloni e venne quindi stabilito che quella perdita sarebbe stata riparata il più presto fissato questo punto non si occuparono d'altro che di condurre a buon fine l'esplorazione delle più reconditi parti dell'isola le prime ricerche iniziarono lo stesso giorno e durarono un'intera settimana la base della montagna tra i suoi contrafforti e le numerose ramificazioni formava un labirinto di vallate di controvallate disposto molto capricciosamente evidentemente là in fondo a quelle strette gole forse anche nell'interno del monte franklin conveniva proseguire le ricerche nessun'altra parte dell'isola sarebbe stata più adatta a celare un rifugio il cui ospite volesse rimanere incognito ma i contrafforti erano talmente intricati che cyrus smith dovette procedere alla loro esplorazione metodicamente i coloni visitarono dapprima tutta la vallata che si apriva a sud del vulcano e che raccoglieva le prime acque del fiume della cascata la ayrton mostrò loro la caverna dove si erano rifugiati deportati e nella quale egli era stato sequestrato fino al momento del suo trasporto al recinto quella caverna era nell'identico stato in cui ayrton l'aveva lasciata vi si trovava ancora una certa quantità di munizioni e di viveri che i deportati avevano sottratto dalle proviste del recinto con l'intenzione di crearsi una riserva tutta la vallata che terminava con la grotta vallata ombreggiata da grandi alberi fra cui dominavano le conifere fu esplorata con estrema cura e avendo girato la punta del contrafforte di sud ovest i coloni si cacciarono in una gola più stretta che si apriva in quell'ammasso tanto pittoresco dei basalti del lido qui gli alberi erano più rari la pietra sostituiva l'erba le capre selvatiche e i saltavano sulle rocce la cominciava la parte arida dell'isola si poteva già constatare che delle numerose vallate che si ramificavano alla base del monte franklin tre soltanto erano boscose e ricche di pascoli come quella del recinto confinante a ovest con la vallata del fiume della cascata e a est con quella del creek rosso questi due ruscelli che più in basso diventavano fiumi per la confluenza di alcuni torrenti raccoglievano tutte le acque della montagna e determinavano così la fertilità della parte meridionale dell'isola quanto al mercy era alimentato più direttamente da abbondanti sorgenti perdute sotto l'ombrosa volta della foresta dello jacamar e altre sorgenti della stessa natura espandendosi in mille canaletti bagnavano il suolo della penisola serpentine ora l'una o l'altra di queste tre vallate ove l'acqua non mancava avrebbe potuto benissimo ospitare qualche solitario che vi avrebbe trovato tutto il necessario alla vita ma i coloni le avevano già esplorate e in nessuna parte avevano potuto constatare la presenza dell'uomo era dunque in fondo a quelle aride gole in mezzo agli scoscenimenti delle rocce nelle aspre forre del nord tra le colate di lava che si sarebbe forse trovato il segreto rifugio e il suo ospite la parte nord del monte franklin alla sua base si componeva unicamente di due vallate larghe poco profonde senza tracce di verde sparse di blocchi erratici striate da lunghe morene lastricate di lave rese disuguali da grossi tumori minerali cosparse di ossidiane e labroroditi quella parte richiese lunghe e difficili esplorazioni ivi si trovavano mille cavità poco comode senza dubbio ma assolutamente dissimulata all'occhio e di difficile accesso i coloni visitarono anche degli oscuri cunicoli che risalivano all'epoca plutonica ancora anneriti dal passaggio dei fuochi di un tempo e che si addentravano nell'immensa massa granitica del monte gli esploratori percorsero quelle buie gallerie e con dei rami resinosi accesi frugarono le minime cavità le minime profondità ma dappertutto era silenzio e oscurità sembrava che mai essere umano avesse calpestato il suolo di quegli antichi cunicoli che mai il suo braccio avesse rimosso uno solo di quei blocchi essi erano ancora tali e quali il vulcano li aveva lanciati al di sopra delle acque all'epoca in cui l'isola era emersa ciò nonostante se quelle sovrastrutture sembravano assolutamente deserte se l'oscurità vi era completa cyrus smith fu costretto a riconoscere che non vi regnava però un assoluto silenzio arrivando in fondo a una di quelle tenebrose caverne che si prolungavano per una lunghezza di parecchie centinaia di piedi nell'interno della montagna egli fu sorpreso di udire sordi boati che la sonorità delle rocce accresceva d'intensità anche gideon spilett che l'accompagnava udì quei lontani brontolii che indicavano il rianimarsi del fuoco sotterraneo a varie riprese entrambi ascoltarono e furono d'accordo nel ritenere che qualche reazione chimica si stava sviluppando nelle viscere del suolo il vulcano non è dunque totalmente spento disse il giornalista può essere che dall'epoca della nostra esplorazione del cratere a oggi rispose cyrus smith qualche lavorio si sia verificato negli strati inferiori ogni vulcano benché lo si consideri spento può evidentemente rimettersi in attività ma se si stesse preparando un'eruzione dal monte franklin chiese gideon spilett ci sarebbe pericolo per l'isola di lincoln non credo rispose l'ingegnere il cratere cioè la valvola di sicurezza esiste e l'eccesso dei vapori e delle lave si sfogherà come per il passato per la sua via consueta a meno che le lave non saprono un nuovo passaggio verso le parti fertili dell'isola perché caro spilett rispose cyrus smith perché non dovrebbero seguire la strada che è già stata naturalmente tracciata i vulcani sono capricciosi rispose il giornalista osservate rispose l'ingegnere l'inclinazione di tutto il monte franklin favorisce l'effusione delle materie verso le vallate che stiamo ora esplorando bisognerebbe che un terremoto cambiasse il centro di gravità della montagna perché la linea dell'effusione si modificasse ma un terremoto è sempre probabile nelle condizioni attuali fece rilevare gideon spilett sempre rispose l'ingegnere soprattutto quando le forze sotterranee cominciano a risvegliarsi e le viscere del globo dopo un lungo riposo rischiano ad essere ostruite e così caro spilett un'eruzione sarebbe per noi un fatto grave molto meglio se questo vulcano non avesse la velleità di ridestarsi ma ogni modo noi non ci possiamo far nulla vi pare in ogni caso che che accada non credo che il nostro dominio di granite house possa essere seriamente minacciato tra esso e la montagna il suolo è notevolmente depresso e se per caso le lave prendessero alla direzione del lago sarebbero rigettate sulle dune e sulle zone vicino al golfo del pesce cane dal resto non abbiamo ancora veduto sul vertice del monte il fumo che indica una prossima eruzione disse gideon spirit no rispose cyrus smith nessun gas esce dal cratere di cui proprio ieri ho osservato la sommità ma può essere che nella parte inferiore dell'apertura il tempo abbia accumulato macigni ceneri lave indurite e che la valvola di cui parlavo sia al momento troppo sotto pressione ma al primo sforzo serio ogni ostacolo scomparirà e potete essere sicuro caro spilett che né l'isola che è la caldaia nel vulcano che è il fumaiolo scoppieranno sotto la pressione dei gas non di meno ripeto sarebbe meglio che non vi fosse un'eruzione eppure non ci inganniamo rispose il giornalista si sentono proprio dei sordi buati nelle viscere stesse del vulcano infatti rispose l'ingegnere ascoltando ancora con la massima attenzione non ci si può sbagliare laggiù sopra una reazione di cui non possiamo valutare né l'importanza né il risultato definitivo cyrus smith gideon spirit uscirono all'aperto e ritrovati i compagni fecero loro conoscere questo stato di cose to esclamò pencroff questo vulcano vorrebbe farne qualcuna delle sue ma ci si provi troverà chi lo metterà a dovere chi mai domandò nab il nostro genio nab il nostro genio che imbavaglierà il suo cratere se appena mostrerà l'intenzione di aprirlo come si vede la fiducia del marinaio nella speciale divinità dell'isola era assoluta e in vero la potenza occulta finora manifestatasi mediante tanti atti inesplicabili sembrava illimitata ma essa seppe anche sfuggire alle minuziose ricerche dei coloni poiché malgrado tutti i loro sforzi malgrado lo zelo e più che lo zelo la tenacia impiegata nella loro esplorazione il misterioso nascondiglio non poteva essere scoperto dal 19 al 25 febbraio le investigazioni furono estese a tutta la regione settentrionale dell'isola di lincoln che venne frugata in tutti i più segreti angoli i coloni giunsero sino a sondare ogni parete rocciosa come fanno gli agenti sui muri di una casa sospetta l'ingegnere fece anche un esattissimo rilievo topografico della montagna e spinse le sue ricerche fino all'ultimo strato di roccia che la sosteneva essa fu esplorata così fino all'altezza del cono tronco che terminava il primo ordine di rocce e poi fino alla cresta superiore di quell'enorme cappello in fondo al quale s'apriva il cratere ma i coloni fecero di più visitarono la voragine del vulcano ancora spento ma nelle cui profondità si sentivano distintamente dei brontolii ciò nonostante non tracce di fumo né di vapore né riscaldamento delle pareti indicavano un'eruzione prossima ma né in quella né in altra parte del monte franklin i coloni trovarono le tracce di colui che cercavano le esplorazioni furono allora spinte nella regione delle dune vennero visitata con cura le alte muraglie laviche del golfo del pesce cane dalla base alla cresta quantunque fosse estremamente difficile scendere al livello delle acque nessuno nulla in queste due parole si riassunsero tante fatiche spese inutilmente tanta ostinazione senza risultato nella delusione di cyrus smith e dei suoi compagni c'era una specie di collera bisogna dunque pensare al ritorno giacché le ricerche non potevano protrarsi all'infinito i coloni erano ormai veramente in diritto di credere che l'essere misterioso non risiedesse alla superficie dell'isola e la loro immaginazione citatissima diede all'astura alle più folli ipotesi pencrofe e nab particolarmente non si accontentavano più dello strano e si lasciavano trasportare nel mondo del soprannaturale il 25 febbraio i coloni rientrarono a granite house e per mezzo della doppia corda che una freccia portò sul pianerottolo dinnanzi alla porta ristabilirono la comunicazione fra il loro dominio e il suolo un mese dopo nel 25 giorno di marzo essi salutavano il terzo anniversario del loro arrivo sull'isola di lincoln capitolo 14 tre anni erano passati da che i prigionieri di richmond erano fuggiti e quante volte durante quei tre anni avevano parlato della patria sempre presente al loro pensiero erano convinti che la guerra civile fosse ormai finita e sembrava loro impossibile che la giusta causa del nord non avesse trionfato ma quali erano state le vicende di quella guerra terribile quanto sangue era costata quali dei loro amici erano caduti nella lotta ecco gli argomenti di cui spesso parlavano pur senza immaginare ancora il giorno in cui avrebbero potuto rivedere il loro paese ritornarvi magari solo per pochi giorni riannodare il vincolo sociale con il mondo abitato stabilire una comunicazione fra la loro patria e la loro isola poi passare la maggior parte la migliore forse anche della loro esistenza in quella colonia che avevano fondata e che sarebbe dipesa dalla loro metropoli era questo dunque un sogno inattuabile ma non c'erano che due modi per realizzare questo sogno o che un giorno o l'altro una nave si mostrasse nelle acque dell'isola di lincoln o che i coloni stessi costruissero un bastimento abbastanza robusto per tenere il mare fino alle terre più vicine a meno che diceva pencroff il nostro genio ci provveda egli stesso dei mezzi per rimpatriare se veramente qualcuno avesse detto a pencroff e a nab che una nave di 300 tonnellate li aspettava nel golfo del pesce cane o a porto pallone essi non avrebbero fatto nemmeno un gesto di sorpresa è chiaro che con questa disposizione di spirito nulla pareva loro impossibile nel campo dell'invero simile del miracoloso s'aspettavano di tutto ma cyrus smith meno fiducioso consigliò loro di rientrare nella realtà e questo appunto relativamente alla costruzione di un bastimento faccenda di vera e propria urgenza perché si trattava di depositare al più presto all'isola di tabor un documento indicante la nuova residenza di ayrton non esistendo più il bonadventure sei mesi sarebbero corsi per la costruzione di un nuovo bastimento ora l'inverno era alle porte e il viaggio non si sarebbe potuto effettuare prima della successiva primavera abbiamo quindi il tempo di prepararci per essere pronti alla bella stagione disse l'ingegnere parlando di queste cose con pencroff penso dunque amico mio che dovendosi costruire la nostra imbarcazione sarà preferibile darle delle dimensioni più considerevoli l'arrivo dello yacht scozzese all'isola di tabor è molto problematico può darsi che giunto da vari mesi esso ne sia già ripartito dopo aver vanamente cercato qualche traccia di ayrton non sarebbe dunque opportuno costruire una nave che all'occorrenza potesse trasportarci sia agli arcipelaghi della polinesia sia la nuova zelanda che cosa ne pensate penso signor cyrus rispose il marinaio penso che voi siete capace di fabbricare tanto una nave grande quanto una nave piccola nel legno negli utensili ci mancano e non è questione di tempo e quanti mesi richiederebbe la costruzione di una nave di 250 o 300 tonnellate domandò cyrus smith sette od otto mesi almeno rispose pencroff non bisogna dimenticare che l'inverno è prossimo e che con i grandi freddi il legno è difficile da lavorare calcoliamo dunque alcune settimane di inattività e se il nostro bastimento sarà pronto per il prossimo novembre potremmo ritenerci fortunatissimi ebbene osservò cyrus smith sarà appunto il momento propizio a una traversata di qualche importanza sia fino all'isola di tabor sia fino ad altra terra più lontana è vero signor cyrus disse il marinaio fate dunque i vostri piani gli operai sono pronti e immagino poi che anche ayrton potrà darci un buon aiuto in questa circostanza i coloni consultati approvarono il progetto dell'ingegnere ed era il meglio che si potesse fare la costruzione di un bastimento da 200 a 300 tonnellate era certamente una grande impresa ma i coloni avevano in se stessi una fiducia giustificata dai numerosi successi già ottenuti cyrus smith s'occupò di tracciare il piano della nave e di determinare i garbi nel frattempo i suoi compagni s'occuparono del taglio e del trasporto degli alberi che dovevano servire per i braccioli l'ossatura e il fasciame la foresta del far west diede alle piante più adatte di quercia ed olmo i coloni approfittarono del piccolo sentiero già tracciato al tempo dell'ultima escursione per aprire una carra reccia che prese il nome di strada del far west e gli alberi furono trasportati ai camini dove fu stabilito il cantiere quanto alla strada era capricciosamente delineata e fu un poco la scelta del legname che ne determinò il tracciato rendendo anche più facile l'accesso a una notevole parte della penisola serpentine era necessario che quel legname fosse rapidamente tagliato e segato giacché non si poteva adoperarlo verde e bisognava lasciare al tempo la cura di stagionarlo i carpintieri lavorarono dunque con ardore durante il mese d'aprile che fu turbato solo da alcuni colpi di vento d'equinozio abbastanza violenti mastro giupp aiutava efficacemente sia che s'arrampicasse sulla cima degli alberi per fissarvi le corde con cui tirarli a terra sia che prestasse le sue robuste spalle per trasportare i tronchi spogliati dai rami tutto quel legname fu accattastato sotto una vasta tettoia di legno che fu costruita vicino ai camini e ivi attese il momento d'essere messo in opera il mese d'aprile fu abbastanza bello come spesso il mese d'ottobre nella zona boreale nello stesso tempo i lavori agricoli furono mandati avanti attivamente e in breve ogni traccia di devastazione disparve dall'altipiano di bella vista il mulino fu riedificato e nuove costruzioni sorsero sull'area della corte degli animali era parso opportuno di farle stavolta più ampie giacché la popolazione pennuta aumentava in proporzioni considerevoli le stalle contenevano ora cinque onagri di cui quattro vigorosi e ben addomesticati che si lasciavano attaccare o montare e uno piccolo appena nato il materiale della colonia si era cresciuto di un aratro e gli onagri venivano adibiti all'aratura come veri e propri buoi dello yorkshire o del kentucky i coloni si dividevano il lavoro e le braccia non si fermavano un momento che splendida salute godevano in tal modo i lavoratori e di che buon umore animavano le serate di granite house facendo mille disegni per l'avvenire si intende che ayrton partecipava in tutto all'esistenza comune e non si parlava più di farlo vivere al recinto tuttavia egli era sempre triste e poco espansivo e si univa piuttosto ai lavori che ai passatempi dei suoi compagni ma sul lavoro era un rudo operaio vigoroso accorto e ingegnoso era stimato e amato da tutti ed egli lo sapeva il recinto non fu abbandonato ogni due giorni uno dei coloni conducendo il carro montando uno degli onagri andava a curare il greggio dei mufloni e delle capre e ritornava con il latte che serviva a rifornire la dispensa di nab queste escursioni erano nello stesso tempo occasioni di caccia così arbert e guidon spilett preceduti da top correvano più spesso dei loro compagni sulla strada del recinto e con le armi eccellenti di cui disponevano capibara aguti cinghiali porci selvatici per la grossa selvaggina di pelo e anatre tetraoni galli cedroni jacamar beccaccini per la piccola selvaggina di piuma non mancavano mai in casa i prodotti della conigliera quelli del banco di ostriche alcune testugini che furono prese una nuova pesca di quegli eccellenti salmoni che ancora una volta penetrarono nelle acque del mersi gli ortaggi dell'altipiano di bella vista i frutti naturali della foresta erano ricchezze inestimabili e nab il capocuoco bastava appena immagazzinarle è sottinteso che il filo telegrafico teso fra il recinto e granite house era stato riparato e funzionava quando l'uno o l'altro dei coloni si trovava al recinto e stimava necessario passarvi la notte d'altronde ormai l'isola era sicura e nessuna aggressione era da temere almeno da parte degli uomini tuttavia quanto era avvenuto poteva ripetersi uno sbarco di pirati oppure di deportati evasi era sempre probabile poteva darsi che dei compagni dei complici di bob harvey ancora detenuti a norfolk fossero a parte dei suoi progetti e avessero la tentazione di imitarlo i coloni non mancavano quindi mai di vigilare gli approdi dell'isola e ogni giorno il loro cannocchiale esplorava il largo orizzonte che chiudeva la baia dell'unione e la baia di washington quando andavano al recinto esaminavano non meno attentamente la parte ovest del mare e salendo poi sul contraforte il loro sguardo poteva percorrere un largo settore dell'orizzonte occidentale niente appariva di sospetto ma bisognava star sempre in guardia ugualmente l'ingegnere una sera partecipò ai suoi amici l'idea da lui concepita di fortificare il recinto gli pareva prudente alzarne la palizzata e proteggerla con una specie di fortino nel quale all'occorrenza i coloni avrebbero potuto resistere a un numeroso stuolo di nemici infatti dovendo granite house essere considerata inespugnabile per la sua stessa posizione il recinto con le sue costruzioni le provviste varie con gli animali che accoglieva sarebbe sempre stato l'obiettivo di ogni specie di pirati che fossero riusciti a sbarcare nell'isola e quindi se i coloni fossero stati costretti ad asserragliarvisi bisognava che potessero resistere e con il minor danno possibile era un progetto da far maturare e la sua esecuzione del resto dovette essere per forza rimandata la primavera successiva verso il 15 di maggio la chiglia del nuovo bastimento si allungava già nel cantiere e poco dopo la ruota di prua e il dritto di poppa uniti ad incastro a ciascuna delle sue estremità vi si drizzarono quasi perpendicolarmente la chiglia in buona quercia misurava 110 piedi di lunghezza e questo avrebbe consentito di dare al baglio maestro una larghezza di 25 piedi ma fu tutto quanto i carpentieri poterono fare prima dell'arrivo del freddo e del cattivo tempo e la settimana seguente furono ancora collocati i primi quinti di poppa poi si dovettero sospendere i lavori negli ultimi giorni del mese il tempo fu estremamente cattivo il vento soffiava da est e talvolta con la violenza di un uragano l'ingegnere ebbe qualche inquietitudine per le tettoie del cantiere che d'altra parte non avrebbe potuto essere costruito in alcun altro punto prossimo granite house perché l'isolotto non proteggeva che imperfettamente il litorale dalla furia dell'alto mare e durante le grandi tempeste i frangenti arrivavano contro la base della muraglia granitica ma per fortuna questi timori si rivelarono vani il vento soffiò piuttosto da sud est e in queste condizioni la spiaggia di granite house si trovava completamente riparata dalla sporgenza formata dalla punta del relitto pencroff e airton i due più zelanti costruttori del nuovo abbastimento proseguirono i lavori più a lungo che poterano non erano affatto imbarazzati per il vento che arruffava loro la capigliatura né per la pioggia che li inzuppava fino alle ossa e una martellata è utile con il brutto quanto con il bel tempo ma quando un freddo acutissimo successe a quel periodo di umidità il legno acquistando nelle fibre la durezza del ferro divenne estremamente difficile da lavorare e verso il 10 giugno bisogna abbandonare definitivamente la costruzione dell'imbarcazione a cyrus smith e suoi compagni non era passato inosservato al rigore della temperatura degli inverni dell'isola di lincoln il freddo era paragonabile a quello che colpisce gli stati della nuova inghilterra situati pressa poco alla stessa distanza dall'equatore se nell'emisfero boreale o perlomeno nella parte occupata dalla nuova bretagna e dal nord degli stati uniti questo fenomeno si spiega mediante la conformazione piatta di territori confinanti con il polo e sui quali nessuna elevazione del suolo ostacola i geli di venti iperborei per l'isola di lincoln questa spiegazione non poteva valere è stato anche osservato diceva un giorno cyrus smith e suoi compagni che sebbene a uguali latitudini le isole e le regioni del litorale sono meno provate dal freddo che le contrade mediterranee ho spesso sentito affermare che gli inverni di lombardia per esempio sono più rigidi di quelli della scozia e questo starebbe a dimostrare che il mare restituisce durante l'inverno il calore ricevuto durante l'estate le isole sono dunque nelle migliori condizioni per beneficiare di questa restituzione ma allora signor cyrus chiese harbert perché l'isola di lincoln sembra sfuggire alla legge comune è difficile da spiegare rispose l'ingegnere tuttavia sarei disposto ad ammettere che questa singolarità dipenda dalla posizione dell'isola nell'emisfero australe il quale come tu sai figliolo mio è più freddo dell'emisfero boreale infatti disse harbert i ghiacci galleggianti si incontrano nell'attitudine più basse nel sud che nel nord del pacifico è vero rispose pencroff e quando facevo il baleniere ho veduto degli iceberg persino all'altezza di capo horn allora si potrebbe spiegare il freddo intenso che domina l'isola di lincoln con la presenza di ghiacci o di banchisa a una distanza relativamente piccola disse gideon spilett la vostra opinione è davvero molto ammissibile mio caro spilett rispose cyrus smith evidentemente il rigore dei nostri inverni è dovuto alla prossimità della banchisa vi farò inoltre osservare che una causa tutta fisica rende l'emisfero australe più freddo dell'emisfero boreale infatti essendo il sole più vicino all'emisfero australe durante l'estate né necessariamente più lontano d'inverno questo porta a un eccesso di temperatura nei due sensi infatti se troviamo freddissimi gli inverni dell'isola di lincoln non dobbiamo dimenticare che l'estate invece vi sono caldissime ma perché dunque per favore signor smith perché dunque il nostro emisfero come voi dite è trattato così male non è giusto amico pencroff rispose l'ingegnere ridendo giusto o no bisogna pur subire la situazione ed ecco da che proviene questa particolarità la terra non descrive un cerchio intorno al sole bensì un ellisse come vogliono le leggi della meccanica razionale la terra occupa uno dei fuochi dell'ellisse e di conseguenza a un certo punto del suo percorso essa è al suo apogeo vale dire alla sua più grande lontananza dal sole e a un'altra epoca al suo perigeo cioè alla sua più breve distanza ora precisamente durante l'inverno delle contrade australi essa è al suo punto più lontano dal sole e di conseguenza nelle condizioni volute perché queste regioni soffrano i più grandi freddi contro tutto questo non c'è nulla da fare e gli uomini pencroff per quanto sapienti siano non potranno mai cambiare alcunché nell'ordine cosmografico stabilito da dio stesso eppure soggiunse pencroff che mostrava una certa difficoltà a rassegnarsi il mondo è tanto dotto che grosso libro signor cyrus si potrebbe fare con tutto quello che si sa e che libro più grosso ancora con tutto quello che non si sa aggiunse cyrus smith insomma per una ragione o per l'altra nel mese di giugno ricominciarono i freddi con la loro consueta violenza e i coloni furono molto spesso costretti a rimanere chiusi in granite house a quella prigionia sembrava dura a tutti e forse più particolarmente a guidon spilett vedi disse gli un giorno nab io ti farei una donazione mediante atto notarile di tutte le eredità che mi spetteranno un giorno se tu fossi un ragazzo abbastanza bravo per andare non importa dove ad abbonarmi a un giornale qualsiasi certo quello che più mi manca la mia felicità è di sapere tutte le mattine quel che è accaduto altrove il giorno prima nab sarà messo a ridere in fede mia aveva risposto quello che più mi interessa sono invece le faccende quotidiane e in verità sia dentro che fuori il lavoro non mancava la colonia dell'isola di lincoln si trovava allora al massimo delle sue prosperità tre anni di fatiche l'avevano portata a quel punto l'incidente del brigantino distrutto era stata una nuova fonte di ricchezze oltre l'attrezzatura completa che sarebbe servita alla nave in costruzione utensili e strumenti di ogni sorta armi e munizioni vestiti ed attrezzi colmavano ora i magazzini di granite house non c'era stato più bisogno nemmeno di ricorrere alla fabbricazione di grosse stoffe di feltro se i coloni avevano sofferto il freddo durante la prima invernata adesso la cattiva stagione poteva venire senza che essi avessero a temerne i rigori anche la biancheria era abbondante e d'altronde veniva conservata con cura straordinaria dal cloruro di sodio che non è altro che il sale marino cyrus smith aveva facilmente estratto la soda e il cloro la soda che fu facile trasformare in carbonato di soda e il cloro di cui egli fece cloruri di calce e altri derivati furono adoperati per diversi usi domestici e precisamente per il bucato dal resto i coloni facevano il bucato solo quattro volte l'anno come si usava nelle famiglie antiche e ci sia permesso d'aggiungere che pencroff e guidon spilett quest'ultimo in attesa che il postino gli portasse il suo giornale si dimostrarono eccellenti lavandai così passarono i mesi d'inverno giugno luglio e agosto furono mesi freddissimi e la media delle osservazioni termometriche non diede più di 8 gradi fahrenheit 13 gradi centigradi sotto zero essa fu dunque inferiore alla temperatura dell'inverno precedente ma che bel fuoco fiammeggiava incessantemente nei focolari di granite house mentre il fumo macchiava di lunghe liste nere le muraglie di granito il combustibile non veniva risparmiato che tanto esso cresceva naturalmente a pochi passi dall'abitazione inoltre il superfluo del legname destinato alla costruzione del bastimento permise di economizzare il carbon fossile che richiedeva un più faticoso trasporto uomini animali stavano tutti bene mastro giuppa si mostrava un po freddoloso bisognava riconoscerlo era forse il suo solo difetto e bisogna fargli una buona veste da camera bene ovvattata ma che domestico accorto zelante infaticabile non indiscreto non chiacchierone ci sarebbe potuto a ragione proporlo per modello a tutti i suoi colleghi bipedi del vecchio del nuovo mondo dopo tutto diceva pencroff quando si hanno quattro mani al proprio servizio fare le proprie faccende con bel garbo è il meno che si possa e difatti l'intelligente quadrumone faceva così durante i sette mesi che seguirono le ultime ricerche fatte attorno alla montagna e durante il mese di settembre che ricondusse le belle giornate il genio dell'isola non fece parlare di sé la sua azione non si manifestò in alcuna circostanza d'altra parte essa sarebbe stata inutile poiché non si verificò nessun incidente che potesse mettere i coloni in qualche penosa contingenza cyrus smith osservò pure che se per caso le comunicazioni fra lo sconosciuto e gli ospiti di granite house avevano avuto per tramite il massiccio granitico e se l'istinto di top le aveva per così dire presentite in quel periodo nemmeno da quella parte si notò alcun che di anormale i brontolii del cane erano completamente cessati e così pure le inquietitudini della scimmia i due amici già che erano amici non giravano più intorno alla bocca del pozzo ma poteva questi assicurare che sul tanto discusso enigma tutto era ormai detto e che mai sarebbe stato possibile averne la chiave poteva affermare che non si sarebbe verificata di nuovo qualche circostanza atta a riportare sulla scena il misterioso personaggio chi sapeva che cosa riservava l'avvenire finalmente l'inverno finì ma un fatto le cui conseguenze potevano tutto sommato essere gravi avvenne appunto nei primi giorni che seguirono il ritorno della primavera il 7 settembre cyrus smith osservando la cima del monte franklin vide fluttuare sopra il cratere un pennacchio di fumo i cui primi vapori si innalzavano nell'aria capitolo 15 i coloni avvertiti dall'ingegnere avevano sospeso i lavori e osservavano in silenzio la cima del monte franklin il vulcano s'era dunque risvegliato e i vapori erano filtrati attraverso lo strato minerale accumulatosi nel fondo del cratere ma i fuochi sotterranei avrebbero provocato qualche violenta eruzione ecco un'eventualità impossibile a prevenirsi tuttavia anche ammettendo l'ipotesi di un'eruzione era probabile che l'isola di lincoln nel suo insieme non avesse a soffrirne le fusioni di materie vulcaniche non sempre sono disastrose l'isola era già stata sottoposta a simili prove come attestavano le colate di lava che rigavano i pendii settentrionali della montagna inoltre la forma del cratere e la sua bocca dovevano far sì che le materie ruttate venissero proiettate in direzione opposta alle parti fertili dell'isola ma il passato naturalmente non vincolava l'avvenire spesso sulla cima dei vulcani antichi crateri si chiudono ma se ne aprono di nuovi il fatto si è prodotto in tutti i due i mondi sull'etna sul popocatepl sull'eruzzaba e alla vigilia di un'eruzione tutto si può temere bastava insomma un terremoto fenomeno che accompagna talvolta le manifestazioni vulcaniche perché la disposizione interna della montagna si modificasse e nuove vie si aprissero alle lave incandescenti saros smith spiegò queste cose ai compagni e senza esagerare la situazione ne fece loro conoscere i pro e i contro dopo tutto i coloni non potevano far nulla granite house salvo che un terremoto avesse fatto sobbalzare violentamente il suolo non sembrava minacciata ma il recinto aveva tutto da temere se qualche nuovo cratere si fosse aperto nelle parti sud del monte franklin intanto con le belle giornate i lavori erano stati ripresi veniva affrettata al massimo la costruzione della nave e per mezzo della cascata della spiaggia cyrus smith riuscì a creare una segheria idraulica che segò più rapidamente i tronchi d'albero in tavole e in travi il meccanismo di questo apparecchio fu semplice quanto quelli che funzionano nelle rustiche segheria della norvegia un primo movimento orizzontale da imprimere al pezzo di legno un secondo movimento verticale da dare alla sega era tutto quanto si trattava ad ottenere e l'ingegnere vi riuscì per mezzo di una ruota di due cilindri e di due puleggio opportunamente disposte verso la fine di settembre lo scheletro del bastimento che doveva essere attrezzato a goletta sergeva nel cantiere l'ossatura era quasi interamente terminata ed essendo le costole tenute insieme da un'invasatura provvisoria già si potevano intuire le forme dell'imbarcazione quella goletta dalla prua molto affinata sveltissima nello stellato di poppa sarebbe stata evidentemente adatta per una traversata abbastanza lunga in caso di bisogno ma l'adattamento del fasciame esterno interno e del ponte esigeva ancora un tempo considerevole per fortuna le parti in ferro del brigantino distrutto avevano potuto essere salvate dopo l'esplosione sottomarina dai corsi e dai braccioli spezzati pencroff e ayrton avevano strappato perni caviglie e una gran quantità di chiodi di rame tanto di guadagnato per i fabbri ma per i carpentieri fu un duro lavoro i lavori di costruzione dovettero essere interrotti una settimana per quelli della mietitura della finigione e per riporre i diversi raccolti che abbondavano sull'altipiano di bella vista terminati questi lavori tutto il tempo fu poi consacrato al concepimento della goletta quando scendeva la notte i lavoratori erano veramente esausti per non perdere tempo avevano modificato le ore dei pasti pranzavano a mezzogiorno e cenavano solo quando la luce del giorno veniva loro a mancare risalivano allora granite house e si coricavano subito qualche volta però la conversazione quando cadeva su qualche argomento interessante ritardava alquanto l'ora del sonno i coloni si lasciavano andare a parlare dell'avvenire e ragionavano volentieri dei cambiamenti che avrebbero portati alla loro situazione un viaggio della goletta alle terre più vicine ma fra quei progetti dominava sempre il pensiero di un ulteriore ritorno all'isola di lincoln mai avrebbero abbandonato quella colonia fondata con tante fatiche e tanto successo e alla quale le comunicazioni con l'america avrebbero dato un nuovo efficace sviluppo pencroff e nab soprattutto speravano di finirvi i loro giorni harbert diceva il marinaio non abbandonerai mai l'isola di lincoln mai pencroff specialmente se tu decidi di restarci è già deciso figliolo mio rispondeva pencroff ti aspetterò qui ritornerai conducendo la tua sposa i tuoi bimbi e io farò di essi degli uomini arditi e valorosi siamo intesi soggiungeva harbert ridendo e arrossendo e voi signor cyrus riprendeva pencroff entusiasta sarete sempre il governatore dell'isola quanti abitanti potrà sfamare 10.000 almeno si parlava così lasciando che pencroff galoppasse con l'immaginazione e passando da un argomento all'altro il giornalista finiva per fondare un giornale il new lincoln herald così è il cuore umano il bisogno di compiere un'opera duratura che gli sopravviva è il segno della sua superiorità su tutto il resto del mondo vivente questo ha dato origine alla sua supremazia e la giustifica nel mondo intero dopo di ciò chissà se giuppe top non avevano anch'essi il loro piccolo sogno a venire a hilton silenzioso diceva fra sé che avrebbe voluto rivedere lord glenarvan e mostrarsi a tutti riabilitato una sera il 15 ottobre la conversazione avviata così a formulare ipotesi sera protratta più del solito erano le nove di sera già lunghi sbadigli mal dissimulati segnavano l'ora del riposo e pencroff sarà appena avviato verso il suo letto quando il campanello elettrico suonò improvvisamente nella sala erano tutti la cyrus gideon spilett harbert ayrton pencroff e nab nessuno dei coloni si trovava dunque al recinto cyrus smith si era subito alzato i suoi compagni si guardavano credendo di aver sentito male che cosa vuol dire tutto ciò esclamò nab è il diavolo che suona nessuno rispose è il tempo burrascoso fece notare harbert l'influenza dell'elettricità non può harbert non finì la frase l'ingegnere verso il quale erano rivolti tutti gli sguardi scrollava la testa negativamente aspettiamo disse allora gideon spilett se è un segnale chiunque sia che l'ha fatto lo ripeterà ma chi volete che sia esclamò nab ma rispose pencroff quello che la frase del marinaio fu troncata da un nuovo squillo della soneria elettrica cyrus smith si diresse verso l'apparecchio e lanciando la corrente attraverso il filo rivolse questa domanda che cosa volete alcuni istanti dopo l'ago muovendosi sul quadrante alfabetico dava agli ospiti di granite house questa risposta venite in fretta al recinto finalmente gridò cyrus smith sì finalmente il mistero stava per svelarsi di fronte all'immenso interesse che li spingeva ora al recinto ogni stanchezza dei coloni era scomparsa ogni bisogno di riposo era cessato senza aver pronunciato una parola in pochi istanti avevano lasciato granite house e già si trovavano sul greto giuppe top soli erano rimasti si poteva fare a meno di loro la notte era nera la luna nuova proprio in quel giorno era sparita contemporaneamente al sole come aveva fatto rilevare arbert grosse nubi tempestose formavano una volta bassa e pesante che nascondeva ogni scintillio di stelle alcuni lampi di caldo riflessi da un temporale lontano illuminavano l'orizzonte era possibile che alcune ore dopo la folgore tuonasse sull'isola era una notte minacciosa ma l'oscurità quantunque profonda non poteva arrestare delle persone abituate a quella strada essi risalirono la riva sinistra del mercy raggiunsero l'altipiano passarono il ponte del creek glicerina e avanzarono attraverso la foresta camminavano di buon passo in preda un'emozione vivissima non verrà dubbio essi stavano per aver finalmente la tanto cercata chiave dell'enigma il nome di quell'essere misterioso così profondamente entrato nella loro vita così generoso nella sua azione e così potente per aver sempre potuto agire al momento opportuno bisognava che quello sconosciuto si fosse interessato della loro esistenza che ne conoscesse i minimi particolari che udisse tutto quello che si diceva granite house ciascuno sprofondato nelle proprie riflessioni affrettava il passo sotto quella volta vegetale l'oscurità era così fonda che non si vedeva nemmeno l'orlo della strada nessun rumore nella foresta quadrupe di uccelli impauriti dalla pesantezza dell'atmosfera erano immobili e silenziosi nessun soffio agitava le foglie solamente il passo dei coloni risuonava nell'ombra sul suolo indurito durante il primo quarto d'ora di marcia il silenzio non fu interrotto che da questa osservazione di pencroff avremmo dovuto prendere una lanterna e da questa risposta dell'ingegnere ne troveremo un al recinto cyrus smith e i suoi compagni avevano lasciato granite house alle 9 e 12 minuti alle 9 47 minuti avevano superato una distanza di tre miglia sulle cinque che separavano la foce del mersi dallo steccato del recinto in quel momento grandi lampi biancastri sbocciavano nell'oscurità del cielo allargandosi poi sull'isola e disegnando in nero le frastagliature del fogliame quei lampi intensi abbagliavano e accecavano il temporale evidentemente non avrebbe tardato molto a scatenarsi i lampi divennero a poco a poco più rapidi e più luminosi rombi lontani brontolavano sulle misteriose regioni del cielo l'atmosfera era soffocante i coloni andavano come se fossero stati spinti innanzi da qualche forza irresistibile alle 10 un quarto un vivissimo lampo mostrava loro lo steccato del recinto e non ne avevano ancora varcato la porta che il tuono scoppiava con formidabile violenza il recinto fu attraversato in un attimo e saru smith si trovò davanti all'abitazione poteva darsi che la casa fosse occupata dallo sconosciuto poiché appunto dalla casa stessa il telegramma era partito eppure nessuna luce rischiarava la finestra l'ingegnere batte alla porta nessuna risposta saru smith aperse la porta e i coloni entrarono nella camera avvolto in una profonda oscurità un colpo d'acciarino di nabba accese la lanterna che venne adoperata per esplorare ogni angolo della stanza non c'era nessuno tutto si trovava come era stato lasciato siamo siamo forse stati tratti in inganno da un'illusione mormorò saru smith no non era possibile il telegramma aveva proprio detto venite in fretta al recinto i coloni si avvicinarono alla tavola destinata al telegrafo tutto era posto la pilla e la scatola che la conteneva e così pure l'apparecchio ricevente trasmittente chi è venuto qui per ultimo chiese l'ingegnere io signor smith rispose ayrton e quando quattro giorni or sono uno scritto esclamò harbert mostrando una carta posata sulla tavola su quella carta erano scritte in inglese queste parole seguite il nuovo filo in cammino esclamò cyrus smith che comprese come il dispaccio non fosse partito dal recinto ma dal nascondiglio misterioso che un filo supplementare collegato a quello vecchio univa direttamente a granite house nab presa la lanterna accesa e tutti lasciarono il recinto il temporale si scatenava allora con estrema violenza l'intervallo che separava ogni lampo dal colpo di tuono diminuiva sensibilmente il fenomeno stava per dominare il monte franklin e l'intera isola alla viva luce dei bagliori intermittenti si poteva vedere la sommità del vulcano impennacchiata di vapori in tutto il tratto del recinto che separava la casa dalla cinta non esisteva alcuna comunicazione telegrafica ma l'ingegnere correndo direttamente al primo palo dopo aver varcata la porta vide al chiarore di un lampo che un nuovo filo ricadeva dall'isolatore fino a terra eccolo disse questo filo posava per terra ma era avvolto per tutta la sua lunghezza da una sostanza isolante come i cavi sottomarini il che assicurava la libera trasmissione della corrente e ora alla luce della lanterna ora sotto i lampeggiamenti della folgore i coloni si slanciarono sulla via tracciata dal filo il rombare del tuono era allora continuo e così forte che nessuna parola avrebbe potuto essere udita d'altra parte non si trattava di parlare ma di andare avanti sarò smith e suoi salirono prima il contrafforte tra la vallata del recinto e quella del fiume della cascata che guardarono nella sua parte più stretta il filo ora teso sui rami più bassi degli alberi ora svolgendosi a terra li guidava sicuramente l'ingegnere supponeva che quel filo si sarebbe probabilmente arrestato in fondo alla valle e che ivi si sarebbe trovato il rifugio ignorato ma non fu così bisogno risalire il contrafforte di sud ovest e ridiscendere sull'arido altipiano limitato dalla muraglia di basalti tanto stranamente ammonticchiati di tanto in tanto l'uno o l'altro dei coloni si chinava tastava il filo con la mano e all'occorrenza rettificava la direzione ma non vera più dubbio il filo correva direttamente al mare là indubbiamente in qualche profondità delle rocce igne si internava la dimora in vano cercata fino allora il cielo era in fiamme un lampo non aspettava l'altro parecchi percuotevano la cima del vulcano e si precipitavano nel cratere in mezzo al fumo denso a momenti si sarebbe potuto credere che il monte sprigionasse fiamme pochi minuti prima delle dieci i coloni erano arrivati sull'alto orlo roccioso che dominava l'oceano ovest si era levato il vento la risacca muggiva 500 piedi più sotto sarosmith calcolò che egli e i suoi compagni avevano percorso la distanza di un miglio e mezzo dal recinto a questo punto il filo penetrava in mezzo alle rocce seguendo la china abbastanza ripida di un burrone stretto e capricciosamente conformato i coloni cominciarono a discendervi a rischio di provocare qualche franamento di macigni male equilibrati e di precipitare in mare la discesa era estremamente pericolosa ma essi non pensavano al pericolo non erano più padroni di sé e un'irresistibile forza li attirava verso quel punto misterioso come la calamita attira il ferro così essi discesero quasi inconsciamente quel burrone che anche in piena luce sarebbe stato pressoché impraticabile le pietre rotolavano e splendevano come bolidi infiammati quando attraversavano le zone di luce sarosmith era in testa al gruppo ayrton chiudeva la marcia qui procedevano a passo passo la scivolavano sulla roccia levigata poi si riamavano e continuavano la discesa alla fine il filo formando un angolo brusco toccò le rocce del lido disseminato di scogli battuto senz'altro dalle grandi maree i coloni avevano raggiunto il limite inferiore della muraglia basaltica la si apriva uno stretto corridoio che correva orizzontalmente parallelamente al mare il filo lo seguiva e i coloni fecero altrettanto non avevano fatto cento passi che il riparo inclinandosi moderatamente scesa poco a poco fino al livello stesso delle onde l'ingegnere afferrò il filo e vide che penetrava nel mare i suoi compagni fermi vicino a lui erano stupefatti un grido di delusione quasi di disperazione sfuggì loro bisognava dunque tuffarsi sott'acqua e cercarvi qualche caverna sottomarina nello stato di sovrecitazione morale fisica in cui si trovavano non avrebbero esitato a farlo con la bassa marea la via sarà aperta ma che cos'è che vi induce a credere chiese pencroff non ci avrebbe chiamati se fosse mancato il modo per arrivare fino a lui cyrus smith aveva parlato con accento di così profonda convinzione che gli altri non sollevarono alcuna obiezione dal resto la sua osservazione era logica bisognava ammettere che un'apertura praticabile a bassa marea e ostruita in quel momento dal flusso s'aprisse ai piedi della muraglia bisognava aspettare alcune ore i coloni rimasero dunque silenziosamente rannicchiati sotto una specie di portico profondo scavato nella roccia la pioggia cominciava allora a cadere e poco dopo le nubi lacerate dalla folgore si sciolsero a torrenti gli ecchi ripercuotevano il fragore del tuono con una sonorità grandiosa l'emozione dei coloni era estrema mille strani pensieri straordinari attraversavano il loro cervello rievocavano qualche grande e sovrumana apparizione che solo avrebbe potuto corrispondere all'idea che essi si facevano del genio misterioso dell'isola a mezzanotte cyrus smith portando con sé la lanterna discese sino ai livelli della spiaggia allo scopo di osservare la disposizione delle rocce la bassa marea durava già da due ore l'ingegnere non si era ingannato la curva della volta ad una vasta caverna cominciava a disegnarsi al di sopra delle acque per di là il filo piegandosi ad angolo retto penetrava nella gola spalancata cyrus smith ritorna presso i compagni e disse loro semplicemente fra un'ora l'apertura sarà praticabile essa esiste dunque domandò pencroff ne avete dubitato rispose cyrus smith ma questa caverna sarà piena d'acqua fino a una certa altezza fece notare harbert o la caverna si prosciuga completamente rispose cyrus smith e in questo caso la percorreremo a piedi o se non si prosciuga un mezzo qualunque di trasporto sarà messo a nostra disposizione trascorse un'ora tutti discesero sotto la pioggia al livello del mare in tre ore la marea era calata di 15 piedi la sommità dell'arco tracciato dalla curvatura della volta sovrastava il livello dell'acqua di otto piedi almeno era come l'arco di un ponte sotto cui passavano le acque schiumose sporgendosi l'ingegnere vide qualcosa di nero che galleggiava la superficie del mare e lo trasse a sé era una lancia ormeggiata con una cima a qualche sporgenza interna della parete era di lamiera chiodata a pagliuolo sotto i banchi vi erano i reni imbarchiamoci disse cyrus smith un momento dopo i coloni erano nella lancia nab e ayrton s'erano messi ai reni pencroff al timone cyrus smith a prua la lanterna posata prua illuminava la strada la volta da prima bassissima sotto la quale la lancia passò si alzava poi bruscamente ma l'oscurità era troppo profonda e la luce del fanale insufficiente per poter conoscere l'estensione della caverna la sua larghezza altezza e profondità in mezzo quella costruzione basaltica regnava un silenzio imponente nessun rumore vi penetrava dal di fuori e gli scoppi del fulmine non potevano attraversare le sue stesse pareti esistono in certe parti del globo di queste caverne immense specie di cripte naturali che datano dalle epoche geologiche alcune sono invase dalle acque del mare altre contengono dei laghi interi nei loro fianchi come la grotta di fingal nell'isola di staffa una delle ebridi così le grotte del morgà nella baia di durnez in bretagna le grotte di bonifacio in corsica quelle dell'is fjord in norvegia così l'immensa caverna del mammuth nel kentaki alta 500 piedi e lunga più di 20 miglia in parecchi punti del globo la natura ha scavato queste cripte e le ha conservate all'ammirazione dell'uomo la caverna che i coloni stavano esplorando si estendeva dunque sino al centro dell'isola da un quarto d'ora la lancia avanzava facendo delle deviazioni che l'ingegnere indicava pencroff con voce breve quando a un certo momento più a dritta comandò saru smith la barca modificando la sua direzione andò tosto a rasentare la parete di destra l'ingegnere voleva con ragione accertarsi se il filo correva sempre lungo la parete stessa il filo era là appeso alle sporgenze rocciose avanti disse saru smith e i due remi tuffandosi nelle acque nere spinsero innanzi l'imbarcazione la lancia si fermò e i coloni scorsero una viva luce che illuminava l'enorme cripta profondamente scavata nelle viscere dell'isola allora fu possibile esaminare quella caverna di cui nulla aveva mai potuto far supporre l'esistenza a un'altezza di cento piedi si incurvava una volta sostenuta da colonne di basalto che sembravano essere state fuse tutte nel medesimo stampo spigoli irregolari moda natura capricciose spiccavano su quelle colonne che la natura aveva erette a migliaia nelle prime epoche della formazione del globo i tronconi di basalto incastrati l'uno nell'altro misuravano da 40 a 50 piedi d'altezza e l'acqua tranquilla malgrado le agitazioni esterne andava a bagnare la base lo splendore della sorgente di luce segnalata dall'ingegnere investendo tutti gli spigoli prismatici e picchiettandoli di punto di fuoco penetrava per così dire le pareti come se fossero state diafane e cambiava in tante scintillanti pietre preziose le minime sporgenze di quella costruzione per un momento di riflessione l'acqua riproduceva quei diversi splendori alla superficie in modo che la lancia sembrava galleggiare fra due zone sfavillanti non era possibile sbagliarsi sulla natura dell'irradiazione proiettata dal centro luminoso i cui raggi netti rettilinei si infrangevano contro tutti gli angoli contro tutte le modanature della cripta quella luce proveniva da una sorgente elettrica il suo colore bianco ne tradiva l'origine era come il sole della caverna che ne era invasa tutta a un segno di cyrus smith i remi ricaddero facendo zampillare una vera pioggia di scintille e la lancia si diresse verso la sorgente luminosa dalla quale in breve si trovò distante solo la lunghezza di una mezza gomena in quel punto la larghezza della distesa d'acqua era di circa 350 piedi e al di là del centro abbagliante si poteva scorgere un enorme muro di basalto che chiudeva ogni apertura da quella parte la caverna si era quindi notevolmente allargata e il mare riformava un laghetto ma la volta le pareti laterali la muraglia dell'abside tutti quei prismi tutti quei cilindri tutti quei coni erano immersi nel fluido elettrico al punto che quello splendore pareva fosse una loro naturale emanazione e si sarebbe potuto dire che quelle pietre sfaccettate come diamanti di grande valore trasudavano luce al centro del lago un lungo oggetto fusiforme galleggiava la superficie delle acque silenzioso e immobile lo splendore che tutto illuminava usciva dai suoi fianchi come da due gole di forno scaldata al calore bianco quell'apparecchio simile al corpo di un enorme cetaceo era lungo 250 piedi circa e si da dieci a dodici piedi sopra il livello del mare la lancia gli si avvicinò lentamente a prora saru smith si era alzato guardava in preda violenta agitazione poi tutto a un tratto afferrando con moto convulso il giornalista per le braccia ma ma è lui non può essere che lui esclamò lui poi ricadde sul sedile mormorando un nome che solo spile tudì il giornalista indubbiamente conosceva quel nome giacché fece su di lui un effetto prodigioso ed egli rispose con voce sorda lui un fuorilegge lui disse cyrus smith per ordine dell'ingegnere la lancia si avvicinò al singolare apparecchio galleggiante attraccandosi al fianco sinistro dal quale usciva un fascio di luce attraverso uno spesso vetro cyrus smith e i suoi compagni montarono sulla piattaforma un boccaporto spalancato li attendeva tutti si slanciarono attraverso quell'apertura ai piedi della scala si presentava un corridoio illuminato elettricamente all'estremità di questo corridoio s'apriva una porta che cyrus smith spinse una sala riccamente ornata che i coloni attraversarono rapidamente dava in una biblioteca nel quale un soffitto luminoso versava un torrente di luce in fondo alla biblioteca una grande porta ugualmente chiusa fu aperta dall'ingegnere un vasto salone specie di museo ovvero non accumulate con tutti i tesori della natura minerale opere d'arte meraviglie dell'industria apparva agli occhi dei coloni che dovettero credersi trasportati per virtù di magia nel mondo dei sogni disteso su di un ricco divano videro un uomo che non parva accorgersi della loro presenza allora cyrus smith alzò la voce e fra la più grande sorpresa dei suoi compagni pronunciò queste parole capitano nemo ci avete chiamati siamo qui capitolo 16 a quelle parole l'uomo sdraiato si sollevò e il suo viso apparve in piena luce testa magnifica fronte alta sguardo fiero barba bianca capigliatura abbondante e gettata all'indietro quell'uomo si appoggiò con la mano sulla spalliera del divano da cui si era appena alzato il suo sguardo era calmo si vedeva che una malattia lenta l'aveva minato a poco a poco però la sua voce sembrò forte ancora quando disse in inglese e con tono che esprimeva un'estrema sorpresa io non ho nome signore io vi conosco rispose cyrus smith il capitano nemo fissò uno sguardo ardente sull'ingegnere come se avesse voluto annientarlo poi ricadendo sui cuscini del divano che cosa importa dopo tutto mormorò sto per morire cyrus smith s'avvicinò il capitano nemo e gideon spilett gli prese la mano che trovò ardente ayrton pencroff harbert e nab si tenevano rispettosamente in disparte in un angolo del magnifico salone saturo di emanazioni elettriche il capitano nemo ritrasse tosto alla sua mano e con un segno pregò l'ingegnere il giornalista di sedersi tutti lo guardavano con profonda emozione era dunque la dinanzi a loro colui che essi chiamavano il genio dell'isola l'essere potente il cui intervento era stato in tante circostanze così efficace il benefattore cui dovevano tanta riconoscenza innanzi ai loro occhi non c'era che un uomo laddove pencroff e nab credevano di trovare quasi un dio ed era vicino a morire ma come poteva cyrus smith conoscere il capitano nemo perché questi si era così vivacemente alzato sentendo pronunciare il suo nome che doveva credere ignorato da tutti il capitano aveva ripreso posto sul divano e appoggiato su di un braccio guardava l'ingegnere chi gli era vicino voi sapete il nome che io ho portato signore domandò lo so rispose cyrus smith come so il nome di questo mirabile apparecchio sottomarino il nautilus disse con mezzo sorriso il capitano il nautilus ma sapete sapete chi sono lo so eppure già da trent'anni non ho più nessuna comunicazione col mondo abitato già da trent'anni vivo nelle profondità del mare il solo luogo dove io abbia trovato la libertà chi dunque ha potuto tradire il mio segreto un uomo che non aveva mai preso nessun impegno verso di voi capitano nemo e che per conseguenza non può essere accusato di tradimento quel francese che il caso mi gettò a bordo sedici anni or sono precisamente quell'uomo i suoi due compagni non sono dunque periti nel maelstrom in cui il nautilus si era cacciato non sono periti ed è uscita sotto il nome di 20.000 leghe sotto i mari un'opera che narra la vostra storia la mia storia di alcuni mesi soltanto signore rispose vivacemente il capitano è vero rispose Cyrus Smith ma alcuni mesi di questa strana vita sono bastati a farvi conoscere come un grande colpevole senza dubbio interruppe il capitano nemo sulle cui labbra passò un sorriso altero si un ribelle messo forse al bando dall'umanità l'ingegnere non rispose ebbene signore io non ho diritto di giudicare il capitano nemo rispose Cyrus Smith almeno per quel che riguarda la sua vita passata ignoro come tutti quali siano stati i moventi di questa sua strana esistenza e non posso giudicare gli effetti senza conoscere le cause ma so soltanto che una mano benefica si è costantemente tesa su di noi dal nostro arrivo all'isola di Lincoln so che noi tutti dobbiamo la vita a un essere buono generoso potente e che questo essere potente generoso e buono siete voi capitano nemo sono io rispose semplicemente il capitano l'ingegnere e il giornalista s'erano alzati i loro compagni s'erano avvicinati e la riconoscenza che traboccava dai loro cuori stava per manifestarsi con i gesti con le parole ma il capitano nemo li trattenne con un gesto e con voce certamente più commossa di quanto avrebbe voluto quando mi avrete udito disse e il capitano in poche frasi concise e affrettate fece conoscere tutta la sua vita la narrazione fu breve e ciò nonostante dovette concentrare in sé tutto quello che gli rimaneva d'energia per giungere alla fine si vedeva che lottava contro una straordinaria debolezza più volte Cyrus Smith lo pregò di riposarsi ma egli scrollò il capo da uomo a cui il domani più non appartiene e quando il cronista gli offrì le sue cure è inutile rispose le mie ore sono contate il capitano nemo era un indiano il principe Dakkar figlio di un rajah del territorio allora indipendente del Bundelkund e nipote dell'eroe dell'India Tipo Saib suo padre all'età di 10 anni lo mandò in Europa perché vi ricevesse un'educazione completa e con la segreta speranza che potesse un giorno lottare ad armi eguali contro coloro che egli considerava come gli oppressori del proprio paese dai 10 ai 30 anni il principe Dakkar dotato di un'anima superiore grande di cuore ed intelletto si formò una vastissima completa cultura e nelle scienze, nelle lettere, nelle arti spinse i suoi studi molto in alto e lontano il principe Dakkar viaggiò per tutta l'Europa la nobiltà delle sue origini e la sua ricchezza lo facevano ricercare da tutti ma le seduzioni del mondo non l'attirarono mai giovane e bello, egli rimase serio odiava odiava il solo paese in cui non aveva mai voluto metter piede la sola nazione di cui rifiutò costantemente le profferte odiava l'Inghilterra e tanto più l'odiava in quanto sotto certi aspetti era costretto ad ammirarla tant'è che questo indiano riassumeva in sé tutti i fieri rancori del vinto contro il vincitore l'invasore non aveva potuto trovare grazia presso l'invaso il figlio d'uno di quei sovrani di cui il Regno Unito ha potuto assicurarsi soltanto nominalmente la soggezione questo principe della famiglia di Tipo Saib allevato nelle idee di rivendicazione e di vendetta innamorato del suo poetico paese gravato di catene inglesi non volle mai posare il piede sulla terra per lui maledetta alla quale l'India doveva il suo servaggio il principe Dakkar divenne un artista che le meraviglie dell'arte impressionavano nobilmente uno scienziato cui nulla delle più ardue scienze era estraneo un uomo di stato formatosi alla scuola dei governi europei agli occhi di chi lo osserva superficialmente egli passava forse per uno di quei cosmopoliti curiosi di sapere ma non curanti da agire per uno di quegli opulenti viaggiatori spiriti fieri e platonici che corrono instancabilmente il mondo e non sono di nessun paese ma non era così questo artista questo scienziato quest'uomo era rimasto indiano nel cuore indiano nel desiderio di vendetta indiano nella speranza che nutriva di poter un giorno rivendicare i diritti del suo paese di scacciarne lo straniero di rendere all'India l'indipendenza il principe Dakkar ritornò a Bundelkund nell'anno 1849 si sposò con una nobile indiana il cui cuore sanguinava come il suo per le sventure della patria ne ebbe due bambini che amava teneramente ma la felicità domestica non poteva fargli dimenticare la schiavitù dell'India egli aspettava un'occasione e questa si presentò forse il gioco inglese sarà troppo pesantemente abbattuto sulle popolazioni hindù il principe Dakkar raccolse e fece sua alla voce degli scontenti infuse nella loro anima tutto l'odio che egli provava contro lo straniero percorse non solo le contrade ancora indipendenti della penisola indiana ma anche le regioni direttamente sottoposta all'amministrazione inglese rievocò i gloriosi tempi di Tipo Saib morto eroicamente a Seringa Patam difendendo la patria e nel 1857 scoppiò la grande rivolta dei Sipoi il principe Dakkar ne fu l'anima egli organizzò l'immensa sollevazione mise la sua cultura e le sue ricchezze al servizio di quella causa e pagò di persona si battè in prima fila arrischiò la vita come il più umile di quegli eroi che si erano sollevati per riscattare il proprio paese fu ferito dieci volte in venti scontri e ciò nonostante quando gli ultimi soldati dell'indipendenza caddero sotto i proiettili inglesi non aveva ancora potuto trovare la morte tanto cercata mai la potenza britannica in India corse più serio pericolo se come avevano sperato i soldati indiani avessero ricevuto aiuti dal di fuori probabilmente sarebbe stata finita in Asia per l'influenza e la dominazione del Regno Unito il nome del principe Dakkar fu illustre a quei tempi l'eroe che lo portavano si nascose e lottò apertamente fu messa una taglia sulla sua testa e poiché non si trovò un traditore che la desse nelle mani al nemico suo padre sua madre sua moglie i suoi figli pagarono per lui prima ancora che egli potesse conoscere i pericoli che correvano per causa sua una volta ancora il diritto era caduto di fronte alla forza ma la civiltà non indietreggia mai e sembra prendere a prestito tutti i diritti della necessità i si poi furono vinti e il paese degli antichi Rajah ricadde sotto la dominazione ancora più dura dell'Inghilterra il principe Dakar che non aveva potuto morire ritornò fra le montagne del Bundelkund Colà solo ormai preso da un immenso disgusto contro tutto ciò che portava nome umano provando odio e orrore per il mondo civile volendo fuggirlo per sempre riunì resti della sua fortuna raccolse una ventina dei suoi fedeli compagni e un giorno tutti scomparvero dove era dunque andato il principe Dakar a cercare la libertà che la terra abitata gli rifiutava sott'acqua nella profondità dei mari dove nessuno poteva seguirlo all'uomo di guerra si sostituì lo scienziato in un'isola deserta del Pacifico impiantò i suoi cantieri e là con i suoi piani venne costruita una nave sottomarina l'elettricità della quale mediante mezzi che saranno un giorno conosciuti egli aveva saputo utilizzare l'incommensurabile forza meccanica e che attingeva inesauribili fonti fu impiegata in tutte le necessità del suo apparecchio galleggiante come forza motrice forza illuminante e forza calorifica il mare con i suoi infiniti tesori le sue miriade di pesci le sue raccolte di alghe di sargassi i suoi enormi mammiferi e non soltanto con tutto quello che la natura vi prodigava ma anche con tutto quello che gli uomini vi avevano perduto bastò ampiamente ai bisogni del principe e del suo equipaggio e questo costituì il soddisfacimento pieno del suo più vivo desiderio poiché egli non voleva avere più nessuna comunicazione con la terra chiamò il suo apparecchio sottomarino Nautilus prese il nome di capitano Nemo e scomparve sotto i mari nel corso di vari anni il capitano navigò per tutti gli oceani da un polo all'altro paria dell'universo abitato raccolse in quei mondi sconosciuti tesori ammirevoli i milioni perduti nella baia di Vigo nel 1702 dai galeoni spagnoli gli fornirono una miniere inesauribile di ricchezze di cui dispose sempre e sempre anonimamente a favore dei popoli che si battevano per l'indipendenza del loro paese già da gran tempo egli non aveva più alcuna comunicazione con i suoi simili quando nella notte del 6 novembre 1866 tre uomini furono raccolti a bordo del Nautilus erano un professore francese il suo domestico e un pescatore canadese questi tre uomini erano finiti in mare durante un urto avvenuto fra il Nautilus e la fregata degli stati uniti Abraham Lincoln che gli dava la caccia il capitano Nemo seppe da quel professore che il Nautilus preso ora per un mammifero gigante della famiglia dei cetacei ora per un'imbarcazione sottomarina racchiudendo un equipaggio di pirati era inseguito su tutti i mari il capitano Nemo avrebbe potuto restituire all'oceano quei tre uomini che il caso gettava così attraverso la sua misteriosa esistenza ma non lo fece li tenne invece prigionieri perciò durante sette mesi essi poterono contemplare tutte le meraviglie di un viaggio che continuò per ventimila leghe sotto i mari un giorno il 22 giugno 1867 quei tre uomini che nulla sapevano del passato del capitano Nemo riuscirono a fuggire dopo essersi impadroniti del canotto del Nautilus ma siccome in quel momento il Nautilus era trascinato sulle coste della Norvegia nei turbini del Belstrom il capitano credette che i fuggitivi travolti in quegli spaventevoli gorghi avessero trovato la morte in fondo all'abisso ignorava dunque che il francese e i suoi due compagni fossero stati miracolosamente gettati sulla costa che dei pescatori delle isole Lofoten li avessero raccolti e che il professore al suo ritorno in Francia avesse pubblicato l'opera in cui sette mesi della strana e avventurosa navigazione del Nautilus erano raccontati e offerti in pasto alla curiosità pubblica per lungo tempo ancora il capitano Nemo continuò a vivere così correndo i mari ma a poco a poco i suoi compagni morirono e andarono a riposare nel loro cimitero di corallo in fondo al Pacifico il vuoto si fece sul Nautilus e alla fine il capitano Nemo rimase solo di quanti si erano rifugiati con lui nelle profondità dell'oceano il capitano Nemo aveva allora 60 anni quando fu solo ricondusse il suo Nautilus verso uno dei porti sottomarini che gli servivano talvolta da ridosso e da scalo uno di quei porti era sotto l'isola di Lincoln ed era appunto quello che dava in quel momento asilo al Nautilus da sei anni il capitano era là non navigava più ma aspettava la morte vale a dire il momento in cui si sarebbe riunito i suoi compagni quando il caso lo fece assistere alla caduta del pallone che portava i prigionieri dei sudisti rivestito del suo scafandro passeggiava sotto le acque alla distanza di alcune gomene dal Lido allorché l'ingegnere fu precipitato in mare un generoso impulso del cuore trascinò il capitano e salvò Cyrus Smith a tutta prima volle fuggire lontano da quei cinque naufraghi ma il suo porto di rifugio era chiuso e in seguito a un sollevamento prodotto nel basalto sotto l'influenza di azioni vulcaniche egli non poteva più varcare l'entrata della cripta dove c'era ancora abbastanza acqua per una leggera imbarcazione non ce n'era più abbastanza per il Nautilus il cui pescaggio era relativamente notevole il capitano Nemo quindi rimase poi osservò quegli uomini gettati privi di tutto su di un'isola deserta ma non volle essere veduto a poco a poco quando li vide onesti energici uniti gli uni agli altri da un'amicizia fraterna si interessò ai loro sforzi così suo malgrado penetrò anche tutti i segreti della loro esistenza per mezzo dello scafandro gli era facile arrivare in fondo al pozzo interno di granite house e salendo su per le sporgenze della roccia fino alla sua apertura superiore udiva i coloni raccontare il passato studiare il presente e l'avvenire seppe da essi dell'immenso sforzo dell'America contro l'America stessa per abolire la schiavitù si quegli uomini erano degni di riconciliare il capitano Nemo con quell'umanità che essi rappresentavano tanto onestamente nell'isola il capitano Nemo aveva salvato Cyrus Smith fu ancora lui che condusse il cane ai camini che rigettò top dalle acque del lago che fece arenare alla punta del relitto la cassa contenente tanti oggetti utili per i coloni che rimandò il canotto lungo la corrente del mercy che gettò la corda dall'alto di granite house in occasione dell'attacco delle scimmie che fece conoscere la presenza di Ayrton all'isola di Tabor per mezzo del documento rinchiuso nella bottiglia che fece saltare il brigantino con una torpedine messa in fondo al canale che salvò Herbert da sicura morte provvedendo il solfato di Chinino lui infine che fulminò i pirati con quei proiettili elettrici di cui aveva il segreto e che usava nelle sue cacce sottomarine così si spiegavano tanti incidenti che dovevano sembrare sopranaturali e attestavano la generosità e la potenza del capitano malgrado tutto questo grande misantropo aveva sete di bene gli rimaneva da dare ai suoi protetti degli utili consigli e d'altra parte sentendo battere il proprio cuore restituito a se stesso dall'avvicinarsi della morte egli chiamò come noto i coloni di granite house per mezzo di un filo mediante il quale allacciò il recinto al Nautilus che era munito di un apparecchio telegrafico forse non l'avrebbe fatto se avesse saputo che Cyrus Smith conosceva abbastanza la sua storia per salutarlo con il nome di Nemo il capitano aveva finito il racconto della sua vita Cyrus Smith allora prese la parola ricordò tutti gli eventi che avevano esercitato sulla colonia una si provvida influenza e per sé e a nome dei compagni ringraziò l'essere generoso cui dovevano tanto ma il capitano Nemo non pensava a chiedere il premio dei servigi resi un ultimo pensiero agitava il suo spirito e prima di stringere la mano che l'ingegnere gli porgeva adesso signore disse adesso che conoscete la mia vita giudicatela così parlando il capitano alludeva evidentemente a un grave incidente di cui i tre stranieri gettati a bordo del Nautilus erano stati testimoni incidente che il professore francese aveva necessariamente raccontato nel suo libro e la cui impressione sull'opinione pubblica doveva essere stata terribile infatti pochi giorni prima della fuga dal professore e dei suoi compagni il Nautilus inseguito da una fregata nell'Atlantico del Nord si era precipitato come una riete su di essa e l'aveva affondata senza pietà Cyrus Smith comprese l'allusione e tacque era una fregata inglese signore esclamò il capitano Nemo ridiventato per un istante il principe Dakar una fregata inglese capite essa mi attaccava ero chiuso in una baglia stretta e poco profonda dovevo passare e sono passato poi con voce più calma ero nella giustizia e nel diritto soggiunse ho fatto ovunque il bene che ho potuto e anche il male che ho dovuto la giustizia non è sempre nel perdono seguirono alcuni istanti di silenzio poi il capitano Nemo pronunciò di nuovo questa frase che cosa pensate di me signori Cyrus Smith tese la mano al capitano e rispose con voce grave capitano il vostro torto è da aver creduto che si potesse resuscitare il passato avete lottato contro il progresso inevitabile fu uno di quegli errori che alcuni ammirano e altri biasimano ma di cui Dio solo è giudice e che la ragione umana deve assolvere colui che si inganna ma con un'intenzione che crede buona si può combattere ma non si cessa di stimarlo il vostro errore è di quelli che costringono all'ammirazione e il vostro nome non ha da temere il giudizio della storia essa ama le follie eroiche pur condannandone i risultati il petto del capitano Nemo si sollevò ed egli tese la mano verso il cielo ho avuto torto ho ragione mormorò Cyrus Smith riprese tutte le grandi azioni risalgono a Dio già che vengono da lui capitano Nemo i galantuomini che vi stanno d'innanzi e che voi avete soccorsi vi piangeranno sempre Herbert si era avvicinato al capitano il giovinetto si inginocchiò gli prese la mano e gliela baciò una lacrima scese dagli occhi del morente figlio mio sii benedetto disse egli capitolo 17 era sorto il giorno nessun raggio luminoso penetrava in quella cripta profonda la marea alta in quel momento ne ostruiva l'apertura ma la luce artificiale che si sprigionava in lunghi fasci attraverso le pareti del Nautilus non si era affievolita e la distesa d'acqua risplendeva sempre intorno all'apparecchio galleggiante un'estrema stanchezza abbatteva allora il capitano Nemo che era ricaduto sul divano non si poteva pensare di trasportarlo a Granite House perché egli aveva manifestato la volontà di rimanere in mezzo alle meraviglie del Nautilus che non si sarebbero potute acquistare con milioni e di aspettarvi una morte che non poteva tardare durante una prostrazione assai lunga che lo ridusse quasi fuori di conoscenza Cyrus Smith e Gideon Spilett osservarono attentamente lo stato del malato era evidente che il capitano si spegneva poco a poco le forze stavano per mancare a quel corpo un tempo così robusto e ora fragile involucro di un'anima che stava per involarsi tutta la vita era concentrata nel cuore e nella testa l'ingegnere e il giornalista si erano consultati a bassa voce c'era qualche cura da prodigare a quel morente era possibile se non salvarlo almeno prolungarne per alcuni giorni la vita egli stesso aveva detto che non c'era alcun rimedio e attendeva tranquillamente la morte che non temeva non possiamo far nulla disse Gideon Spilett ma di che cosa muore domandò Pencroff si spegne rispose il cronista tuttavia rispose il marinaio se lo trasportassimo all'aria aperta in pieno sole forse si ranimerebbe no Pencroff rispose l'ingegnere non possiamo tentare nulla d'altra parte il capitano Nemo non acconsentirebbe ad abbandonare il suo Nautilus da trent'anni vive sul Nautilus e sul Nautilus egli vuole morire indubbiamente il capitano Nemo udì la risposta di Cyrus Smith perché si sollevò un poco e con voce debolissima ma ancora intellegibile avete ragione signore disse io devo e voglio morire qui anzi ho qualcosa da chiedervi Cyrus Smith e i suoi compagni si avvicinarono di nuovo al divano e ne disposero i cuscini in modo che il morente fosse meglio appoggiato si potè allora vedere il suo sguardo fermarsi su tutte le meraviglie di quel salone illuminato dai raggi elettrici che filtravano dagli arabeschi d'un soffitto luminoso guardò l'uno dopo l'altro i quadri appesi alle splendide tappezzerie delle pareti quei capolavori dei maestri italiani fiamminghi francesi e spagnoli le riproduzioni scultore in marmo in bronzo che si ergevano sui loro piedistalli l'organo magnifico addossato alla paratia di poppa poi le vetrine disposte attorno a una vasca centrale nella quale facevano splendida mostra i più ammirevoli prodotti del mare piante marine e zoofiti collane di perle di inestimabile valore e alla fine i suoi occhi si fermarono sul motto scritto sul fronte di quel museo il motto del Nautilus mobilis immobili sembrava che il moribondo volesse un'ultima volta carezzare con lo sguardo quei capolavori dell'arte e della natura che avevano formato il suo limitato orizzonte durante un soggiorno di tanti anni negli abissi marini Sarah Smith aveva rispettato il silenzio del capitano Nemo ora aspettava che il morente riprendesse la parola dopo alcuni minuti durante i quali aveva indubbiamente visto passare davanti a sé la sua vita intera il capitano Nemo si volse ai coloni e disse loro credete signori di dovermi un po' di riconoscenza capitano daremmo la nostra vita per prolungare la vostra bene rispose il capitano Nemo bene promettetemi di eseguire le mie ultime volontà e io sarò compensato di tutto quanto fatto per voi ve lo promettiamo rispose Sarah Smith e con questa promessa egli impegnava i suoi compagni e sé signori riprese il capitano domani sarò morto e fermò con un gesto Albert che aveva voluto protestare domani sarò morto e desidero non avere altra tomba che il Nautilus è la mia bara tutti i miei amici riposano in fondo al mare e anch'io voglio riposare laggiù un silenzio profondo accolse queste parole del capitano Nemo ascoltatemi signori riprese il Nautilus è imprigionato in questa grotta il cui ingresso si è sollevato ma se non può abbandonare la sua prigione può perlomeno sprofondarsi nell'abisso che essa ricopre e custodirvi la mia spoglia mortale i coloni ascoltavano religiosamente le parole del morente domani dopo la mia morte signor Smith ripresa il capitano voi e i vostri compagni abbandonerete il Nautilus già che tutte le ricchezze che esso contiene devono sparire con me un solo ricordo vi rimarrà del principe Dakar di cui voi sapete adesso la storia quel cofanetto la racchiude diamanti per parecchi milioni per la maggior parte ricordi del tempo in cui sposo e padre ho quasi creduto alla felicità e una collezione di perle raccolte dai miei amici e da me nel fondo dei mari con questo tesoro potrete fare un giorno delle opere buone in mani come le vostre e in quelle dei vostri compagni signor Smith il denaro non può essere un pericolo io sarò dunque di lassù associato alle vostre opere e non dubito che saranno ottime dopo alcuni istanti di riposo reso necessario dalla sua estrema debolezza il capitano Nemo riprese in questi termini domani prenderete quel cofanetto e abbandonerete questa sala di cui chiuderete la porta poi risalirete sulla piattaforma del Nautilus di cui abbasserete il portello che fisserete per mezzo delle sue chiavarde lo faremo capitano rispose Cyrus Smith bene vi imbarcherete poi sulla lancia che vi ha condotti ma prima di abbandonare il Nautilus andate a poppa e la aprite due grosse valvole che si trovano sulla linea di galleggiamento l'acqua penetrerà nelle casse e il Nautilus si immergerà poco a poco per andare ad adagiarsi sul fondo dell'abisso e vedendo Cyrus Smith fare un gesto il capitano soggiunse non abbiate alcun timore non seppellirete che un morto né Cyrus Smith né alcuno dei suoi compagni credettero di dover muovere qualche obiezione al capitano Nemo egli trasmetteva loro le sue ultime volontà ed essi non avevano che da eseguirle ho la vostra promessa signori aggiunse il capitano Nemo l'avete capitano rispose l'ingegnere il capitano fece un segno di ringraziamento e pregò i coloni di lasciarlo solo per alcune ore Gideon Spilett insistette per rimanere presso di lui nel caso che sopraggiungesse una crisi ma il morente rifiutò dicendo vivrò fino a domani signore tutti lasciarono il salone attraversarono la biblioteca e la sala da pranzo e giunsero a prua nel locale delle macchine dove erano installati gli apparecchi elettrici che oltre al calore e alla luce fornivano al Nautilus la forza meccanica il Nautilus era un capolavoro che conteneva dei capolavori e l'ingegnere ne fu meravigliato i coloni salirono sulla piattaforma che emergeva di sette o d'otto piedi sull'acqua là essi si distesero presso una spessa lastra di vetro lenticolare che otturava una specie di grosso occhio dal quale scaturiva un fascio di luce dietro quest'occhio si scorgeva una cabina che conteneva le ruote del timone e nella quale stava il timoniere quando dirigeva il Nautilus attraverso gli strati liquidi che i raggi elettrici dovevano rischiarare per una notevole distanza Cyrus Smith i suoi compagni rimasero in silenzio vivamente impressionati da ciò che avevano veduto e sentito e il loro cuore si stringeva pensando che l'uomo che li aveva tante volte soccorsi il protettore che avevano conosciuto da poche ore appena era sulle soglie della morte qualunque giudizio la posterità avesse pronunciato sugli atti di quell'esistenza per così dire sovrumana il principe Dakar sarebbe rimasto sempre una di quelle straordinarie figure di cui non può cancellarsi il ricordo ecco un uomo disse Pencroff si può credere che un uomo simile abbia vissuto così in fondo all'oceano e dire che forse egli non ci ha trovato maggior tranquillità che altrove il Nautilus fece a loro osservare Ayrton avrebbe forse potuto servirci a lasciare l'isola di Lincoln e a raggiungere qualche terra abitata per mille diavoli esclamò Pencroff io di certo non mi arrischierei a governare una simile nave correre sui mari sta bene ma sotto i mari no davvero credo rispose il giornalista che la manovra ad un apparecchio sottomarino come il Nautilus debba essere facilissima a Pencroff e che faremmo presto a impararlo non tempeste non abbordi da temere a pochi piedi sotto la superficie le acque del mare sono calme come un lago possibilissimo ribatte il marinaio ma preferisco una bella burrasca a bordo di una nave ben attrezzata un bastimento è fatto per andare sopra l'acqua e non sotto amici rispose l'ingegnere è inutile almeno per quanto concerne il Nautilus discutere il problema dei sottomarini il Nautilus non è nostro e noi non abbiamo il diritto di disporne d'altra parte esso non potrebbe servirci in alcun caso oltre a non poter più uscire da questa caverna il cui ingresso è ora chiuso da un sollevamento delle rocce basaltiche il capitano Nemo vuole che esso si inabissi con lui dopo la sua morte la sua volontà è formale e noi l'eseguiremo Cyrus Smith e i suoi compagni dopo una conversazione che si prolungò per qualche tempo ancora ridiscesero nell'interno del Nautilus presero qualche cibo poi rientrarono nel salone il capitano Nemo era rinvenuto dalla prostazione che l'aveva precedentemente abbattuto e i suoi occhi avevano ripreso il loro splendore si vedeva come un sorriso spuntare sulle sue labbra i coloni gli si avvicinarono signori disse loro il capitano voi siete degli uomini coraggiosi onesti e buoni vi siete tutti votati interamente al bene comune vi ho spesso osservati e vi amo vi amo la vostra mano signor Smith Cyrus Smith porse la mano al capitano che la strinse affettuosamente questo fa bene mormorò poi riprese ma basta parlare di me devo parlarvi di voi stessi e dell'isola di Lincoln sulla quale avete trovato asilo avete intenzione di abbandonarla per ritornarvi però capitano rispose vivacemente Pencroff ritornarvi infatti Pencroff rispose il capitano sorridendo so quanto amate quest'isola essa si è modificata a merce le vostre fatiche ed è ben vostra il nostro disegno capitano disse allora Cyrus Smith sarebbe di offrirla agli Stati Uniti e di fondarvi per la nostra marina uno scalo che sarebbe felicemente situato in questa parte del Pacifico voi pensate al vostro paese signori rispose il capitano lavorate per la sua prosperità per la sua gloria avete ragione la patria la bisogna ritornare la si deve morire e io io muoio lontano da tutto quello che ho amato avreste qualche ultima volontà da esprimere disse calorosamente l'ingegnere qualche ricordo da recare agli amici che avete dovuto lasciare nelle montagne dell'india no signor Smith non ho più amici sono l'ultimo della mia razza e sono morto da un pezzo per tutti coloro che ho conosciuto ma ritorniamo a voi la solitudine l'isolamento sono cose tristi al di sopra delle forze umane io muoio per aver creduto di poter vivere solo voi dovete dunque tentare di tutto per lasciare l'isola di Ligon e per rivedere la terra dove siete nati so che quei miserabili hanno distrutto l'imbarcazione che avete costruita adesso stiamo costruendo una nave disse Gideon Spilett una nave abbastanza grande per trasportarci fino alle terre più vicine ma se anche riusciamo presto tardi a lasciarla ritorneremo all'isola di Ligon troppi ricordi ci avvincono a essa perché possiamo dimenticarla qui abbiamo conosciuto il capitano Nemo disse Cyrus Smith soltanto qui ritroveremo tutto intero il vostro ricordo aggiunse Arbert e qui io riposerò nell'eterno sonno se rispose il capitano esitò e invece di finire la frase si limitò a dire signor Smith vorrei parlare a voi solo i compagni dell'ingegnere rispettando il desiderio del moribondo si ritirarono Cyrus Smith rimase soltanto pochi minuti con il capitano Nemo e tosto richiamò i suoi amici ma nulla disse loro dei segreti che il morente aveva voluto confidargli Gideon Spilett osservò allora il malato con attenzione estrema era evidente che il capitano non era più sostenuto che da una grande energia morale e che tra poco non avrebbe potuto più reagire al suo indebolimento fisico la giornata finì senza che alcun cambiamento si manifestasse i coloni non lasciarono un istante il Nautilus era sopraggiunta la notte benché in quella cripta fosse impossibile accorgersene il capitano Nemo non soffriva ma veniva meno il suo nobile volto reso pallido dall'avvicinarsi della morte era calmo dalle sue labbra sfuggivano talvolta parole quasi inafferrabili che si riferivano a diversi eventi della sua strana esistenza si sentiva che la vita si ritraeva poco a poco da quel corpo le cui estremità erano già fredde una o due volte ancora egli rivolse la parola ai coloni disposti intorno a lui e sorrise loro con quel sorriso estremo proprio dei morenti che continua anche quando la morte è sopraggiunta poco dopo mezzanotte il capitano Nemo fece un movimento supremo e riuscì a incrociare le braccia sul petto come se avesse voluto morire in quell'atteggiamento verso l'una del mattino tutta la sua vita si era unicamente rifugiata nello sguardo un ultimo fuoco brillò in quella pupilla da cui un tempo tante fiamme erano scaturite poi mormorando queste parole Dio e Patria spirò dolcemente allora Cyrus Smith inchinandosi chiusa gli occhi di colui che era stato il principe Dakar e che non era nemmeno più il capitano Nemo Herbert e Pencroff piangevano Ayrton s'asciugava una lacrima furtivamente Nab era inginocchiato vicino al giornalista mutato in statua Cyrus Smith levando una mano sopra il capo del morto Che Dio abbia l'anima sua disse e voltandosi verso i suoi amici soggiunse Preghiamo per colui che abbiamo perduto Alcune ore dopo i coloni mantenevano la promessa fatta al capitano mettendo in esecuzione le sue ultime volontà Cyrus Smith e i compagni abbandonarono il Nautilus portando via l'unico ricordo che era stato essi legato dal loro benefattore quel cofanetto che racchiudeva tante fortune Il meraviglioso salone sempre inondato di luce era stato chiuso accuratamente quindi il portello di lamiera del boccaporto fu inchiavardato in modo che nemmeno una goccia d'acqua potesse penetrare all'interno del Nautilus Poi i coloni discesero nella lancia che era attraccata al fianco della nave sottomarina La lancia fu condotta a poppa Là sulla linea di galleggiamento si aprivano due grosse valvole che erano in comunicazione con le casse destinata a determinare l'immersione dell'apparecchio Le valvole furono aperte le casse si empirono e il Nautilus immergendosi a poco a poco scomparve sotto la liquida distesa Però i coloni poterono seguirlo ancora attraverso gli strati subacquei la sua luce possente rischiarava le acque trasparenti mentre la cripta ridiventava oscura quella vasta sorgente di emanazioni elettriche alla fine si spense e poco dopo il Nautilus divenuto la bara del capitano Nemo giaceva in fondo al mare capitolo 18 allo spuntar del giorno i coloni avevano di nuovo raggiunto in silenzio l'ingresso della caverna cui diedero il nome di Crypta Dakar in memoria del capitano Nemo la marea era bassa ed essi poterono agevolmente passare sotto l'arcata la cui base era battuta dal flusso la lancia in ferro fu lasciata in questo luogo sicuro opportunamente al riparo e per maggior precauzione Pencroff Nab e Ayrton la larono sul piccolo greto confinante con uno dei lati della grotta in un luogo dove non correva nessun pericolo l'uragano era cessato con la notte gli ultimi rombi del tuono si allontanavano spegnendosi verso ovest non pioveva più ma il cielo era ancora carico di nubi insomma questo mese d'ottobre inizio della primavera australe non si presentava sotto i migliori auspici e il vento aveva tendenza a saltare da un quadrante all'altro e non permetteva di fare assegnamento su di un tempo stabile sero smith e i compagni lasciando la cripta da car avevano ripreso la via dal recinto cammin facendo nabbe e harbert ebbero cura di staccare il filo teso dal capitano tra il recinto e la cripta perché avrebbe potuto essere utilizzato camminando i coloni parlavano poco i diversi avvenimenti della notte dal 15 al 16 ottobre li avevano vivamente impressionati lo sconosciuto che li aveva sino allora così efficacemente protetti l'uomo che la loro immaginazione elevava a genio il capitano Nemo non era più il suo Nautilus e lui erano sepolti in fondo a un abisso sembrava a ciascuno che il loro isolamento fosse maggiore di prima si erano per così dire abituati a contare su quel potente intervento che ormai mancava loro per sempre Gideon Spilett e lo stesso Cyrus Smith non potevano sottrarsi a quell'impressione perciò mentre andavano lungo la strada del recinto tutti serbavano il più profondo silenzio verso le nove della mattina i coloni erano rientrati a granite house era stato convenuto che la costruzione della nave sarebbe stata attivamente sollecitata e Cyrus Smith le dedicò più che mai il suo tempo e le sue cure non si poteva sapere quel che riservasse l'avvenire era una garanzia per i coloni avere a loro disposizione un solido abbastimento capace di tenere il mare anche con il cattivo tempo e abbastanza grande per tentare all'occorrenza una traversata di qualche importanza se terminato il bastimento i coloni non si fossero decisi allora lasciare l'isola di Lincoln per raggiungere o un arcipelago polinesiano del Pacifico o le coste della Nuova Zelanda si sarebbero perlomeno recati al più presto all'isola di Tabor allo scopo di depositarvi lo scritto relativo ad Ayrton era una precauzione indispensabile da prendere per il caso in cui lo yacht scozzese fosse ricomparso in quei mari i lavori furono dunque ripresi Cyrus Smith Pencroff e Ayrton aiutati da Nab da Guidon Spilett e da Herbert salvo quando qualche altra faccenda urgente li richiamava altrove lavoravano senza posa nel cantiere era necessario che il nuovo bastimento fosse pronto entro cinque mesi vale a dire per il principio del mese di marzo se si voleva visitare l'isola di Tabor prima che i venti equinoziali avessero reso quella traversata impossibile così i carpentieri non perdettero un momento d'altronde non avevano da preoccuparsi per l'attrezzatura già che quella del brigantino era stata salvata per intero bisognava dunque innanzitutto portare a termine lo scafo della nave la fine dell'anno 1868 passò in questi importanti lavori escludendone quasi completamente ogni altro in capo due mesi e mezzo le coste erano state sistemate e i primi corsi di fasciame inchiodati già si poteva vedere che i piani disegnati da Cyrus Smith erano eccellenti e che la nave si sarebbe comportata bene in mare Pencroff si applicava al lavoro anima e corpo e non si faceva riguardo di brontolare quando l'uno o l'altro abbandonava l'ascia del carpentiere per il fucile del cacciatore tuttavia bisognava pur mantenere fornite le riserve di granite house in vista del prossimo inverno ma il marinaio non era contento quando gli operai mancavano al cantiere in quelle occasioni brontolando egli faceva per collera il lavoro di sei uomini tutta quella stagione estiva fu cattiva durante alcuni giorni il calore fu estenuante e l'atmosfera satura di elettricità si scaricava poi mediante violenti temporali che turbavano assai gli strati atmosferici era raro che non si udissero dei lontani rombi di tuono era come un brontolio sordo ma permanente simile a quello che si fa udire nelle regioni equatoriali del globo il primo gennaio 1869 si distinse per una burrasca di estrema violenza e il fulmine colpì più volte l'isola grossi alberi furono abbattuti fra gli altri uno di quegli enormi bagolari che ombreggiavano il pollaio all'estremità sud del lago quel fatto aveva forse una qualche relazione con i fenomeni che si svolgevano nelle viscere della terra si stabiliva forse una specie di connessione fra le perturbazioni dell'aria e quelle delle parti interne del globo Sarah Smith fu indotto a crederlo poiché lo sviluppo di quei temporali fu contraddistinto da una recrudescenza dei sintomi vulcanici il 3 gennaio Herbert essendo fin dall'alba salito all'altipiano di Bella Vista per sellare uno degli onagri scorse un enorme pennacchio che si sprigionava dalla cima del vulcano Herbert preavvertì tosto i coloni che andarono subito a osservare la vetta del monte Franklin esclamò Pencroff non sono vapori stavolta mi pare che il gigante non si contenti più di respirare ma che fumi l'immagine usata dal marinaio rappresentava giustamente la modificazione operatasi alla bocca del vulcano già da tre mesi il cratere emetteva dei vapori più o meno intensi ma che provenivano ancora da un'ebollizione interna delle materie minerali stavolta ai vapori era seguito un fumo denso che si elevava sotto forma di colonna grigiastra larga più di 300 piedi alla base e a prentesi come un immenso fungo a un'altezza da 7 a 800 piedi sopra la cima del monte il fuoco nel camino disse Gideon Spilett e noi non potremo spegnerlo rispose Herbert si dovrebbe pulire anche i vulcani fece osservare Nab che sembrava parlare con la maggiore serietà del mondo bell'idea Nab esclamò Pencroff ti incaricheresti tu di quella pulitura e Pencroff prorubbe in una larga risata Cyrus Smith osservava attentamente il fumo proiettato dal monte Franklin e tendeva anche l'orecchio come se avesse voluto sorprendere qualche lontano brontolio poi tornando verso i compagni da cui sarà allontanato un poco infatti amici si è prodotto un'importante modificazione non dobbiamo nascondercelo le materie vulcaniche non sono più solamente allo stato di ebollizione hanno preso fuoco e noi siamo certamente minacciati da una prossima eruzione ebbene signor Smith si vedrà l'eruzione esclamò Pencroff e la si applaudirà se sarà ben riuscita penso che non ci sia di che preoccuparci no Pencroff rispose Cyrus Smith perché l'antica strada delle lave è sempre aperta e il cratere grazie alla sua disposizione le ha finora sempre riversate verso il nord eppure eppure poiché da un'eruzione non c'è da trarre alcun vantaggio sarebbe meglio che non si verificasse disse il giornalista chissà rispose il marinaio forse in questo vulcano c'è qualche utile e preziosa materia che esso vomiterà compiacentemente e di cui faremo buon uso Cyrus Smith crollò il capo da uomo che non si aspettava niente di buono dal fenomeno il cui svolgimento si presentava così all'improvviso egli non considerava leggermente come Pencroff le conseguenze di un'eruzione se le lave dato l'orientamento del cratere non minacciavano direttamente le parti boschive coltivate dell'isola altre complicazioni potevano presentarsi infatti non è raro che le eruzioni siano accompagnate da terremoti e un'isola della natura di quella di Lincoln formata di materie così diverse basalti da una parte granito dall'altra lave al nord suolo friabile a mezzogiorno materie che di conseguenza non potevano essere solidamente unite fra loro avrebbe corso il rischio di disgregarsi se quindi l'effusione delle sostanze vulcaniche non costituiva un pericolo molto serio ogni movimento della struttura terrestre che avesse scosso l'isola poteva produrre conseguenze molto gravi mi sembra disse Ayrton che era disteso a terra in modo da posare l'orecchio sul suolo mi sembra di udire sordi rumori come farebbe un carro carico di sbarre di ferro i coloni ascoltarono con estrema attenzione e poterono constatare che Ayrton non si ingannava ai rumori cui aveva accennato si mescolavano talvolta dei sordi muggiti sotterranei che formavano una sorta di crescendo e poi si spegnevano a poco a poco come fosse passato del vento nelle profondità del globo ma non si udiva ancora nessuna vera e propria detonazione da tutto questo si poteva dunque dedurre che i vapori e il fumo trovavano libero passaggio attraverso il camino centrale e che essendo la valvola abbastanza larga nessuno spostamento si sarebbe prodotto nessuna esplosione sarebbe stata da temere ah diamine disse allora Pencroff non ritorniamo al lavoro che il monte franklin fumi sbraiti gemma vomiti pure fuoco e fiamme finché gli piacerà non è questa una ragione per star senza far niente andiamo Ayrton Navarbert signor Cyrus signor Spilett bisogna che oggi tutti diano mano all'opera è il momento di sistemare le cinta e una dozzina di braccia non saranno di troppo fra meno di due mesi voglio che il nostro nuovo buon adventure perché gli conserveremo questo nome non è vero galleggi sulle acque di portopallone dunque non c'è un'ora da perdere tutti i coloni di cui Pencroff aveva chiesto l'aiuto discesero al cantiere e lavorarono alla posa delle cinte le costole dello scheletro che formano la cintura di un bastimento e uniscono solidamente fra loro spessi corsi di fasciame era un'operazione difficile e faticosa alla quale tutti dovettero partecipare i coloni lavorarono dunque assiduamente per tutta quella giornata 3 gennaio senza preoccuparsi del vulcano che d'altra parte dalla spiaggia davanti a Granite House non era visibile ma una volta o due delle grandi ombre velando il sole che descriveva il suo arco diurno in un cielo estremamente puro indicarono che una densa nube di fumo passava fra il suo disco e l'isola il vento soffiando dal largo portava tutti quei vapori verso l'ovest Sarah Smith e Gideon Spilett notarono benissimo quegli oscuramenti passeggeri e ragionarono più volte dei progressi che evidentemente faceva il fenomeno vulcanico ma il lavoro non fu interrotto era d'altronde del più alto interesse sotto tutti i punti di vista che il bastimento fosse ultimato nel minor tempo possibile in presenza dell'eventualità che potevano verificarsi la sicurezza dei coloni sarebbe stata a nave terminata molto meglio garantita chi poteva sapere se quella nave non avrebbe rappresentato un giorno il loro unico asilo la sera dopo cena Cyrus Smith Gideon Spilett e Herbert salirono sull'altipiano di bella vista era già notte fatta e l'oscurità doveva permettere di constatare se ai vapori e al fumo accumulati alla bocca del cratere si mescolavano fiamme o materie incandescenti proiettate dal vulcano il cratere in fiamme gridò Herbert che più svelto dei suoi compagni era arrivato per primo sull'altipiano il monte Franklin distante circa 6 miglia appariva allora come una gigantesca torcia in cima alla quale si contorcevano delle fiamme fuligginose fumo scorie e ceneri erano forse commiste con quelle fiamme cosicché il loro splendore molto attenuato non spiccava vivo nelle tenebre della notte ma una specie di chiarore fulvo si diffondeva sull'isola e mostrava confusamente la massa boscosa dei primi piani immensi vortici offuscavano gli strati superiori dell'atmosfera attraverso i quali scintillavano alcune stelle i progressi sono rapidi disse l'ingegnere non c'è da meravigliarsi rispose il giornalista il risveglio del vulcano data già un certo tempo vi ricordate Cyrus che i primi vapori sono apparsi quando abbiamo esplorato i contrafforti della montagna per scoprire il nascondiglio del capitano Nemo era se non mi inganno verso il 15 ottobre si rispose Herbert e sono già passati due mesi e mezzo da allora il fuoco sotterraneo ha dunque covato per dieci settimane riprese Gideon Spilett e non c'è proprio da stupirsi che si sviluppi adesso con tanta violenza non sentite delle vibrazioni del suolo domandò Cyrus Smith infatti rispose Gideon Spilett ma da questo è un terremoto non dico che siamo minacciati da un terremoto rispose Cyrus Smith che Dio ce ne preservi no queste vibrazioni sono dovute all'effervescenza del fuoco centrale la crosta terrestre non è altro che la parete di una caldaia e come sapete la parete di una caldaia sotto la pressione dei gas vibra come una piastra sonora questo è appunto l'effetto che ora si produce che magnifici fasci di fuoco esclamò Herbert in quel momento scaturiva dal cratere una specie di fuoco d'artificio di cui i vapori non avevano potuto attenuare lo splendore migliaia di frammenti luminosi e di punti infocati si proiettavano in opposte direzioni taluni sfondando la cupola di fumo la squarciavano con rapidissimo getto e si lasciavano dietro una vera polvere incandescente quel fulgore di luci fu accompagnato da detonazioni successive che producevano lo stesso fragore lacerante di una batteria di mitraglie Cyrus Smith il giornalista e il giovinetto dopo aver passato un'ora sull'antipiano di Bella Vista ridiscesero sulla spiaggia e ritornarono a granite house l'ingegnera era pensieroso preoccupato anzi tanto che Gideon Spilett credette di dovergli domandare se presentiva qualche pericolo prossimo di cui l'eruzione poteva essere la causa diretta o indiretta si e no rispose Cyrus Smith tuttavia riprese il giornalista la più grande disgrazia che potrebbe capitarci sarebbe un terremoto che sconvolgerebbe l'isola vero? ora non credo che questo sia da temersi perché i vapori e le lave trovano un passaggio libero per riversarsi all'esterno perciò rispose Cyrus Smith non temo tanto un terremoto nel senso che ordinariamente si dà le convulsioni del suolo provocate dall'espansione di vapori sotterranei ma penso che altre cause possono produrre grandi disastri quali caro Cyrus? non so bene bisogna che veda che visite la montagna fra pochi giorni saprò qualcosa di preciso Gideon Spilett non insistette e poco dopo malgrado le detonazioni del vulcano che aumentavano di intensità e che gli echi dell'isola ripetevano gli abitanti di Granite House dormivano d'un sonno profondo tre giorni passarono il 4 il 5 e il 6 di gennaio il lavoro ferveva sempre attorno al bastimento e senza spiegarsi altrimenti l'ingegnere intensificava l'opera stessa quanto più gli era possibile il monte Franklin era allora incappucciato da un'oscura nube di sinistro aspetto e con le fiamme eruttava anche pietre incandescenti alcune delle quali ricadevano nel cratere stesso la qualcosa faceva dire a Pencroff che non voleva considerare il fenomeno se non dal lato divertente to il gigante gioca a bilbouquet il gigante fa giochi di prestigio e infatti le materie vomitate ricadevano nel baratro e le lave spinte verso l'alto dalla pressione interna sembrava che non fossero ancora salite fino all'apertura del cratere almeno lo sbocco nord-est che era visibile in parte non versava alcun torrente sul pendio settentrionale del monte però per quanto urgenti fossero i lavori di costruzione anche altre faccende esigevano la presenza dei coloni in diversi punti dell'isola prima di tutto bisognava andare al recinto dove era rinchiuso il greggio di muffloni e di capre e rinnovare la provvista di foraggio di quegli animali fu stabilito allora che a Ayrton vi si sarebbe recato il giorno seguente 7 gennaio e siccome egli poteva bastare da solo quell'operazione cui era abituato Pencroff e gli altri manifestarono una certa sorpresa quando udirono l'ingegnere d'ira da Ayrton poiché è andata al recinto domani vi accompagnerò eh signor Cyrus esclamò il marinaio i nostri giorni di lavoro sono contati e se voi pure partite saranno quattro braccia di meno saremo di ritorno l'indomani rispose Cyrus Smith ma ho bisogno di andare al recinto desidero stabilire a che punto si trova l'eruzione 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 rispose Pencroff con aria poco soddisfatta questa eruzione è certamente una cosa importante eppure non mi inquieta per nulla che che ne dicesse il marinaio l'esplorazione stabilita dall'ingegnere venne fissata per l'indomani Herbert avrebbe desiderato vivamente accompagnare Cyrus Smith ma non volle contrariare Pencroff assentandosi l'indomani allo spuntare del giorno Cyrus Smith e Ayrton montando sul carro tirato da due onagri correva a gran trotto sulla via del recinto sul cielo della foresta passavano grosse nuvole che il cratere del monte Franklin formava incessantemente con le sue materie fulliginose quelle nubi che si muovevano pesantemente nell'atmosfera erano evidentemente composte di sostanze eterogenee non al solo fumo del vulcano esse dovevano la loro strana opacità e pesantezza scori allo stato di polvere pozzolana polverizzata e ceneri grigiastre fini quanto la più fine fecola erano sospese fra le loro dense volute queste ceneri sono così tenui che talvolta si videro mantenersi nell'aria per mesi interi dopo l'eruzione del 1783 in Islanda durante più di un anno l'atmosfera fu così carica di polveri vulcaniche da lasciare a malapena passare raggi del sole ma più spesso queste materie polverizzate si abbassavano e così accadde anche in quell'occasione Cyrus Smith e Ayrton erano appena giunti al recinto che una specie di neve nerastra simile a una leggera polvere da sparo cadde e modificò istantaneamente l'aspetto del suolo alberi prati tutto fu ricoperto da uno strato di parecchi pollici di spessore fortunatamente però tirava vento da nord est e la maggior parte della nuvola andò a dissolversi sul mare ecco un fatto singolare signor Smith disse Ayrton ecco un fatto grave rispose l'ingegnere questa pozzolana queste pietre pomici polverizzate in una parola tutta questa polvere minerale dimostra quanto profondo è lo sconvolgimento negli strati inferiori del vulcano ma non c'è nulla da fare nulla nulla che da rendersi conto dei progressi del fenomeno voi dunque Ayrton occupatevi delle faccende del recinto nel frattempo io risalirò le sorgenti del cric rosso ed esaminerò lo stato del monte alla sua pendice settentrionale poi poi signor Smith poi faremo una visita alla cripta Dakar voglio vedere insomma ritornerò a prendervi fra due ore Ayrton entrò allora nella corte del recinto e aspettando il ritorno dell'ingegnere s'occupò dei muffloni e delle capre che sembravano provare un certo malessere davanti a quei primi sintomi di un'eruzione intanto Cyrus Smith dopo essersi avventurato sulla cresta dei contrafforti orientali aggirò il cric rosso e arrivò nel punto dove lui e i suoi compagni avevano scoperto una sorgente solforosa al tempo della loro prima esplorazione le cose erano molto cambiate invece di una sola colonna di fumo egli ne contò tredici che si sprigionavano fuori dalla terra come se fossero state violentemente spinte all'insù da qualche stantuffo era evidente che la crosta terrestre subiva in quel punto del globo una spaventosa pressione l'atmosfera era satura di gas solforosi di idrogeno d'acido carbonico frammisti a vapore e acqueo Cyrus Smith sentiva fremere i tuffi vulcanici di cui la pianura era sparsa e che non erano se non ceneri pulverulente che il tempo aveva solidificato ma non vide nessuna traccia di lave recenti l'ingegnere poteva assicurarsi ancora più completamente di ciò quando ebbe osservato tutto il versante settentrionale del monte Franklin vortici di fumo e di fiamme uscivano dal cratere una gragnuola di scorie cadeva al suolo ma nessuna fuoriuscita di lava si operava attraverso l'apertura del cratere e ciò provava che il livello delle materie vulcaniche non aveva ancora raggiunto la sommità del camino centrale preferirei invece che fosse il contrario si disse Cyrus Smith almeno sarei certo che le lave hanno ripreso il loro corso normale chissà se non si scaricheranno per qualche nuova bocca ma non è questo il pericolo il capitano Nemo l'ha giustamente presentito no il pericolo non è questo Cyrus Smith avanzò sino all'enorme rialzo il cui prolungamento circondava lo stretto golfo del pesce cane così poté esaminare sufficientemente da quel lato le vecchie striature lasciate dalle lave dopo questo attento esame non vi fu più dubbio per lui l'ultima eruzione risaliva a epoca lontanissima allora ritornò sui suoi passi prestando orecchie ai boati sotterranei che si propagavano susseguendosi come un tuono continuo sul quale emergevano a tratti fragorose detonazioni alle nove della mattina era di ritorno al recinto Ayrton l'aspettava gli animali sono rifocillati signor Smith disse Ayrton sta bene Ayrton sembravano inquieti signor Smith sì l'istinto parla in loro e l'istinto non inganna quando vorrete prendete una lanterna e un acciarino Ayrton disse l'ingegnere e partiamo Ayrton fece quanto gli era stato ordinato gli onagri staccati dal carro vagavano per il recinto la porta fu chiuse esternamente e Cyrus Smith precedendo Ayrton prese verso ovest lo stretto sentiero che conduceva alla costa ambe due camminavano su di un suolo vattato dalla polvere caduta dalle nubi nessun quadrupede si scorgeva nei boschi anche gli uccelli erano fuggiti a tratti una leggera brezza sollevava lo strato di cenere e i due coloni presi in un vortice opaco non si vedevano più avevano cura allora di applicarsi un fazzoletto sugli occhi e sulla bocca già che correvano il rischio di essere accecati e soffocati Cyrus Smith e Ayrton in quelle condizioni non potevano camminare rapidamente inoltre l'aria era pesante come se il suo ossigeno fosse stato in parte bruciato e fosse divenuto inadatto alla respirazione ogni cento passi dovevano fermarsi e riprendere fiato erano già passate le dieci quando l'ingegnere e il suo compagno raggiunsero la cresta dell'enorme cumulo di rocce basaltiche e porfiriche che formavano la costa nord-ovest dell'isola Ayrton e Cyrus Smith cominciarono a discendere quella costa scoscesa seguendo pressapoco l'accidentato percorso che nella notte della tempesta li aveva condotti alla cripta Dakar in pieno giorno questa discesa fu meno pericolosa ed altronde lo strato di ceneri ricoprendo le rocce altrimenti troppo levigate permetteva di assicurare più solidamente il piede sulle superfici in pendio il rialzo che costeggiava il lido a un'altezza di 40 piedi circa fu in breve raggiunto Cyrus Smith si ricordava che quel corridoio declinava per un dolce pendio fino al livello del mare benché la marea fosse bassa in quel momento nessuna renile si mostrava e le onde sporche di polvere vulcanica andavano a battere direttamente contro il basalto del litorale Cyrus Smith e Ayrton ritrovarono senza fatica l'apertura della cripta Dakar e si fermarono sotto l'ultimo scoglio che formava il ripiano inferiore del rialzo la lancia deve essere là disse l'ingegnere c'è signor Smith rispose Ayrton tirando a sé la leggera imbarcazione che era ricoverata sotto la volta dell'arcata imbarchiamoci Ayrton i due coloni si imbarcarono nella lancia una leggera ondulazione li spinse ancora più sotto la bassissima volta della cripta Evie Ayrton dopo aver battuto l'acciarino accese la lanterna poi afferrò i due remi la lanterna fu posta sul tagliamare della lancia in maniera da proiettare i suoi raggi in avanti e Cyrus Smith prese la barra governando in mezzo alla tenebre della cripta non c'era più il nautilus a illuminare con la sua vivide luce l'oscura caverna probabilmente l'irradiazione elettrica sempre nutrita dalla sua potente sorgente si propagava ancora in fondo alle acque ma nessun chiarore usciva naturalmente dal baratro dove riposava il capitano Nemo la luce della lanterna benché insufficiente permise tuttavia all'ingegnere di avanzare seguendo la parete destra della cripta un silenzio sepolcrale regnava sotto quella volta perlomeno nella sua parte anteriore giacché ben presto Cyrus Smith udì distintamente i brontolii che partivano dal seno della montagna è il vulcano disse poco dopo un acuto odore rivelò l'esistenza di agenti chimici e dei vapori solforosi presero alla gola l'ingegnere e il suo compagno ecco quello che temeva il capitano Nemo mormorò Cyrus Smith impallidendo leggermente bisogna tuttavia andare sino in fondo andiamo rispose Ayrton che si curvò sui remi e spinse la lancia verso il fondo della cripta 25 minuti dopo aver varcato l'apertura la lancia arrivava alla parete terminale e si fermava allora Cyrus Smith salendo sul sedile esplorò con la lanterna le diverse zone della parete che separava la cripta dal cammino centrale del vulcano qual era lo spessore di questa parete era di 100 piedi o soltanto di 10 non era possibile dirlo ma i rumori sotterranei erano troppo percettibili perché fosse molto grossa l'ingegnere dopo aver esplorato la muraglia seguendo una linea orizzontale fissò la lanterna all'estremità di un remo e lo fece muovere di nuovo su e giù per la parete basaltica ma più in alto là da alcune fessure appena visibili attraverso i prismi mal connessi traspirava un fumo acre che infettava l'atmosfera della caverna delle fratture solcavano la muraglia e alcune di esse più nettamente visibili s'abbassavano sino a due o tre piedi soltanto dalle acque della cripta Cyrus Smith rimasa tutta prima pensieroso poi mormorò ancora queste parole sì il capitano aveva ragione il pericolo è qui ed è un pericolo terribile Ayrton non disse nulla ma un segno di Cyrus Smith riprese i reni e dopo una mezz'ora usciva assieme all'ingegnere dalla cripta Dakar capitolo 19 la mattina seguente 8 gennaio dopo un giorno e una notte passate al recinto e aver lasciato tutto in ordine Cyrus Smith e Ayrton tornarono a Granite House tosto l'ingegnere adunò i compagni e comunicò loro che l'isola di Lincoln correva un grandissimo pericolo che nessuna potenza umana poteva scongiurare Amici miei disse e la sua voce tradiva un'emozione profonda L'isola di Lincoln non è di quelle destinate a durare quanto il globo e nulla potrà sottrarla al suo destino I coloni si guardarono e guardarono l'ingegnere non potevano seguirlo Spiegatevi Cyrus disse Gideon Spilett Mi spiego rispose Cyrus Smith o piuttosto non farò che trasmettervi la spiegazione che durante i nostri pochi minuti di colloquio segreto mi fu data dal Capitano Nemo Il Capitano Nemo? esclamarono i coloni Sì è l'ultimo servigio che ha voluto renderci prima di morire L'ultimo servigio vedrete che anche da morto ce ne renderà ancora degli altri Ma che cosa vi ha detto il Capitano Nemo? chiese il cronista Sappiatelo dunque amici rispose l'ingegnere L'isola di Lincoln non è nelle condizioni in cui si trovano le altre isole del Pacifico è una conformazione particolare che il Capitano Nemo mi ha fatto conoscere condurrà presto o tardi allo smembramento della sua struttura sottomarina Uno? Uno smembramento? L'isola di Lincoln? Andiamo dunque? esclamò Pencroff che malgrado tutto il rispetto per Cyrus Smith non poteva trattenersi dall'alzare le spalle Ascoltatemi Pencroff riprese l'ingegnere Ecco quanto aveva constatato il Capitano Nemo e quello che ho constatato io stesso ieri durante l'esplorazione da me fatta la cripta Dakar questa cripta si prolunga sotto l'isola fino al vulcano e soltanto la sua parete di fondo la separa dal camino centrale ora questa parete è solcata da fratture e da fessure che lasciano già passare i gas solforosi dall'interno del vulcano ebbene domandò Pencroff corrugando fortemente la fronte ebbene mi sono reso conto che quelle fratture vanno gradatamente ingrandendosi sotto la pressione interna che la muraglia di basalto si spacca poco a poco e che in un tempo più o meno breve essa lascerà via libera alle acque del mare di cui è piena la caverna bene replicò Pencroff tentando ancora una volta di scherzare il mare spegnerà il vulcano e tutto sarà finito sì tutto sarà finito rispose Cyrus Smith il giorno in cui il mare si precipiterà attraverso la parete e penetrerà per il cammino centrale fin nelle viscere dell'isola dove bollono le materie eruttive quel giorno Pencroff l'isola di Lincoln salterà come salterebbe la Sicilia se il Mediterraneo si precipitasse nell'Etna i coloni non risposero quelle parole così crudamente chiare dell'ingegnere avevano capito quale pericolo li minacciava infatti Cyrus Smith non esagerava in alcun modo molti ebbero già l'idea che sarebbe forse stato possibile spegnere i vulcani i quali si elevano quasi tutti in riva al mare o ai laghi aprendo un passaggio alle acque ma non sapevano che avrebbero così corso il rischio di far saltare una parte del globo come una caldaia il cui vapore salga improvvisamente di pressione per effetto di un eccesso di fuoco l'acqua precipitandosi in un ambiente chiuso la cui temperatura può essere valutata a migliaia di gradi evaporerebbe così in una subitanea energia che nessun involcro potrebbe resistere non c'era dubbio dunque che l'isola minacciata da uno sconvolgimento spaventevole e prossimo sarebbe durata solo finché fosse durata la parete della cripta Dakar quindi non era nemmeno questione di mesi né di settimane ma era questione di giorni di ore forse il primo sentimento dei coloni fu un dolore profondo essi non pensarono al pericolo che li minacciava direttamente ma la distruzione di quel suolo che aveva dato loro asilo di quell'isola che avevano fecondato che amavano e che avrebbero voluto rendere fiorentissima tante fatiche inutilmente spese tanto lavoro perduto Pencroff non poté trattenere una grossa lacrima che scivolò lungo la sua guancia e che egli non cercò nemmeno di nascondere la conversazione continuò ancora per qualche tempo furono esaminate tutte le probabilità su cui i coloni potevano ancora fare assegnamento ma per concludere tutti riconobbero che non c'era un'ora da perdere e che la costruzione e l'allestimento della nave dovevano essere accelerati con una prodigiosa attività poiché in essa ormai stava la sola probabilità di salvezza per gli abitanti dell'isola di Lincoln tutte le braccia furono dunque mobilitate a che cosa avrebbe servito ormai mietere raccogliere cacciare accrescere le riserve di granite house ciò che contenevano ancora il magazzino e le dispense di granite house sarebbe stato più che sufficiente ad approvvigionare il bastimento per una traversata per quanto lunga l'indispensabile era che potesse essere a disposizione dei coloni prima che si verificasse l'inevitabile catastrofe i lavori furono ripresi con ardore febbrile verso il 23 gennaio il fasciame era per metà fissato fino allora nessuna modificazione si era prodotta la sommità del vulcano dal cratere uscivano sempre vapori e fumo misti a fiamme e a pietre incandescenti ma durante la notte dal 23 al 24 sotto la violenza della lava che arrivò a livello del primo ripiano del vulcano questo perdette il cono che formava come un cappello sulla sua vetta rimbombò un fragore spaventoso i coloni credettero dapprima che l'isola si smembrasse e si precipitarono fuori di granite e aus erano circa le due del mattino il cielo era in fiamme il cono superiore del vulcano un massiccio alto mille piedi e pesante miliardi di libre era stato precipitato sull'isola che ne aveva tremato fortunatamente l'inclinazione di quel cono era dal lato nord ed esso cadde quindi sulla pianura di sabbia e di tuffi che si stendeva fra il vulcano e il mare il cratere ormai largamente aperto proiettava verso il cielo una luce così intensa che il sole effetto del riverbero bastava a far sembrare l'atmosfera incandescente nello stesso tempo un torrente di lava affluendo abbondantemente al nuovo sbocco si riversava in lunghe cascate come l'acqua che trabocca da una vasca troppo piena e mille serpenti di fuoco strisciavano sulle pendici del vulcano il recinto il recinto il recinto gridò Ayrton era verso il recinto che la lava si dirigeva in seguito all'orientamento del nuovo cratere di conseguenza le parti fertili dell'isola le sorgenti del cric rosso i boschi dello shakamar erano minacciati di una distruzione immediata al grido di Ayrton i coloni si erano precipitati verso la stalla degli onagri il carro era stato attaccato tutti non avevano che un pensiero correre al recinto e mettere in libertà gli animali che vi erano chiusi prima delle tre del mattino erano giunti al recinto spaventosi ululati indicavano chiaramente quale era lo spavento dei mufloni e delle capre un torrente di materie incandescenti di minerali liquefatti cadeva già dal contrafforte sulla prateria e rodeva quel lato della palizzata la porta fu bruscamente aperta da Ayrton e gli animali fuggirono come pazzi in tutte le direzioni un'ora dopo la lava ribollente empiva il recinto volatilizzava l'acqua del ruscelletto che la attraversava incendiava l'abitazione che arse come una stoppia e divorossino all'ultimo palo dello steccato del recinto non rimaneva più nulla i coloni però vollero lottare contro questa invasione e vi si provarono ma la loro follia fu inutile già che l'uomo è disarmato di fronte a questi grandi cataclismi era assorto il nuovo giorno il 24 gennaio Cyrus Smith e i suoi compagni prima di tornare a Granite House voglero osservare la direzione definitiva che stava per prendere quell'inondazione di lava la pendenza generale del suolo si abbassava dal monte Franklin alla costa est e c'era quindi da temere che nonostante i fitti boschi dello Jacamar il torrente si propagasse sino all'altipiano di Bella Vista il lago ci proteggerà disse Gideon Spilett lo spero rispose Cyrus Smith e fu tutta la sua risposta i coloni avrebbero voluto avanzare sino alla pianura su cui si era abbattuto il cono superiore del monte Franklin ma la lava sbarrava loro il passaggio essa seguiva da una parte la vallata del Creek Rosso e dall'altra la vallata del fiume della Cascata facendo evaporare questi due corsi d'acqua sul suo passaggio non c'era alcuna possibilità di attraversare quel torrente infocato bisognava invece inditreggiare davanti a esso il vulcano senza il cono non era più riconoscibile terminava ormai con una specie di tabula rasa che aveva preso il posto dell'antico cratere per due brecce nel suo orlo sui fianchi sud ed est traboccava continuamente lava che formava così due torrenti distinti sopra il nuovo cratere una nube di fumo e di ceneri si confondeva con i vapori del cielo ammassati sull'isola tremendi scoppi di tuono si propagavano e si confondevano con i boati dalla montagna dalla cui bocca sfuggivano rocce ignee che lanciate a più di mille piedi esplodevano nella nube disperdendosi poi come mitraglia il cielo rispondeva con lampeggiamenti all'eruzione vulcanica verso le sette del mattino i coloni rifugiatisi al confine del bosco dello Giacamarra non potevano più tenere la posizione non solo i proiettili cominciavano a piovere loro attorno ma la lava straripando dal letto del cricrosso minacciava di tagliare la strada del recinto le prime file d'alberi presero fuoco e la loro linfa subitamente trasformata in vapore li fece esplodere come mortaretti mentre altri meno umidi rimanevano intatti in mezzo all'inondazione i coloni avevano ripreso la via del recinto procedevano lentamente a ritroso per così dire ma a causa dell'inclinazione del suolo il torrente avanzava rapidamente verso est e appena alcuni strati di lava si erano solidificati altre distese ribollenti sopraggiungevano tosto a ricoprirli intanto la principale corrente della vallata del cricrosso diventava sempre più minacciosa tutta quella parte della foresta era incendiata ed enormi spire di fumo volteggiavano al di sopra degli alberi ai cui piedi crepitava già la lava i coloni si fermarono presso il lago a circa mezzo miglio dalla foce del cricrosso una questione di vita o di morte stava decidendosi per loro Cyrus Smith avvezzo a guardare in faccia le situazioni gravi e sapendo di rivolgersi a uomini capaci di ascoltare la verità qualunque essa fosse disse allora o il lago resterà la corrente e in questo caso una parte dell'isola sarà preservata dalla completa devastazione o la corrente invaderà le foreste del far west e allora non un albero non una pianta rimarrà alla superficie del suolo non avremo allora su queste rocce denudate altra prospettiva che la morte che per l'esplosione dell'isola non si farà molto aspettare allora esclamò Pencroff incrociando le braccia e battendo il piede a terra è inutile lavorare al bastimento vi pare Pencroff rispose Cyrus Smith bisogna fare il proprio dovere fino all'ultimo in quel mentre il fiume di lava dopo essersi aperto un passaggio attraverso i begli alberi che divorava arrivò al limite del lago là esisteva un certo rialzo del suolo che se fosse stato di maggiori proporzioni sarebbe bastato a contenere il torre all'opera gridò Cyrus Smith il pensiero dell'ingegnere fu immediatamente compreso bisognava arginare quel torrente e obbligarlo così a scaricarsi nel lago i coloni corsero al cantiere ne ritornarono con delle vanghe delle zappe delle scuri e a furia di terra accumulate da alberi abbattuti essi riuscirono a elevare in alcune ore una diga alta a tre piedi e lunga alcune centinaia di passi quando ebbero finito parve loro di aver lavorato appena pochi minuti era tempo le materie liquefatte raggiunsero quasi subito la parte inferiore dello spalto il fiume lavico si gonfiò come un corso d'acqua in piena che cerchi di straripare e minacciò di superare il solo ostacolo che potesse impedirgli di invadere tutto il far west ma la diga riuscì a contenerlo e dopo un minuto di esitazione che fu terribile si precipitò nel lago Grant con una cascata alta a venti piedi i coloni ansanti senza fare un gesto senza pronunciare parola guardarono allora quella lotta dei due elementi quale spettacolo quel combattimento fra l'acqua e il fuoco quale penna potrebbe descrivere questa scena di orrore meraviglioso e quale pennello potrebbe dipingerla l'acqua si bilava evaporandosi al contatto della lava ardente i vapori proiettati nell'aria turbinavano un'altezza incommensurabile come se le valvole di un'immensa caldaia fossero state aperte improvvisamente ma per quanto considerevole fosse la massa d'acqua contenuta nel lago doveva pur finire per evaporare tutta già che non si rinnovava mentre il torrente lavico alimentandosi a una fonte inesauribile riversava incessantemente nuovi fiotti di materie incandescenti la prima lava che cadde nel lago si solidificò immediatamente e si accumulò in modo da emergere molto presto sulla sua superficie scese poi altra lava che si fece pietra a sua volta ma avanzando verso il centro del lago una diga si formò che minacciò di colmare il lago il quale non poteva traboccare perché l'eccedenza delle acque si dissipava in vapore sibili e crepitigli laceravano l'aria con rumore assordante e i vapori umidi trascinati dal vento ricadevano in pioggia sul mare la diga si allungava e i blocchi di lava solidificata s'ammucchiavano gli uni sugli altri là dove si stendevano un tempo le acque tranquille appariva ora un enorme cumulo di macigni fumanti come se un sollevamento del suolo avesse fatto emergere migliaia di scogli si pensi ad acque sconvolte durante un uragano poi improvvisamente solidificate da una temperatura di 20 gradi sotto zero e si avrà l'aspetto del lago tre ore dopo che l'irresistibile torrente vi ebbe fatto eruzione stavolta l'acqua sarebbe stata inevitabilmente vinta dal fuoco non di meno fu per i coloni una favorevole circostanza che l'invasione lavica avesse potuto essere diretta verso il lago Grant avevano così davanti a loro alcuni giorni di respiro l'altipiano di Bella Vista Granite House e il cantiere erano momentaneamente preservati ora questi pochi giorni bisognava usarli per finire il fasciame della nave e per calata farla con cura poi l'avrebbero varata e vi si sarebbero rifugiati salvo ad attrezzarla dopo quando fosse nel suo elemento con il timore dell'esplosione che minacciava di distruggere l'isola non vi era più nessuna sicurezza a terra l'asilo costituito da Granite House così sicuro fino allora poteva a ogni momento richiudere le sue pareti di granito durante i sei giorni che seguirono dal 25 al 30 gennaio i coloni lavorarono al bastimento come venti uomini prendevano appena qualche riposo e il chiarore delle fiamme che scaturivano dal cratere permetteva loro di lavorare notte e giorno l'eruzione continuava sempre ma forse un po' meno abbondantemente e fu gran ventura giacché il lago Grant era quasi interamente colmo e se nuova lava fosse discesa per sovrapporsi alla precedente avrebbe inevitabilmente invaso l'altipiano di Bella Vista e dopo questo la spiaggia ma se da quel lato l'isola era in parte protetta non lo era ugualmente dalla parte occidentale infatti la seconda corrente di lava che aveva seguito la ballata del fiume della cascata ballata ampia i cui terreni si abbassavano da ciascun lato del creek non poteva trovare alcun ostacolo il liquido incandescente sarà dunque propagato nella foresta del far west in quella stagione dell'anno le piante erano state essiccate da un calore torrido e la foresta prese quindi fuoco con si fulmine rapidità che l'incendio si propagò un tempo alla base dei tronchi e ai rami il cui intreccio favoriva i progressi del fuoco sembrava persino che la corrente di fiamme alla cima degli alberi si scatenasse più velocemente che la corrente di lava ai loro piedi accadda allora che gli animali le belve le altre bestie giaguari cinghiali capivara la selvaggina di pelo e di piuma pazzi di terrore si rifugiarono dalla parte del mercy e nella palude delle tadorne al di là della strada di porto pallone ma i coloni erano troppo occupati nel loro lavoro per fare attenzione anche ai più temibili fra questi animali avevano d'altronde abbandonato granite house e non avevano nemmeno voluto cercare ricovero ai camini si erano accampati sotto una tenda presso la foce del mercy ogni giorno Cyrus Smith e Gidon Spilett salivano all'altipiano di bella vista Herbert qualche volta li accompagnava ma Pencroff mai che egli non voleva veder l'isola sotto il suo nuovo aspetto e così miseramente devastata era infatti uno spettacolo desolante tutta la parte boschiva dell'isola era ormai denudata un solo gruppo d'alberi verdi si rizzava ancora all'estremità della penisola serpentine qua e là si scorgevano grossi ceppi sfrondati e anneriti l'area delle foreste distrutte era più arida che la palude delle tadorne l'invasione da parte della lava era stata completa dove prosperava un tempo tutto quel verde il suolo non era ormai che un selvaggio accumulo di tuffi vulcanici le vallate del fiume della cascata e del mercy non avevano più una sola goccia d'acqua e i coloni non avrebbero avuto alcun mezzo di dissetarsi se il lago Grant fosse stato interamente prosciugato ma fortunatamente la punta sud di esso era stata risparmiata e formava una specie di stagno contenente tutto quanto rimaneva di acqua potabile nell'isola verso nord est si delineavano in aspre vive creste i contrafforti del vulcano che sembrava un gigantesco artiglio affondato nel suolo che spettacolo doloroso che spaventoso aspetto e quale dolore per quei poveri coloni che da un dominio fertile coperto di foreste irrigato da corsi d'acqua ricco di raccolti si trovavano di colpo trasportati su una roccia devastata la quale se non fosse stato per le loro riserve non avrebbe loro dato nemmeno da vivere tutto questo spezza il cuore disse un giorno Gideon Spilett si Spilett rispose l'ingegnere il cielo ci dia il tempo di finire questo bastimento ormai nostro solo rifugio non vi pare Cyrus che il vulcano sembra volersi calmare erutta ancora della lava ma meno abbondantemente se non mi inganno poco importa rispose Cyrus Smith il fuoco è sempre ardente nelle viscere della montagna e il mare può precipitarvisi da un momento all'altro noi siamo nella situazione di passeggeri su una nave divorata da un incendio che essi non possono estinguere e che sanno che questo presto tardi raggiungerà la cala delle polveri venite Spilett venite e non perdiamo un'ora per otto giorni ancora vale a dire sino al 7 febbraio la lava continuò a scorrere ma l'eruzione si mantenne nei limiti indicati Cyrus Smith temeva soprattutto che le materie liquefatte andassero a riversarsi sulla spiaggia nel qual caso il cantiere non sarebbe stato risparmiato inoltre i coloni cominciarono a sentire che l'isola aveva delle vibrazioni e ne furono inquietissimi era il 20 febbraio occorreva ancora un mese prima che il bastimento fosse in grado di prendere il mare l'isola avrebbe resistito fino allora l'intenzione di Pencroff e di Cyrus Smith era di procedere al varo della nave appena lo scafo fosse stato sufficientemente stagno il ponte le soprastrutture l'allestimento interno e l'attrezzatura sarebbero stati fatti dopo ma l'essenziale era che i coloni avessero un rifugio assicurato fuori dell'isola forse anche sarebbe stato bene condurre la nave a porto pallone cioè più lontano che era possibile dal centro eruttivo giacché alla foce del Mersi fra l'isolotto e la muraglia di Granito correva rischio di essere schiacciata nel caso di una dislocazione geologica dell'isola tutti gli sforzi dei lavoratori mirarono dunque al compimento dello scafo arrivarono così al 3 marzo e poterono allora calcolare che l'operazione del varo sarebbe stata possibile entro una decina di giorni la speranza rifiorina il cuore dei coloni tanto provati durante quel quarto anno del loro soggiorno all'isola di Lincoln Pencroff stesso parve uscire dal cupomutismo in cui l'aveva piombato la rovina e la devastazione del suo dominio ormai egli non pensava che a quel bastimento su cui si concentravano tutte le sue speranze lo finiremo diceva l'ingegnere lo finiremo signor Cyrus ed è tempo perché la stagione si avanza e presto saremo in pieno equinozio se occorre si farà sosta all'isola di Tabor per passarvi l'inverno ma l'isola di Tabor dopo l'isola di Lincoln ah che sciagura non avrei mai creduto di vedere una cosa simile affrettiamoci rispondeva invariabilmente l'ingegnere e tutti lavoravano senza perdere un minuto padrone chiese Nab alcuni giorni dopo credete voi che se il capitano Nemo fosse ancora vivo tutto questo sarebbe accaduto ugualmente si Nab rispose Cyrus Smith ebbene io non lo credo mormorò Pencroff all'orecchio di Nab neanche io rispose seriamente Nab durante la prima settimana di marzo il monte Franklin ridivenne minaccioso migliaia di vetri filiformi di lava fluida caddero come pioggia sul suolo il cratere sempì di nuovo di lava che si sparse su tutte le pendici del vulcano il torrente di lava corse alla superficie dei tufi induriti e finì di distruggere i pochi scheletri d'alberi che avevano resistito alla prima eruzione quella corrente seguendo questa volta la riva sud ovest del lago Grant superò il click gricerina e invase l'altipiano di bella vista quest'ultimo colpo che si abbatteva sull'opera dei coloni fu terribile del mulino delle costruzioni del cortile rustico delle stalle non rimase più nulla i volatili spaventati fuggirono in tutte le direzioni Top e Jupe davano segni del più grande scomento il loro istinto gli avvertiva che una catastrofe era prossima molti animali dell'isola erano periti durante la prima eruzione quelli che erano sopravvissuti non trovarono altro rifugio che la palude delle Tadorne salvo alcuni cui l'altipiano di bella vista offrì ancora asilo ma anche quest'ultimo ricovero fu loro alla fine precluso e il fiume di lava scavalcando la cresta della muraglia granitica cominciò a precipitare sulla spiaggia le sue cataratte di fuoco il sublime orrore di quello spettacolo sfugge a ogni descrizione durante la notte si sarebbe detto un miagara di metallo fuso con i vapori incandescenti in alto e le masse ribollenti in basso i coloni erano cacciati a viva forza anche dal loro ultimo trinceramento e benché i commenti superiori del bastimento non fossero ancora calafatati risolsero di vararlo ugualmente Pencroff e Ayrton procedettero ai preparativi del varo che doveva aver luogo l'indomani nella mattinata cioè del 9 marzo ma durante la notte dall'8 al 9 un'enorme colonna di vapori uscendo dal cratere si elevò fra detonazioni spaventevoli a più di 3.000 piedi di altezza la parete della cripta Dakar aveva evidentemente ceduto sotto la pressione dei gas e il mare precipitandosi per il camino centrale nell'abisso ignovomo vaporò immediatamente ma il cratere non poté dare uno sfogo sufficiente da quei vapori un'esplosione che si sarebbe udita a 100 miglia di distanza sconvolse gli strati dell'aria interi pezzi di montagna caddero nel pacifico e in pochi istanti l'oceano ricoperse l'area ov'era stata l'isola di Lincoln capitolo 20 uno scoglio isolato lungo 30 piedi largo 15 emergente di 10 appena tale era il solo punto solido che i flutti del pacifico non avessero inghiottito era tutto quello che restava del massiccio di granite e aus la muraglia era stata rovesciata poi aveva subito uno smembramento e alcune rocce del salone si erano ammonticchiate in modo da formare quel punto culminante tutto era scomparso nell'abisso circostante il cono inferiore del monte Franklin squarciato dall'esplosione le mascelle laviche del golfo del pescecane l'altipiano di bella vista l'isolotto della salvezza i graniti di porto pallone i basalti della cripta Dakkar la lunga penisola serpentine pursi lontana dal centro eruttivo dell'isola di Lincoln non si vedeva più che quello stretto scoglio che serviva di rifugio ai sei coloni e al loro cane top gli animali erano tutti periti nella catastrofe anche gli uccelli come gli altri rappresentanti della fauna dell'isola tutti schiacciati o annegati e lo sfortunato Jupp pure aveva ahimè trovato la morte in qualche crepaccio del suolo se Cyrus Smith Gideon Spilett Herbert Pencroff Nab e Ayrton erano sopravvissuti era stato perché riuniti al momento della catastrofe sotto la loro tenda erano stati precipitati in mare nell'istante in cui le macerie dell'isola piovevano da tutte le parti quando ritornarono alla superficie non videro che quell'ammasso di rocce alla distanza di una mezza gomena e verso di essi nuotarono approdandovi e da nove giorni vivevano su quel nudo macigno poche provviste prelevate prima della catastrofe dal magazzino di granite house un po' d'acqua dolce che la pioggia aveva versata in una cavità della roccia era tutto ciò che gli sventurati possedevano la loro ultima speranza la loro nave era stata distrutta non avevano nessun mezzo per abbandonare quello scoglio niente fuoco né di che farne erano destinati a perire quel giorno 18 marzo non rimaneva loro nutrimento che per due giornate benché avessero consumato solo lo stretto necessario tutto il loro sapere tutta la loro intelligenza a nulla potevano giovare in quella situazione erano unicamente nelle mani di dio Cyrus Smith era calmo Gideon Spilett più nervoso e Pencroff in preda a una sorda collera andavano e venivano sullo scoglio Herbert non si staccava dell'ingegnere e lo guardava come per chiedergli un soccorso che questi non era purtroppo in grado di dargli Nab e Ayrton erano rassegnati alla loro sorte ah miseria miseria ripeteva spesso Pencroff se avessimo sia pure un guscio di noce che ci conducesse all'isola di Tabor ma niente niente il capitano Nemo ha fatto bene a morire disse una volta Nab durante i cinque giorni successivi Cyrus Smith e i suoi sfortunati compagni vissero con la massima parsimonia maggiando appena quel che occorreva per non morire di fame il loro indebolimento era estremo Herbert e Nab cominciarono a dar segni di delirio in questa situazione potevano conservare una sola ombra di speranza no qual era la sola probabilità che rimaneva loro ancora che una nave passasse in vista dello scoglio ma sapevano bene per esperienza che i bastimenti non transitavano mai per quella parte del pacifico potevano contare che per una coincidenza veramente provvidenziale lo yacht scozzese venisse proprio allora a cercare Ayrton all'isola di Tabor era improbabile e d'altra parte pur ammettendo che venisse siccome i coloni non avevano potuto depositare all'isola di Tabor uno scritto indicante i cambiamenti sopravvenuti nella situazione di Ayrton il comandante dello yacht dopo aver frugato l'isolotto senza risultato avrebbe ripreso il mare tornando verso latitudini più basse no essi non potevano avere alcuna speranza ad essere salvati e una morte orribile la morte per fame e per sete li attendeva su quello scoglio e già erano distesi sulla roccia inanimati non avendo più coscienza di quanto accadeva loro intorno Ayrton solo con uno sforzo supremo rialzava ancora il capo di tratto in tratto e gettava uno sguardo disperato su quel mare deserto ma ecco che nella mattina del 24 marzo le braccia di Ayrton si tesero verso un punto dello spazio egli si mise prima in ginocchio poi in piedi la sua mano sembra fare un segnale una nave era in vista dell'isola quella nave non batteva il mare all'avventura lo scoglio occupato dai coloni era la meta verso la quale aveva messo la prora con tutta la forza delle sue macchine e gli sventurati le avrebbero scorta già molte ore prima se avessero avuto ancora forza ad osservare l'orizzonte il Duncan mormorò Ayrton e ricadde svenuto quando Cyrus Smith e i suoi compagni ebbero ripreso i sensi grazie alle cure loro prodigate si ritrovarono nella cabina di un piroscafo senza poter comprendere come erano sfuggiti alla morte una parola di Ayrton bastò illuminarli il Duncan mormorò egli il Duncan fece ecco Cyrus Smith e alzando le braccia al cielo esclamò ah Dio Onnipotente tu hai dunque voluto che fossimo salvati il Duncan infatti lo yacht di Lord Glenarvan allora comandato da Robert il figlio del capitano Grant era stato spedito all'isola di Tabor per cercarvi Ayrton e rimpatriarlo dopo dodici anni di espiazione i coloni erano salvi erano già sulla via del ritorno capitano Robert domandò Cyrus Smith chi ha potuto suggerirvi l'idea dopo aver lasciato l'isola di Tabor dove non avete più trovato Ayrton di fare rotta a nord est per cento miglia signor Smith rispose Robert Grant è stato per venire a cercare non solamente Ayrton ma voi e i vostri compagni me e i miei compagni certamente all'isola di Lincoln l'isola di Lincoln esclamarono a una voce Gideon Spilett Albert Nabbe Pencroff al colmo dello stupore come conoscete l'isola di Lincoln domandò Cyrus Smith se quest'isola non è nemmeno indicata sulle carte l'ho conosciuta per mezzo dello scritto che avete lasciato all'isola di Tabor rispose Robert Grant uno scritto esclamò Gideon Spilett certo ed eccolo rispose Robert Grant presentando un documento che indicava in longitudine e in latitudine la posizione dell'isola di Lincoln residenza attuale di Ayrton e di cinque coloni americani il capitano Nemo disse Cyrus Smith dopo aver letto lo scritto e riconosciuto che era della stessa mano che aveva vergato il documento trovato al recinto disse Pencroff era stato lui dunque che aveva preso il nostro buon adventure lui che sarà rischiato solo fino all'isola di Tabor per depositarvi questo foglio rispose Herbert avevo proprio ragione di dire che anche dopo mordo il capitano ci avrebbe reso un ultimo servigio amici disse Cyrus Smith con voce profondamente commossa che il dio di tutte le misericordie riceva l'animo del capitano Nemo nostro salvatore i coloni a quest'ultima frase di Cyrus Smith si erano scoperti mormorando il nome del capitano in quel momento Ayrton avvicinandosi all'ingegnere gli disse semplicemente dove bisogna depositare questo cofanetto era il cofanetto che Ayrton aveva salvato con pericolo della propria vita nel momento in cui l'isola si innabbissava e che fedelmente rimetteva ora nelle mani dell'ingegnere Ayrton Ayrton disse Cyrus Smith con profonda emozione poi rivolgendosi a Robert Grant signore soggiunse dove avete lasciato un colpevole ritrovate un uomo che l'espiazione ha rifatto onesto e al quale sono fiero di porgere la mano Robert Grant fu allora messo al corrente della strana storia del capitano Nemo e dei coloni dell'isola di Lincoln poi fatto il rilevamento di quel che rimaneva di quello scoglio che doveva dall'ora in poi figurare sulle carte del pacifico diede l'ordine di virare di bordo 15 giorni dopo i coloni sbarcavano in America e ritrovavano la loro patria pacificata dopo la terribile guerra che aveva portato al trionfo della giustizia e del diritto delle ricchezze contenute nel cofanetto lasciato in eredità dal capitano Nemo ai coloni dell'isola di Lincoln la massima parte fu impiegata nell'acquisto di un vasto dominio nello stato dell'Iowa una sola perla la più bella fu tolta da quel tesoro e inviata a Lady Glenarvan a nome dei naufraghi rimpatriati dal Duncan e là su quel possedimento i coloni chiamarono al lavoro vale a dire alla fortuna e alla felicità tutti coloro che avevano desiderato di offrire l'ospitalità dell'isola di Lincoln e vi fu fondata una vasta colonia alla quale diedero il nome dell'isola scomparsa nella profondità del pacifico vera un fiume e fu chiamato Mercy una montagna che prese il nome di Franklin un laghetto che fu il Grant delle foreste che divennero le foreste del Far West era come un'isola in terraferma là sotto la guida intelligente dell'ingegnere e dei suoi compagni tutto prosperò non uno degli antichi coloni dell'isola di Lincoln mancava perché avevano giurato di vivere sempre insieme Nab là dove era il suo padrone a Ayrton pronto a sacrificarsi in ogni occasione Pencroff più agricoltore di quanto fosse mai stato marinaio Herbert che perfezionò i suoi studi sotto la guida di Cyrus Smith e Gideon Spilett anche lui che fondò il New Lincoln Herald il quale fu il giornale meglio informato del mondo intero là Cyrus Smith e i suoi compagni ricevettero parecchie volte la visita di Lord e di Lady Glenarvan del capitano John Mangles e di sua moglie sorella di Robert Grant di tutti coloro che erano stati protagonisti nella doppia storia del capitano Grant e del capitano Nemo là insomma tutti furono felici uniti nel presente come erano stati uniti nel passato ma non dimenticarono mai l'isola sulla quale erano arrivati poveri e nudi l'isola che durante quattro anni era bastata tutte le loro necessità e di cui non rimaneva ormai che un masso di granito battuto dalle onde del pacifico tomba di colui che era stato il capitano Nemo fine la locanda della tormenta è stata lieta di presentarvi l'isola misteriosa di Jules Verne grazie per l'ascolto grazie per l'ascolto